da te sia l'inizio febo a che io ricordi la gesta degli eroi antichi che attraverso le bocche del ponto e le rupicianee eseguendo i comandi di pelia guidarono al vello d'oro argo la solida nave il re pelia aveva appreso un oracolo che l'aspettava una sorte atroce in futuro chi tra i suoi sudditi avesse visto venire calzato di un solo sandalo quello con le sue trame gli avrebbe dato la morte non solo tempo dopo secondo il tuo oracolo giasone mentre guadava d'inverno la nauro trassa in salvo dal fango un sandalo solo e l'altro lo lasciò in fondo all'acqua presto giunse da pelia per prendere parte al banchetto che il re celebrava in onore di posidone suo padre e degli altri dei ma di era pelasga non ebbe pensiero appena vide giasone capì e pensò per lui la fatica ad un duro e lungo viaggio sperando che in mare o tra gente straniere perdesse la via del ritorno come argo costruì la sua nave con il consiglio di atena cantano i poeti di un tempo io voglio invece qui dire la stirpe degli eroi ed il nome e i lunghi viaggi per mare e tutte quante le imprese che essi compirono nel loro errare siano le muse ministre del canto primo fra tutti ricorderemo orfeo che un tempo calliope unita al trace e agro secondo quanto si dice partorì presso il monte pimpleo narrano che egli ammaliasse col suono dei canti le dure rocce dei monti e le correnti dei fiumi quel canto ancora oggi lo attestano le querce selvagge che sulla costa di zone in traccia fioriscono disposte per file serrate in ordine sono le querce che con l'incanto della sua cetra il poeta fece muovere e scendere giù dalla pieria tale era orfeo il sovrano della pieria bistonide che il figlio di esone chiamò in aiuto all'impresa obbedendo ai consigli del centauro chirone subito accorse a sterione a cui diede la vita comete abitava presso le acque del vorticoso apidano apiresia nei pressi del monte fileo là dove venendo da molto lontano si incontrano e uniscono insieme il grande apidano e l'epineo venne dopo di loro dalla risa il figlio di elato polifemo che quando era più giovane aveva lottato assieme ai forti lapiti al tempo che i lapiti erano in guerra contro i centauri gli si appesantivano già le membra ma gli restava un cuore guerriero come in passato né molto tempo rimase a filace lo zio materno di giasone i filco esone infatti aveva sposato sua sorella al cimene figlia di filaco e la parentela lo spinse a unirsi anche lui alla schiera d'eroe e admeto signore di fere ricca di greggi neppure rimase colà ai piedi del calcodonio non rimasero ad alope i ricchissimi figli di ermes erito ed ecchione abili esperti d'inganni e terzo con loro quando erano pronti a partire s'aggiunse l'altro fratello et alide a lui diede la vita presso l'anfrisso e upole mea di ftiotide figlia di mirmidone agli altri antianila figlia di menete e venne lasciando la ricca girtone corono figlio di ceneo un prode guerriero ma non migliore del padre cantano infatti i poeti che ceneo restando pur vivo perì di fronte ai centauri quando solo e senza compagni li mise in fuga e quelli tornarono alla riscossa ma non passarono non ebbero forza ad ucciderlo né di piegarlo fermo indomabile scese in seno alla terra violentemente percosso da pini robusti e venne anche mopso di taresio che più di tutti gli altri il figlio di leto istruì nella scienza di trarre presagi venne euridamante figlio di ctimeno il quale abitava ctimene città dei dolopi presso il lago siniade attore poi mandò da opunte il figlio menezio perché partisse in compagnia dei nobili eroi seguirono eurizione e il possente eribote figlio di teleonte l'uno e l'altro di iro figlio di attore di teleonte era figlio il glorioso eribote eurizione iro e terzo venne con loro oileo che fra tutti spiccava per il suo coraggio esperto nell'inseguire i nemici dopo averne spezzato le file e dall'eubea venne canto che caneto figlio di abante mandò compiacendo il suo desiderio ma non doveva più tornare indietro a cerinto perché il suo destino suo ed imopso l'eroe esperto dei vaticini fu di ricevere morte errando in terra di libia nessuna sventura è così remota dagli uomini che non l'incontrino furono entrambi sepolti in libia che è tanto lontana dal regno di colchide quanto vediamo lontani l'oriente e il tramonto si unirono a lui clizio e ifito signori di ecalia figli del terribile eurito al quale appollo settante donò l'arco ma quello non trasse profitto dal dono perché anzi di sua volontà osò sfidare il dio donatore e vennero anche i figli di eaco ma non insieme e non dallo stesso luogo fuggiti lontano da egina cioè che per errore uccisero il loro fratello foco telamone abitava nell'isola di salamina peleo aveva posto lontano la sua casa nella fertile eftia e venne anche dalla cecropia il fortissimo bute figlio del prode teleonte e il valoroso falero questi lo mandò il padre alcone e non aveva altri figli che gli portassero aiuto nella vecchiaia ma lo mandò tuttavia l'unico figlio di letto perché acquistasse gloria in mezzo agli eroi arditi ma teseo che era il più grande fra tutti i figli di eretteo una catena invisibile lo tratteneva sotto la terra del tenaro poiché aveva seguito per un'inutile strada pirito entrambi avrebbero reso più facile a tutti l'impresa tifi figlio di agnia lasciò la terra tespia di sife era abilissimo nel sapere già prima i flutti del vasto mare abilissimo nel sapere le tempeste di vento nel guidare la rotta guardando al sole e alle stelle la dea tritonide stessa atena lo mandò in mezzo alla schiera degli eroi e il suo arrivo soddisfece le loro speranze fu lei stessa infatti a costruire la nave e insieme seguendo i suoi ordini il figlio di arestore argo perciò fu la nave migliore fra tutte quante affrontarono la prova del mare spinte a forza di reni dopo di loro venne fliante dalla città di aretira dove viveva in ricchezza grazie a dioniso suo padre e aveva la sua casa vicino alle sorgenti del fiume asopo vennero poi da argo taleo e da reo i due figli di biante e il forte leodoco a loro dia della vita pero figlia di neleo per cui sofferse gravi fatiche il nipote di eolo melampo nelle stalle di filco non possiamo dire che il cuore magnanimo e forte di eracle abbia deluso il desiderio di giasone quando ebbe notizia dell'adunanza di eroi era tornato allora ad argo lincea dall'arcadia portando con sé vivo il cinghiale che pascolava per le valli di lampea presso la grande palude rimanzia entrò appena nella piazza della città di micene che lo scaricò incatenato dalle sue spalle possenti e per sua scelta contro il volere di euristeo si mise in cammino andava in sua compagnia il giovinetto ila il suo valoroso scudiero portava le frecce e custodiva il suo arco dopo di lui venne nauplio discendente del nobile danau era figlio di clitoneo che era figlio di naubolo e naubolo a sua volta di lerno e lerno sappiamo che era figlio di preto e preto di nauplio a mimone la giovane figlia di danau si unì al dio del mare e partorì nauplio navigante fra tutti il più abile fu ultimo idmone tra quanti abitavano argo e venne pure sapendo dagli uccelli il proprio destino per non perdere nulla della sua fama gloriosa tra il popolo non era veramente il figlio di abante lo generò tra gli illustri nipoti di eulo a pollo e gli insegnò i vaticini a osservare gli uccelli e i segni che danno le vittime arse sul fuoco le tolli dell'eda mandò da sparta il valoroso polluce e castore esperto di cavalli dai piedi veloci li generò in una doglia sola dentro la casa di tindaro e li ebbe carissimi e non rimase sorda alle loro preghiere pensava a un destino degno dell'amore che ebbe con zeus i figli di afareo il tracotante ida e linceo giunsero dalla terra di arena entrambi superbi del loro immenso vigore ma linceo si distingueva per la vista acutissima se si può prestar fede alla fama che egli vedeva facilmente nel seno della terra con loro si mise anche in cammino per i climeno figlio di neleo il più anziano dei figli che nacque a pilo da neleo il dio posidone gli diede una forza infinita e il potere di mutarsi in ciò che voleva nella stretta della battaglia e dall'arcadia vennero anfimadante e cefeo che abitavano tegea e di possessi di affidante figlio di aleo un terzo eroe li seguiva anceo lo mandò insieme ai due il padre di curgo che era il loro fratello più anziano lui stesso rimase in città ad assistere a leo che invecchiava ma mandò il figlio assieme ai suoi due fratelli ed anceo venne vestito della pelle di un orsa di menalo e nella destra brandiva una scure grandissima a doppio taglio le sue armi le aveva nascoste il nonno a leo in fondo al granaio semmai poteva impedire anche a lui la partenza e venne augia che la fama diceva figlio del sole regnava sugli elei orgoglioso della sua ricchezza ma forte era il desiderio di vedere la terra dei colchi ed eeta in persona eeta il signore dei colchi e asterio e anfione i due figli di perasio vennero da pellene da caia che pelle il loro avo aveva fondato un tempo sui cigli di egialo giunse dopo di loro lasciando il tenaro e ufemo il più veloce di tutti che partoria posidone europa la figlia del fortissimo tizio quest'uomo correva anche sopra le onde azzurre del mare e non immergeva i rapidi piedi bagnava soltanto la punta e da sé lo portava la liquida via vennero altri due figli del dio posidone ergino dalla città dell'illustre mileto l'altro il superbo anceo da partenia la sede di eria in brasia sia l'uno che l'altro vantavano ad essere esperti di navigazione e di guerra anche il figlio di eneo si mosse da calidone e raggiunse gli eroi il forte meleagro e con lui lauconte lauconte fratello di eneo per parte di padre ma una schiava lo diede alla luce era già vecchio ed eneo lo mandò precettore del figlio così ancora ragazzo meleagro entrò nella cerchia ardita degli eroi e nessuno io credo più prode di lui sarebbe venuto ad eccezione di eracle se solo un anno ancora fosse cresciuto in mezzo agli etoli lo zio materno lo accompagnò per la stessa strada ificlo figlio di testio esperto nel giovellotto ed altrettanto esperto nella mischia da presso venne con lui palemonio figlio di lerno olenio figlio di lerno di nome ma generato da efesto storpio perciò nei piedi nessuno però avrebbe osato disprezzarne la forza e il coraggio pertanto lui pure fu accolto tra tutti gli eroi accrescendo la gloria di giasone dalla focide venne ifito figlio di naubolo figlio di ornito un tempo giasone era stato suo ospite quando andò apito a consultare l'oracolo sul viaggio e ifito allora lo accolse nelle sue case giunsero poi zete e calais i due figli di borea che partoria borea un tempo erettide orizia ai remoti confini della gelida traccia qui l'aveva portata il tracce borea strappando la via dalla terra di cecrope dove vicino all'ilisso compiva volute di danza la portò via di là e nel luogo che chiamano roccia di sarpedonte vicino alle correnti del fiume ergino la possedette avvolta tutta da nuvole oscure levandosi entrambi scuotevano alle tempie e dai piedi dall'una parte e dall'altra grande stupore a vedersi ali nere lucenti di scaglie dorate e sul dorso dalla cima del capo e da ambo i lati del collo s'agitavano ai soffi del vento le nere splendide chiome non vole restare nella casa del padre neppure a casto figlio del repelia né argo operaio di atena ma l'uno e l'altro andarono a unirsi allo stuolo d'eroi tanti compagni si radunarono dunque attorno al figlio di esone i popoli accanto chiamarono tutti gli eroi col nome di mini giacché la più parte di loro e migliori vantavano d'essere nati dalle figlie di minia e lo stesso giasone era figlio di alcimede figlia di climene che era figlia di minia ma appena i servi ebbero disposto ogni cosa tutto ciò che si suole apprestare dentro una nave equipaggiata a remi quando il bisogno spinge gli uomini a navigare per mare andarono per la città alla nave là dove la costa prende il nome di pagase di magnesia intorno la folla accompagnava il loro slancio correndo ed essi spiccavano proprio così come spiccano gli astri lucenti brillando in mezzo alle nuvole e ciascuno diceva vedendo marciare gli uomini in armi zeus signore qual è il pensiero di pelia dove spedisce fuori di tutta la grecia un tale stuolo d'eroi questi il giorno stesso darebbero fuoco alle case di eta se non consegna loro di sua volontà il vello d'oro ma inevitabile il viaggio e dura la loro fatica così si diceva per ogni dove in città ma le donne levavano spesso al cielo le mani verso gli dèi che concedessero loro il ritorno sperato e l'una con l'altra gemeva versando lacrime infelice alcimede anche a te pur tardi è venuto il dolore e non hai potuto finire nella gioia la tua esistenza è sventurato anche esone meglio sarebbe stato per lui se già prima avvolto dentro un sudario giasesse sotterra e non sapesse di quell'orribile impresa o se anche frisso quando perì la giovane elle fosse stato inghiottito dalle onde oscure assieme al montone invece il terribile mostro emise una voce umana perché alcimede avesse dolori infiniti in futuro così dunque dicevano vedendo partire gli eroi già si adunavano in folla i servi e le serfe e la madre gli si gettava addosso e un acuto dolore prendeva ogni donna insieme con esse il padre tenuto a letto dall'odiosa vecchiaia coperto gemeva cercava l'eroe di addolcire i dolori di tutti e faceva loro coraggio e intanto ordinava ai suoi servi di portare le armi e le portarono cupi in silenzio ma la madre come ebbe gettato le braccia al collo del figlio così restava piangendo ancora più forte al modo di una fanciulla che abbraccia sola con affetto la vecchia nutrice e piange non ha più nessun altro che si prenda cura di lei ma sotto la matrigna conduce una vita penosa la pena coperta di duri rimproveri ed essa geme dentro il suo cuore incatenato all'angoscia e non può versare tante lacrime quante vorrebbe così forte piangeva il cimede tenendo il suo figlio tra le braccia e nell'affanno diceva queste parole oh se quel giorno quando ho sentito il re pelia ahimè infelice dare il funesto comando avessi subito reso l'estremo respiro e scordato le pene e tu figlio mio m'avessi sepolta con le tue mani care questo soltanto da te mi restava volere ogni altro compenso d'averti educato da tempo l'ho ricevuto ora io che ero ammirata in passato da tutte le achee come una schiava sarò abbandonata dentro le stanze vuote e mi struggerà infelice il ricordo di te grazie al quale avevo prima tanto splendore ed onore e per cui soltanto ho sciolto la mia cintura per la prima e per l'ultima volta già che la dea ilizia mi ha tolto di avere altri figli ahimè quale sventura è la mia neppure in sogno ho pensato che la fuga di frisso avrebbe portato a me tanto male così lamentava e gemeva e piangevano intorno le sue serve ma giasone le confortava rivolgendosi a lei con dolci parole e le disse madre mia non nutrire dentro di te un dolore eccessivo non puoi tu con le tue lacrime tenere il male lontano ma solo aggiungere ancora dolore sopra dolore i dei assegnano agli uomini imprevedibili pene e per quanto tu soffra nel cuore abbi coraggio sopporta il destino ed abbi fiducia nell'amicizia di atena e nei vaticini che febo ci ha dati propizi e nell'aiuto dei miei valorosi compagni rimani qui tranquilla in casa con le tue ancelle e non venire alla nave saresti un tristissimo augurio la mi faranno da scorta nel mio cammino i servi e gli amici disse e lasciò la sua casa e si misa in via quale s'avanza a pollo dal tempio fragrante per la sacra scala d'elo oppure per claro o per pito o nella vasta alicia presso le acque del fiume xanto così avanzava in mezzo alla folla e si levò un grido enorme l'incoraggiavano tutti ed ecco gli venne incontro la vecchia i fiade la sacerdotessa d'artemide e gli baciò la destra ma non poté dirgli parola tanto lo desiderava ma la calca correva in avanti rimase là da una parte vecchia com'era rimase indietro dai giovani e lui fu lontano lontano quando ebbe lasciato le vie ben tracciate della città giunse dalla spiaggia di pegase e qui i compagni lo accolsero aspettavano tutti insieme presso alla nave si fermò all'imboccatura del porto e davanti a lui si adunarono gli altri e allora scorsero a casto e insieme a lui argo scendere dalla città e grande fu il loro stupore vedendoli correre a loro contro il volere di pelia argo figlio di arrestore portava sulle spalle una nera pelle di toro che gli scendeva giù fino ai piedi l'altro un mantello bellissimo ci gli donò pelopea sua sorella però giasone non volle interrogare quei due su ogni punto ma invitò gli eroi a sedere in consiglio sopra le vele avvolte sull'albero disteso sedettero tutti quanti in file ordinate e giasone tenne loro un saggio discorso tutto ciò che occorre ad equipaggiare una nave è in ordine e pronto perché possiamo partire e dunque non tarderemo più a lungo il nostro viaggio purché soltanto soffino i venti propizi però amici miei poiché avremo comune il ritorno in terra di grecia e comune il cammino verso la casa dieta non abbiate ritegno a scegliere ora il migliore che sia nostro capo e si prenda cura di tutto e faccia con gli stranieri la guerra e la pace così disse e i giovani fissarono il loro sguardo sul grande eracle che stava seduto nel mezzo e con un grido solo gli chiesero di essere il capo ma lui dal posto dove sedeva stese la destra e disse che nessuno mi dia questo onore io non voglio accettarlo e a chiunque altro impedirei di levarsi in piedi a sua volta ma colui che ci ha qui radunati quello sia il nostro capo così disse con animo altero e tutti approvarono quello che eracle aveva ordinato si alzò lietamente il valoroso giasone e nell'attesa di tutti disse queste parole se voi affidate alle mie cure la gloria di questa impresa nulla più deve impedire la nostra partenza ora dunque rendiamo onore a febo coi sacrifici e prepariamo subito il pranzo ma finché giungano i servi che curano le mie stalle ai quali ho affidato l'incarico di portare qui poi scelti dalle mie mandrie mettiamo in mare la nave e dopo aver collocato gli attrezzi assegnate con un sorteggio i banchi dei rematori e sulla riva costruiamo intanto un altare in onore di apollo il dio che protegge gli imbarchi che mi ha promesso nei suoi vaticini di mostrarmi le strade del mare e di esserci guida se con sacrifici in suo onore daremo inizio alle nostre fatiche per il re pelia disse e si mise per primo al lavoro al suo comando gli altri si alzarono ed ammucchiarono le loro vesti sopra una roccia pulita che non toccano fonde del mare solo i flutti della tempesta l'hanno lavata da tempo poi per consiglio di argo per prima cosa legarono solidamente la nave dentro una fune intrecciata tesa da ambo le parti cosicché restassero ben commesse le travi inchiodate e potesse resistere all'assalto del mare subito poi scavarono il suolo per una lunghezza pari alla nave lungo tutto il percorso dalla prora al mare che doveva percorrere a forza di braccia procedendo scavavano sempre più nel profondo al di sotto della carena e nel canale disposero tronchi rotondi puliti e verso i primi inclinarono argo in avanti poiché scivolasse al di sopra di essi poi rivoltarono in alto i remi dall'una parte e dall'altra e li legarono agli scalmi lasciandone sporgere un cubito ad essi si disposero gli eroi in ordine d'ambo le parti e spingevano insieme con il petto e con le mani tifi salì per segnare il tempo ai compagni diede il via con un grido fortissimo e quelli puntando con tutte le forze che avevano smossero ad un solo colpo la nave e ancora facendo forza avanzarono li seguiva veloce argo peliaca e nello slancio da tutte e due le parti gridavano sotto la solida chiglia gemevano i tronchi complessi e attorno a loro per il gran peso si levava una nera fuliggine scivolò dentro il mare e gli eroi tirando indietro le cime impedirono che procedesse troppo oltre e aggiustarono i remi agli scalmi di qua e di là e disposero a bordo le vele ben costruite e l'albero e le provviste ma quando ebbero preparato tutto con ogni cura per prima cosa tirarono a sorte i banchi dei rematori due uomini per ogni banco ma quello di mezzo lo riservarono ad eracle e tra gli altri compagni ad anceo che abitava la rocca di tegea solo a loro senza sorteggio lasciarono il banco centrale poi tutti d'accordo affidarono a tifi l'incarico di reggere nelle sue mani il timone della solida nave poi raccolte le pietre in riva al mare elevarono sulla riva un altare ad apollo col nome di dio delle rive e degli imbarchi e subito stesero sopra rami secchi d'olivo in questo tempo i bovari incaricati da giasone portavano dalle sue mandrie due buoi i compagni più giovani li trascinarono presso l'altare ed altri apprestarono i chicchi d'orzo e l'acqua lustrale allora il figlio di esone pregò invocando a pollo il dio dei suoi padri ascolta signore che abiti pegase ed esonide città che porta il nome di mio padre quando ho consultato l'oracolo in pito tu mi hai promesso di dare guida e successo a questo viaggio perché tu stesso sei causa delle nostre fatiche tu dunque conduci alla meta la nave con i compagni in columi e poi al ritorno in terra di grecia più tardi per quanti di noi saranno tornati altrettante splendide offerte di tori porremo sopra il tuo altare ed altri doni infiniti ti porterò a pito ed altri in ortigia vieni signore dei dardi e accetta il sacrificio che prima di ogni altro ti offriamo per un imbarco felice fa che io sciolga le cime secondo il tuo volere e per un destino che non conosca il dolore e soffi un vento propizio così che possiamo tranquilli correre il mare disse e gettò i chicchi d'orzo poi eracle e il fortissimo anceo si accinsero a uccidere i buoi e il grande eracle colpì il primo nel mezzo del capo alla fronte con la sua clava e la bestia cadde per terra con tutto il suo peso anceo a sua volta percosse l'altro nel vasto collo con la sua scura di bronzo e gli recise robusti tendini cadde riverso su ambo le corna i compagni li sgozzarono e li scuoiarono in fretta li fecero a pezzi e tagliarono per consacrarle le cosce le avvolsero tutte insieme con abbondanza di grasso e le bruciarono sopra i tizzoni mentre il figlio di esone li bava vino pretto e idmone guardava con gioia splendere ovunque la fiamma dei sacrifici e il fumo slanciarsi in oscure volute segno d'augurio propizio e prontamente e con chiarezza spiegò il pensiero di Apollo vostro destino e volontà degli dè è che torniate qui con il vello ma prima all'andata e al ritorno avrete infinite fatiche a me una sorte crudele ha stabilito la morte in una terra molto lontana nell'asia e io che da funesti presagi sapevo già prima il futuro ho lasciato la patria e sono salito sulla vostra nave per lasciare alla mia casa con questo viaggio un buon nome disse e i giovani udendo i suoi vaticini godevano del loro ritorno ma li prese il dolore per il destino di idmone quando il sole oltrepassa nel cielo il merigio e le rocce gettano appena la loro ombra sui campi e il sole declina cedendo all'oscuro tramonto allora gli eroi tutti insieme stesero sopra la sabbia un letto di foglie davanti al mare canuto e si sdraiano gli uni presso gli altri avevano accanto abbondanza di cibo e vino suave e i coppieri mescevano dalle brocche e intanto tra loro scambiavano le parole e gli scherzi che piacciono ai giovani in mezzo al banchetto e dal vino e tra loro non c'è la superbia funesta intanto il figlio di Esone meditava tra sé tutto quanto e non sapeva che fare cupo e triste nel volto lo guardò di sotto Ida e lo riprese gran voce figlio di Esone quali pensieri volgi nella tua mente quello che pensi ti dillo in mezzo a noi tutti forse ti vince l'assalto della paura che coglie gli uomini vili ma sia testimone la mia fortissima lancia che nelle battaglie mi dà gloria al di sopra di ogni altro e neppure Zeus mi è d'aiuto quanto la lancia non ci saranno sventure non ci sarà impresa che non riesca a buon fine finché Ida ti segue anche se un Dio ti si oppone tale è il compagno e l'aiuto che in me conduci da arena disse e reggendo la coppa con ambo le mani beve il vino pretto suave e bagnava di vino le labbra e la barba scura ma gli altri rumoreggiavano e Edmone gli si rivolse con franche parole sciagurato è già tempo che nutri in te stesso pensieri dannosi o il vino puro ti gonfia nel petto e il cuore ardito per tua rovina e ti spinge a disprezzare gli dèi altre parole ci sono per incoraggiare e dare conforto ai compagni ma quello che dice è soltanto superbia e stoltezza si dice che un tempo inveirono contro gli dèi i figli di Aloeo cui tu non potresti eguagliarti in coraggio eppure frono uccisi dalle veloci saette del figlio di Leto per quanto fossero forti così disse e Ida figlio di Afareo scoppiò in una risata e gli rispose ammiccando con pungenti parole or su dimmi allora con la scienza dei tuoi vaticini se anche a me gli dèi assegnano la stessa fine che diede tuo padre ai figli di Aloeo però pensa come potrai sfuggire alla forza delle mie braccia se la tua profezia venisse scoperta bugiarda così lo insultava nell'ira e Lalite sarebbe andata più oltre se i compagni gridando e lo stesso figlio di Esone non avessero messo un freno ai due contendenti ma Orfeo sollevò nella sua sinistra la cetra ed è da inizio al suo canto cantava come la terra e il cielo e il mare che a un tempo erano fusi insieme in un'unica forma furono gli uni divisi dagli altri a motivo della funesta discordia come nel cielo le stelle e il percorso della luna e del sole abbiano un segno sempre funesto e come sorsero ai monti e come nacquero i fiumi sonori assieme alle ninfe e agli animali cantava come all'inizio Ofione ed Eurimone figlia d'oceano ebbero la signoria dell'Olimpo nervoso e come vinti dalla violenza cedettero il proprio potere Eurimone a Rea e a Crono Ofione e precipitarono dentro le acque d'oceano e quelli regnarono sopra i beati titani finché Zeus ancora fanciullo avendo dentro di sé pensieri infantili abitava la grotta di Thea e i ciclopi nati dal suolo non gli avevano dato la forza del tuono del lampo del fulmine e sono la gloria di Zeus disse e poi fermò insieme la cetra e la voce divina ma quando ebbe finito ancora gli eroi allungavano il collo e restavano immobili tendendo le orecchie all'incanto tale malia il poeta aveva lasciato dentro di loro poco dopo secondo il rito mescolarono le libagioni in onore di Zeus e ritti in piedi e versarono sopra le lingue ardenti e poi nella notte si concedettero il sonno ma quando la splendida aurora vide con gli occhi lucenti le alte vette del pelio e nel sereno il mare mosso dal vento batteva sui promontori tifi tifi si svegliò ed impose ai compagni di imbarcarsi su argo e disporre in ordine i remi diedero un grido terribile il porto di pegase ed argo stessa figlia del pelio che li incitava a partire era in essa una trave sacra che a tene ricavò da una quercia di dodona e la collocò nel mezzo della carena gli eroi saliti sui banchi in fila gli uni dopo gli altri come prima avevano tratto a sorte sedettero ciascuno al suo posto in ordine con accanto le armi nel mezzo sedettero anceo e il fortissimo eracle che accanto a sé dispose la clava sotto i suoi piedi si abbassò la chiglia e già venivano ritirate le gomene e si versava sul mare la libagione divino e Giasone piangendo staccava gli occhi dalla sua terra come i giovani a Pito a Ortigia o presso le acque del fiume Esmeno formano cori in onore di Apollo ed innanzi all'altare tutti insieme percuotono il suolo seguendo il ritmo della cetra con i rapidi piedi così al suono della lira d'Orfeo gli eroi battevano coi loro remi l'acqua impetuosa del mare e si infrangevano i flutti da ambo le parti l'onda nera si gonfiava di spuma terribilmente fremendo sotto la forza degli uomini brillavano come fiamme le armi al sole mentre la nave procedeva e biancheggiava sempre la lunga scia dietro a loro come spicca un sentiero in mezzo alla verde pianura tutti gli dèi quel giorno dall'alto del cielo guardavano la nave e la stirpe dei semidei che con grande coraggio percorrevano il mare sopra le vette del pelio le linfe stupivano guardando l'opera di Atena e Itonide e gli eroi che nelle loro mani tenevano i remi e dalla cima del monte scese al mare Chirone il centauro figlio di Filira e immerse i piedi dove l'onda bianca si spezza e con la mano possente rivolse un saluto agli eroi che partivano augurando loro un ritorno senza sventure accanto a lui la moglie teneva in braccio il piccolo Achille il figlio di Peleo e lo mostrava a suo padre quando ebbero abbandonato la sponda ricurva del porto grazie alla saggia cortezza di Tifi figlio di Agnia che con le sue mani reggeva abilmente il timone pulito in modo che la rotta restasse sempre dritta a quel punto alzarono sulla mastra il grande albero e lo legarono con funi tese dall'una parte e dall'altra hissarono in alto le vele e le stesero lungo l'albero vi fiombò il vento sonoro dopo aver fissato le sartie alle tavole con caviglie ben levicate corsero tranquillamente oltre il lungo capo Tiseo intonava un canto armonioso sulla sua cetra e celebrava la nobile Artemide figlia di Zeus che veglia sopra le navi e protegge la rocce marine e la terra di Iolco i pesci balzando dal mare profondo grandi e piccoli insieme seguivano l'umida via come quando sulle orme del loro pastore le greggi sazie d'erbe ritornano dentro le stalle e lui va davanti intonando un'aria campestre sulla zampogna acuta così i pesci seguivano Argo che sempre un vento impetuoso spingeva ben presto si dileguò nella nebbia la fertile terra pelasga gli eroi costeggiarono le scogliere del pelio sempre correndo in avanti svanì il promontorio sepiade comparve sul mare sciato comparvero in lontananza Piresia e nel sereno le rive magnesie e la tomba di Dolope qui verso sera sbarcarono per il vento contrario e nella notte gli resero onore bruciando carni di pecora il mare gonfio infuriava restarono fermi due giorni su quella spiaggia al terzo misero in mare la nave levando in alto la sua grandissima vela quella spiaggia si chiama ancora oggi a fete e cioè partenza di Argo e di là procedendo costeggiarono Melibea videro le sue rive scoscese e battute dai venti all'alba videro molto vicino e costeggiarono Omole di gradante sul mare e poco oltre dovevano oltrepassare le acque del fiume Amiro dopo videro Eurimene e le rocce battute dall'acque dell'ossa e dell'Olimpo e durante la notte passarono davanti ai colli sopra Pallene oltre il capo canastro correndo nel soffio del vento nell'alba ai naviganti si levò la montagna a traccia dell'Athos che anche sull'Emno lontana il cammino che compie una nave da carico dall'alba almeriggio dispiega fino a Mirina l'ombra della sua altissima vetta per tutto il giorno e fino a notte spirò il vento propizio fortissimo e si tendevano ad esso le vele di Argo cadde il vento con gli ultimi raggi del sole e giunsero a forza di remi all'isola impervia di Lemno la terra dei Sinti qui nell'anno passato tutti insieme gli uomini senza pietà erano stati uccisi dalla violenza delle donne perché per fastidio delle legittime mogli le ripudiarono e nutrivano amore impetuoso per le schiave predate in traccia portate di là dal mare era l'ira tremenda di Cipride da lungo tempo non le rendevano più gli onori dovuti ci augurate non ebbe confine la gelosia rovinosa non solo i mariti e le amanti uccisero nei loro letti ma ognuno che fosse maschio così nel futuro pensavano non avrebbero mai scontato la pena dell'atroce delitto sola fra tutte il Sipile risparmiò il vecchio padre Toante che regnava sul popolo e gli offrì una speranza di scampo abbandonato sul mare dentro una cassa dei pescatori lo trassero a riva nell'isola Enoe Enoe si chiamava prima ma poi fu chiamata Sicino perché Sicino era il nome del figlio che partoria il vecchio Enoe la ninfa dell'acque da allora in poi alle donne di Lemno allevare i buoi indossare le armi di bronzo e lavorare i campi di grano tutto divenne più facile dei lavori di Atena che sempre svolgevano un tempo e tuttavia guardavano spesso la vasta distesa del mare chiedendosi con anguscia quando verrebbero i traci così quando videro Argo avvicinarsi all'isola a remi vestirono le armi e si riversarono in massa dalle porte di Mirina alla spiaggia parevano le baccanti mangiatrici di carne cruda dicevano che erano i traci e in mezzo a loro il sipile portava le armi del padre non sapendo che fare correvano senza parola tale era il terrore sospeso sopra di loro intanto dalla nave gli eroi mandarono a Etalide il rapido araldo a lui affidavano ogni ambasciata e lo scettro di Hermes suo padre che gli concesse una memoria incorrotta di tutte le cose e anche quando se ne andò alle acque ineffabili della Cheronte neanche allora è calato sulla sua mente l'oblio ma il suo destino è una salda alternanza quando sotto la terra quando ai raggi del sole in mezzo agli uomini ma perché dovrai raccontare in esteso la storia di Etalide e gli convinse la regina il sipile a ricevere i viaggiatori al morire del giorno nel buio ma quando sorse l'aurora non sciolsero ancora le gomene per il soffio di Borea le donne di Lemno accorsero per la città all'assemblea così sipile aveva ordinato e quando furono tutte insieme raccolte in mezzo a loro le esortava con queste parole orsù mie care diamo a questi uomini doni graditi da portare via sulla nave cibi e vino soave in modo che restino fuori dalla città e venuti da noi per bisogno non sappiano tutto e una fama malvagia si sparga su noi enorme è quello che abbiamo fatto e non potrebbero accettarlo se ne venissero a conoscenza questa è l'idea venuta alla mia mente ma se qualcuna di voi ha un pensiero migliore si alzi proprio per questo vi ho convocato in adunanza disse e sedette sul trono di pietra del padre dopo di lei si levò la nutrice polisso barcollando per la vecchiaia sui piedi contratti appoggiata al bastone eppure voleva parlare accanto a lei sedevano quattro vergini vergini senza nozze sebbene col capo canuto si alzò in mezzo al popolo drizzando a fatica la testa sopra le spalle ricurve e disse queste parole possiamo mandare dei doni come i sipi le vuole agli stranieri sì è opportuno ma come pensate di salvare le vostre vite se ci invade l'esercito trace oppure qualche altro nemico come può tante volte accadere come questi uomini stessi giungono inaspettati e se anche un dio da questo ci scampa pure in futuro ci aspettano mille sciagure ancora più gravi della guerra e quando saranno morte le vecchie e voi giovani giungerete senza figli all'odiosa vecchiaia come vivrete infelici pensate che forse i buoi aggiogati da sé potranno tirare l'aratro aprendo i maggesi e dal volgere della stagione mieteranno il raccolto di me fino ad ora le care hanno avuto ribrezzo ma penso che l'anno venturo sarò sotto terra con tutti gli onori che sono prescritti dal rito prima che il peggio piombi sopra di noi ma a voi giovani dico che voi dovete pensarci ora che la salvezza è qui davanti ai vostri occhi se agli stranieri affidate le vostre ricchezze e le case e il governo di questo illustre paese così disse e la piazza fu piena d'applausi tanto piacque il discorso e allora a sua volta il sipile si levò in piedi e parlò in questo modo se voi qui tutte avete lo stesso proposito è mia intenzione mandare un messaggio alla nave disse e rivolta ad Ifinoe che le era accanto comandò va dunque Ifinoe prega l'uomo che è il loro capo di venire alla mia presenza gli dirò il volere del nostro popolo e invita anche gli altri se vogliono nella città e nel paese che vengano in amicizia e senza aver paura disse e sciolse il consesso e tornò alla sua casa così Ifinoe giunse dai minii ed essi le chiesero con quali intenzioni veniva presso di loro alle loro domande rispose essa subito mi manda il sipile figlia del re Toante il capo di questa nave venga alla sua presenza gli dirà il volere del nostro popolo e invita anche gli altri se vogliono nella città e nel paese che vengano in amicizia e senza avere paura così disse e a tutti piacquero le fauste parole di lei credettero credettero che Toante era morto e la figlia di Letta regnava dopo di lui mandarono subito Giasone e anch'essi tutti erano pronti a partire l'eroe si fissò sulle spalle l'ampio mantello di porpora opera della dea Tritonide palla di Atena glielo donò quando intraprese a costruire la nave e insegnò a misurare i banchi mediante la squadra più facile sarebbe stato fissare gli occhi nel sole nascente che nello splendore del manto fulgito rosso nel mezzo coi bordi purpurei e sopra ogni banda e figiati molti episodi diversi ma tutti quanti con arte sovrana ecco i ciclopi intenti a compiere l'opera eterna a fabbricare per il figlio di Crono la folgore già quasi pronta e splendente ma un raggio ancora mancava e coi martelli di ferro lo forgiavano fiamma bollente di fuoco ecco i due figli di Antiope figlia della Sopo Amfione e Zeto e lì accanto Tebe ancora priva di torri proprio allora ne gettavano a gara le fondamenta Zeto sulle sue spalle reggeva la cima di un monte e mostrava nel volto l'immensa fatica dietro Amfione veniva suonando la lira dorata ed un masso ancora due volte più grande seguiva i suoi passi e poi ancora Afrodite dai lunghi rizzoli reggeva in mano l'agile scudo di Ares dalla spalla la cima del suo chitone era sciolta sul braccio sinistro al di sotto del seno di fronte lo scudo di bronzo rifletteva l'immagine chiara c'erano poi delle mandrie al pascolo e per quelle mandrie lottavano i teleboi e i figli di Eletrione per la propria difesa gli uni gli altri i pirati di Tafo per brama di preda il prato rugiadoso grondava di sangue ai pochi pastori subivano la violenza dei molti nemici s'erano poi raffigurati due carri in una gara alla guida del primo Pelope scuoteva le briglia accanto a lui sedeva Ippodamia sull'altro Mirtilo spronava all'inseguimento i cavalli accanto a lui Enomao con in mano la lancia protesa ma mentre balzava a colpire la schiena di Pelope si spezzava il mozzo dell'asse e cadeva dal carro c'era anche Febo Apollo ancora ragazzo nell'atto di colpire con una freccia l'enorme Tizio che strappava il velo di Leto Tizio figlio di Elara che la terra nutri e di nuovo diede alla luce c'era anche il minio frisso sembrava porgere ascolto al montone ed il montone davvero sembrava parlare guardandoli avresti fatto silenzio ingannato dalla speranza di udire da loro parole assennate e in quella speranza per lungo tempo si sarebbe fissato lo sguardo questo fu il dono della dea Tritonide Atena nella destra prese la lancia infallibile che un giorno li diede Atalanta in dono ospitale incontrandolo amica sul menalo desiderava tanto seguirlo nel viaggio ma Giasone allontanò la fanciulla temendo che per amore di lei scoppiassero tra i suoi compagni lotte incresciose s'avviò alla città sembrava l'astro fulgente che le giovani donne rinchiuse dentro le stanze nuove vedono sorgere sopra la casa e il rosso splendore affascina i loro occhi nell'aria oscura gode la vergine innamorata di un uomo lontano in un paese straniero a cui la destinano in sposa suo padre e sua madre simile a questa stella l'eroe seguiva i passi di Ifinoe quando passate le porte furono dentro la città s'affollarono dietro le donne accogliendo con grande gioia l'ospite ma lui fissava a terra lo sguardo e andava per la sua strada finché fu giunto al palazzo di Sipile allora le serve gli aprirono le porte doppie fornite di forti battenti e subito Ifinoe lo condusse attraverso il ricco vestibolo ad uno splendido seggio di fronte alla sua signora abbassò gli occhi la regina Isipile a terra e le guance virgine arrossirono ma tuttavia nel suo ritegno gli disse accorte parole straniero perché tanto tempo indugiate fuori dalla città la nostra terra non è abitata da uomini tutti sono emigrati in traccia e coltivano quelle campagne adesso ti dirò il vero sulle loro colpe desidero che lo sappiate quando Toante mio padre regnava sulla città i nostri soldati andavano spesso su navi a predare le terre di traccia che stanno di fronte e di là riportavano immenso bottino e molte fanciulle così si compiva l'ira tremenda di Afrodite che li rese ciechi e li condusse a rovina presero dunque in odio le mogli legittime e cedendo alla folle passione le cacciarono via dalle case e divisero il letto con quelle schiave di guerra sciagurati a lungo soffrimmo sperando che anche se tardi mutassero il loro pensiero ma invece la nostra disgrazia diventava due volte più grande trascuravano i figli legittimi nati in casa e fiorivano razze bastarde le vergini le madri vedove andavano in giro neglette per la città né il padre si prendeva cura più della figlia se anche sotto i suoi occhi l'avesse vista sbranata da una matrigna furiosa neppure i figli difendevano più come un tempo dalle ingiurie la madre nessuna sorella stava più a cuore al fratello nelle loro case in piazza durante i banchetti alle danze soltanto alle donne pensavano finché un dio ci infuse nel cuore l'estremo coraggio di non ricevere più in città al loro ritorno gli uomini riacquistassero senno e giustizia o se ne andassero altrove assieme alle loro schiave essi chiesero i figli tutta quanta la razza dei maschi che restava in città e ritornarono ai campi nevosi di tracia e ancora oggi là sono voi dunque restate con noi e se tu volessi porre la tua dimora qui e così ti piacesse io potrei darti il trono che fu di mio padre e di questa terra no non avresti a lagnarti è fertile più che ogni altra tra quante isole popolano il mare egeo torna alla nave e dia ai tuoi compagni ciò che ti ho detto e non voler restare fuori dalla mia città così disse addolcendo il discorso sugli uomini uccisi e così Giasone a sua volta rispose regina issibile al nostro cuore è gradito l'aiuto che tu ci offri e tanto ne abbiamo bisogno tornerò in città quando avrò riferito ai miei compagni tutto punto per punto ma l'isola e il trono saranno tua cura non è per disprezzo che io li rifiuto ma incombono su di me imprese angosciose disse e toccò la sua destra e subito poi tornò indietro attorno a lui si muovevano ovunque nelle volute di gioia mille giovani donne finché ebbe varcato le porte poi su rapidi carri esse vennero al mare e portavano ai naviganti doni ospitali quando Giasone ebbe detto punto per punto ai compagni ciò per cui la regina l'aveva mandato a chiamare li condussero dunque ospiti alle loro case senza sforzo a loro Afrodite infuse una dolce passione per amore di Efesto ingegnoso perché di nuovo Lemno venisse ripopolata di uomini il figlio di Esone andò alla spiaggia di Sipele gli altri dove ciascuno lo inviò la sua sorte ma non Eracle quello rimase presso la nave di sua volontà e altri pochi si tennero pure in disparte subito la città impazzava di danze e banchetti e fu piena del fumo di vittime più che ogni altro incantavano tra gli dei i figli illustri di Hera e insieme a Afrodite con canti e con sacrifici rimandavano di giorno in giorno il momento di prendere il mare e a lungo ancora restavano a terra inattivi se Eracle non li avesse riuniti senza le donne e non avesse rivolto loro aspiri rimproveri sciagurati è forse sangue congiunto che ci allontana dalla patria o siamo venuti qui per bisogno di femmine trascurando le donne greche si è forse deciso di rimanere ad arare i bei terreni di Lemno non ci sarà per noi gloria davvero se resteremo qui rinchiusi con donne straniere e neanche il vello verrà da sé nessun dio lo conquisterà al nostro posto per quanto noi lo preghiamo torniamo ciascuno alla patria e lui lasciamolo tutto il giorno nel letto di Sipele che popoli Lemno di figli e ne abbia gran fama così rampognava i compagni e nessuno aveva il coraggio di guardarlo negli occhi e rispondere alle sue parole ma subito dopo si sciolsero con ogni fretta e si prepararono a mettersi in mare saputolo le donne corsero a loro come le api lasciati i ripari rocciosi ronzano attorno ai bellissimi gigli e volano da un fiore all'altro sul prato che splende di rugiada e colgono il frutto dolcissimo in questo modo esse si riversarono tutte piangendo attorno agli uomini con le parole e coi gesti dicevano addio a ciascuno pregando gli dei immortali per un felice ritorno così pregava anche il sipele tenendo le mani di Giasone e nel momento di perderlo versava per lui le sue lacrime parti e gli dei ti concedono di tornare coi tuoi compagni sani e salvi e portando al re il vello d'oro come tu vuoi e come ti è caro però quest'isola e lo scettro che fu di mio padre saranno per te sei in futuro tornato in patria vorrai venire qui ancora e certo potresti radunare qui tanti uomini senza sforzo dalle altre città ma non lo vorrai certamente neppure io mi aspetto che questo succeda ricordati dunque di Sipele anche lontano anche quando sarai ritornato e lasciami una parola che io possa seguire con tutto il mio cuore se gli dei mi concedono di dare alla luce un tuo figlio e il figlio di Esone profondamente commosso rispose il Sipele possa quello che hai detto compiersi per il volere divino ma tu di me abbi una migliore opinione a me basterà la mia patria con il consenso di Pelia purché soltanto gli dei mi liberino da questa impresa ma se non sarà destino che io torni in terra di Grecia ma navichi sempre lontano e tu avrai un figlio maschio quando sarà cresciuto mandalo a Iolco Pelasga che sia conforto nella sventura a mio padre e mia madre se li trova ancora vivi così che lontano da Pelia presso il focolare in casa ricevano le sue cure disse e salì sulla nave per primo e dopo di lui salirono gli altri eroi presero i remi in mano sedendo in fila e Argo sciolse le gomene da uno scoglio battuto dal mare coi lunghi remi vendevano l'acqua con forza e verso sera seguendo i consigli di Orfeo approdarono all'isola di Elettra la figlia di Atlante in modo che conoscendo nelle amabili cerimonie i misteri segreti navigassero poi con maggior sicurezza nel gelido mare di questo non dirò altro rivolgo il mio saluto all'isola e dai suoi dei che ebbero in sorte i riti sacri che a noi non è concesso cantare e di là a forza di remi attraverso le acque profonde del golfo nero da un lato avevano la terra dei traci e dall'altro al largo di fronte Imbro e così poco dopo il tramonto arrivarono fino alla punta del tersoneso alle loro spalle soffiava fortissimo noto e spiegando ad esso le vele gli eroi si gettarono nelle ardui correnti di L un mare lasciarono all'alba e un altro mare percorsero nella nottata all'interno del capo reteo e sulla destra avevano la terra del monte Ida lasciata d'Ardania si spinsero sino ad Abido costeggiarono poi Percote e la riva sabbiosa di Arbanide e la sacra Pitea poi durante la notte portarono a termine la traversata dell'Ellesponto fremente dei vortici che si aprivano al passaggio di Argo c'era nella propontide un'isola impervia che scende al mare legata alla fertile terra di Frigia soltanto da un istmo sull'acqua rivolto al continente che possiede due spiagge portuose si trova oltre le acque del fiume Esepo ed i vicini la chiamano monte degli orsi abitavano i figli della terra violenti selvaggi grande prodigio a vedersi per i loro vicini ognuno di loro muoveva sei braccia possenti due dalle spalle robuste le altre quattro più in basso attaccate ai terribili fianchi l'istmo e la piana erano abitati da uomini i doglioni regnava su loro Cizzico figlio di Eneo qui diede la vita Enete figlia del nobile Eusoro non li disturbavano i figli della terra grazie all'aiuto del dio Posidone da lui infatti i doglioni traevano la propria origine qui giunse Argo spinta dai venti di traccia e il portobello l'accolse al termine della sua corsa e qui per consiglio di tifi sciolsero la piccola pietra la loro ancora e la lasciarono sotto una fonte che ha nome Artacia e ne presero un'altra più adatta pesante la prima gli ioni nelleidi obbedienti all'oracolo di Apollo la consacrarono in seguito come era giusta nel tempio di Atena la protettrice di Giasone si fecero incontro ad essi tutti insieme in amicizia ai doglioni e Cizzico stesso e saputo del loro viaggio e della loro stirpe li ricevettero ospiti e li fecero avanzare più oltre a forza di remi e ancorare la nave nel porto della città costruirono un altare ad Apollo dio degli sbarchi sulla riva del mare e si presero cura dei sacrifici il re stesso dia del loro ciò che occorreva vino dolce e bestiame aveva ricevuto un oracolo che quando arrivasse un illustre stuolo d'eroi doveva accoglierli cortesemente e non pensare alla guerra anche a lui sulle guance la peluria fioriva appena e non aveva avuto in sorte la gioia dei figli nella sua casa ignorava ancora i travagli del parto la sua sposa Clite dai bei capelli figlia di Merope da poco l'aveva condotta con doni ricchissimi dalla casa del padre sulla terra di fronte oltre al mare ma tuttavia lasciò il talamo della sua sposa e prese parte al banchetto scacciando il timore dall'animo si facevano a vicenda domande il re chiedeva la meta del viaggio e i comandi di pelia essi chiedevano sulle città dei vicini e su tutto il golfo della vasta propontide oltre non seppe rispondere all'alba salirono sul grande dindimo per vedere coi loro occhi le rotte del mare intanto altri compagni condussero Argo dal suo primo ormeggio fin dentro il porto chiuso si chiama strada di Giasone quella che essi percorsero i figli della terra accorsi dall'altro lato del monte chiusero con innumerevoli pietre dal fondo la bocca del porto chiuso come dessero là dentro la caccia ad un mostro marino ma Ivi era rimasto insieme ai guerrieri più giovani Eracle e subito tese contro quelli l'arco ricurvo e li stendeva a terra l'uno di seguito all'altro sollevavano pietre scabre e gliele scagliavano addosso certo anche quei mostri tremendi li aveva allevati Hera la sposa di Zeus perché fossero una fatica per Ercole insieme a lui anche gli altri tornati indietro prima di arrivare alla cima presero a fare strage gli eroi guerrieri dei figli della terra e li ricevettero con le lance e con le frecce finché nei loro assalti furiosi tutti li ebbero uccisi come i tagliaboschi gettano in fila sopra la riva del mare i lunghi tronchi che la scure ha appena reciso in modo che i bagnati accolgano meglio le salde caviglie così quelli stavano distesi in ordine alla bocca del porto bianco di spuma e alcuni ammucchiati avevano il capo ed il petto immersi nell'acqua salata e le altre membra distese sulla terra alcuni al contrario la testa sopra la sabbia e i piedi nell'acqua ma tutti erano preda di pesci ed uccelli gli eroi quando ebbero senza danno compiuto l'impresa allora sciolsero al soffio del vento le gomene e procedettero avanti attraverso le onde del mare per tutto il giorno Argo corse con le sue vele ma giunta la notte il vento cessò e le tempeste contrarie lo riportarono indietro così che di nuovo giunsero presso i dolioni ospitali sbarcarono in piena notte sacra si chiama ancora oggi la pietra alla quale gettarono in tutta fretta le cime nessuno fu pronto a capire che l'isola era la stessa e nella notte neppure i dolioni capirono che erano gli eroi di ritorno pensavano invece che fossero sbarcate le tribù pelasghe dei loro nemici i macriei perciò indossate le armi ingaggiarono il combattimento gli uni contro gli altri incrociarono le lance e gli scudi simili all'impeto aguzzo del fuoco che piomba sulla boscaglia arida e cresce cadde sopra i dolioni tremendo impetuoso il tumulto della battaglia e neanche il loro re doveva forzare il destino e dalla battaglia tornare alla casa e al letto nuziale gli si slanciò contro il figlio di esone mentre andava all'assalto e lo colpì in mezzo al petto sotto la lancia si ruppe l'osso e rotolò nella sabbia compiendo il proprio destino quello che agli uomini non è possibile mai di sfuggire ma dappertutto si stende come una rete grandissima così lui che credeva di essere scampato alla cerba minaccia degli eroi il destino lo sorprese in quella notte medesima nella battaglia con loro ed altri venuti a soccorso furono trucidati eracle uccise telecle e megabronte a causto acasto uccise sfodri peleos confisse zeli e il valoroso geffiro il prode telamone di ademorto e abasileo ida uccise promeo ecclizio giacinto e i figli di tindaro megalossace e flogio il figlio di aneo vinse a sua volta l'ardito itimoneo e artace un grande guerriero a tutti questi le genti vicine rendono ancora oggi l'onore che spetta agli dei gli altri tremarono e cedettero come colombe che fuggono in sturno dagli spervieri veloci in massa si precipitarono verso le porte e ben presto la città fu piena di grida al ritorno dalla funesta battaglia all'alba gli uni e gli altri riconobbero il loro errore funesto irreparabile e un'angoscia tremenda prese gli eroi nel vedere Cizzico figlio di aneo davanti a loro riverso nel sangue e nella polvere piansero e si strapparono i capelli tre giorni interi tutti insieme gli eroi e i dolioni poi per tre volte con le armi di bronzo girarono attorno al defunto lo seppellirono in una tomba e secondo il rito celebrarono i giochi sul piano erboso dove anche oggi sta il monumento che anche le genti future vedranno la sposa Clite non sopravvisse alla morte di suo marito ma compì un'altra sciagura più atroce passando una corda attorno al suo collo a sua morte la piansero anche le ninfe dei boschi e di tutte le lacrime versate a terra dai loro occhi le dè fecero una sorgente che chiamano Clite e serba glorioso il nome della sventurata fu quello il giorno più orrendo che mai il padre Zeus abbia mandato ai doglioni uomini e donne e nessuno di loro riuscì a prendere cibo non si presero cura di macinare il frumento vivevano mangiando solo cibi non cotti e là ancora oggi gli ioni che abitano Cizzico quando ogni anno versano la libagione dei morti usano per le sacre focacce la mola comune subito dopo si levarono aspre tempeste per dodici giorni e dodici notti ed impedirono loro di mettersi in mare nella notte seguente tutti dormivano già da tempo venti del sonno nell'ultima ora ma sul loro sonno profondo vegliava Acasto e Mopso figli di Ampico sopra la bionda testa del figlio di Esone volò l'alcione vaticinando con voce acuta la pace dei venti l'indovino comprese il presagio propizio che dava l'uccello dei Lidi poi un dio lo mandò lontano e si levò in volo e andò a posarsi sopra la plustre e Giasone straiato su morbide pelli di pecora fu subito scosso e svegliato da Mopso che gli parlò in questo modo figlio di Esone devi salire al santuario del dindimo impervio e placare la dea dal bel trono la madre di tutti i beati solo così cesseranno le tremende tempeste questa è la voce che ho udito dall'uccello marino che mentre dormivi volava sopra il tuo capo vaticinando ogni cosa da lei dipendono i venti il mare la terra profonda la sede nevosa d'Olimpo e quando dai monti ascende al cielo lo stesso figlio di Crono lo stesso Zeus le cede il posto e così gli altri immortali rendono onore alla terribile dea così disse ed egli si rallegrò a udire questo discorso si alzò dal giaciglio lieto e svegliò in fretta tutti i compagni e quando furono in piedi riferì loro il vaticinio del figlio di Ampico subito i giovani condussero i buoi dalle stalle e si arrampicarono fino all'erta cima del monte altri sciolsero dalla pietra sacra le gomene e remarono fino al porto Tracio poi salirono anch'essi lasciando presso la nave soltanto pochi compagni davanti ad essi apparivano quasi fossero in loro mano le vette Macriadi e tutta la terra di fronte alla Tracia nella nebbia appariva la bocca del Bosforo e le colline di Misia dall'altro lato le acque del fiume Esepo e la città e la pianura nepea di Adrastea e nella selva un robusto tronco di vite secco invecchiato gli eroi lo tagliarono per farne un simulacro della dea protettrice dei monti e argolo incise con arte lo collocarono in cima ad un collo dirupato coperto da altissime querce che più in alto di tutte affondano le loro radici costruirono poi un altare di pietra e celebrarono coronati di foglie di quercia il sacrificio invocando la madre santa del dindimo la protettrice di Frigia e insieme Tizia e Cilleno i soli che hanno il nome di ministri e reggenti dei fati tra i dati di idee di Creta a cui diede vita un tempo la ninfa Anchiale nell'antro di Teo stringendo con ambo le mani la terra di Oasso con molte preghiera e libando sopra le vittime ardenti il figlio di Esone chiese alla Dea di allontanare da loro le tempeste e nel frattempo i più giovani seguendo il comando di Orfeo danzavano in armi un girotondo ritmato e percuotevano con le spade gli scudi perché si sperdesse nell'aria il funesto lamento che ancora il popolo tutto piangeva per il suo re da allora e per sempre i frigi onorano Rea con le trottole e con i tamburi la Dea prestò attenzione benevola ai pii sacrifici e ne apparvero limpidi segni gli alberi davano frutti infiniti la terra da sé sotto i loro piedi generava dall'erba tenera i fiori le belve abbandonate le loro tane nella foresta venivano incontro scodinzolando e ancora un altro prodigio nessun'acqua bagnava il monte d'Indimo prima ma allora per essi sgorgò dall'arida vetta inesauribile in seguito le genti vicine la chiamarono fonte di Giasone fecero un banchetto per la dea sul monte degli orsi e cantarono rea venerandola poi quando sorse il mattino caddero i venti e lasciarono l'isola a remi e qui sorse una gara tra tutti quanti gli eroi chi lasciava il remo per ultimo attorno l'aria priva di venti aveva acquetato i vortici e dato riposo alle acque con la monaccia gli eroi spingevano avanti a tutta forza la nave ed essa balzava sul mare così che neppure i cavalli di Posidone rapidi come tempeste l'avrebbero mai potuta raggiungere però quando tutti i flutti si svegliarono sotto un vento possente che verso sera soffiava dai fiumi a quel punto sfatti dalla fatica smisero tutti e sfiniti come erano tutti insieme se li tirò dietro Eracle con la forza delle sue braccia e faceva tremare le tavole ben commesse di Argo ma quando desiderosi di giungere alla terra dei misi ebbero visto e costeggiato la foce del rindaco e il grande sepolcro di Ageone poco oltre la frigia allora Eracle mentre fendeva il mare in burrasca ruppe in mezzo il suo remo e tenendone un pezzo con ambo le mani cadde riverso di lato l'altro pezzo con la risacca se lo inghiottì il mare sedeva l'eroe guardando in silenzio le sue mani non erano use a starse né in ozio nell'ora che il contadino torna dai campi dove ha zappato odarato lietamente alla sua casa con molta voglia di cibo e sulla soglia reclina le ginocchia sfinite e coperto di polvere si guarda le mani consunte e maledice più volte il suo ventre in quell'ora gli eroi arrivarono alla terra cianide presso il monte argantonio e le foci del fiume Cio venivano in amicizia e come amici li accolsero i misi abitanti di quella regione ed offrirono ad essi secondo i loro bisogni cibi bestiame e abbondanza di vino quindi alcuni raccolsero legna secca altri portarono dai prati un grande raccolto di foglie su cui coricarsi ed altri ruotavano i legni per accendere il fuoco altri ancora mescolavano il vino dentro i crateri e preparavano il pranzo ma prima col calar della sera sacrificarono a Febo il dio che protegge gli sbarchi ma il figlio di Zeus augurò ai compagni un buon pranzo e si inoltrò nella selva a fabbricarsi per tempo un remo adatto alla sua mano ed ecco che nel cammino trovò un abete non troppo gravato di rami né troppo frondoso simile al fusto di un alto pioppo sembrava avere la stessa lunghezza e grossezza subito depose a terra la faretra con tutte le frecce e l'arco e si tolse di dosso la pelle di leone e percosse l'abete con la clava bronzia alle radici e strinse intorno il tronco con ambo le mani fiducioso nel suo vigore e a gambe larghe appoggiando le vaste spalle e puntando lo svelse dalle radici per quanto profonde e con esso le zolle di terra come d'inverno quando declina il terribile orione un rapido colpo di vento piomba dall'alto sulla nave imprevisto e svelle l'albero dalla base assieme ai suoi cunei alla stessa maniera lo strappò dal suolo poi riprese l'arco e le frecce e la pelle e la clava e intraprese la via del ritorno intanto Ila aveva lasciato i compagni e con in mano una brocca di bronzo cercava una fonte per attingere l'acqua e preparare la cena prima del suo ritorno e predisporre per lui tutto il resto in bell'ordine Eracle stesso l'aveva educato a questi usi fin da quando l'aveva rapito bambino alle case del padre il rette odamante che l'eroe uccise tra i driopi senza pietà nella disputa per un giovenco stava teodamante aprendo il magese con un aratro afflitto dal dolore ed Eracle venne e gli impose di consegnargli un bue per arare contro sua voglia cercava soltanto un pretesto per portare la guerra fra i driopi perché vivevano senza darsi pensiero della giustizia ma questo mi porterebbe lontano del mio cantare presto arrivò alla fontana che dai vicini è chiamata le sorgenti là proprio allora le ninfe formavano il coro piace a tutte le ninfe che abitano le falde della bella montagna celebrare Artemide sempre nei canti notturni e quelle ne ebbero in sorte le cime dei monti e le grotte e le ninfe dei boschi venivano in fila fin da lontano e la ninfa dell'acqua proprio allora emergeva dalla limpida fonte accanto a sé vide Ila fiammeggiante di bellezza e di grazia soave la luna piena l'illuminava dal cielo e Afrodite sconvolse il cuore di lei e nello sgomento a fatica poter riaversi e appena disteso di lato gli ebbe immersa la brocca nell'acqua e l'acqua mormorò forte invadendo il bronzo sonoro improvvisamente lei gli cinse col braccio sinistro il collo nel desiderio di baciare la tenera bocca e con la destra lo tirò per il gomito e lo immerse nel mezzo del vortice ed è un grido e uno soltanto lo udì tra i compagni Polifemo figlio di Elato che si era spinto in avanti aspettando che ritornasse il fortissimo Eracle un balzo fu presso alle sorgenti come la fiera selvaggia cui da lontano è arrivata una voce di greggi e ardente di fiamme si mette in cammino ma non ritrova le pecore i pastori le hanno chiuse a tempo dentro la stalla e geme e urla terribilmente fino a trovarsi sfinita così zemeva allora la figlia di Elato e percorreva la regione gridando ma la sua voce era vana poi sguainata la grande spada prese a cercarlo che non fosse stato preda di Belve o solo com'era gli avesse teso un agguato e fosse stato rapito facile preda e mentre brandiva la spada nuda ecco che trovò Eracle sul suo cammino e lo riconobbe mentre nel buio si affrettava alla nave senza fiato sconvolto nel cuore e diede la triste notizia infelice io per primo ti darò un dolore terribile ila è andata alla fonte e non ritorna salvo o lo hanno rapito i briganti o lo sbranano le fiere io ho sentito il suo grido così disse e all'udirlo colava copioso sudore dalle tempie di Eracle e il nero sangue bolliva nelle sue viscere in preda al furore scaraventò l'albero a terra e corse lungo la strada dove lo conducevano i piedi come il toro punto dall'assillo abbandona prati e paludi e si butta in avanti senza darsi pensiero di pecore né di pastori e fa la sua strada instancabile ma poi alle volte si arresta e levando il vasto collo muggisce sotto il tormento dell'assillo spietato così infuriato Eracle ora muoveva senza riposo le veloci ginocchia ora cessava dalla fatica e mandava lontano la sua penetrante terribile voce intanto la stella dell'alba sorse sopra le altissime cime e tornò il vento a spirare allora subito Tifi ordinò ai compagni di imbarcarsi e di trarne profitto ed essi salirono con grande slancio e tirarono le ancore e raccolsero tosto le gomene in mezzo le vele erano curvate dal vento e gli eroi lieti si allontanavano dalla spiaggia e costeggiavano il capo di Posidone quando nel cielo lampeggia la splendida aurora salendo dall'orizzonte e sentieri si illuminano e brillano i prati rugiadosi alla limpida luce allora si accorsero di quelli che avevano senza pensarci lasciato cadde tra loro una dura contesa un litigio immenso all'idea di avere abbandonato partendo l'eroe più grande Giacone in preda al dolore e all'angoscia né per gli uni né per gli altri diceva una sola parola stava seduto oppresso da pena profonda rodendosi ma Teramone fu preso dall'ira e gli disse così tranquillo tu te ne stai perché a te conviene abbandonare l'eroe e da te è nato il disegno perché la sua gloria non oscuri la tua per tutta la Grecia se gli dei ci concedono di ritornare alla patria ma che serve parlare io andrò là a dispetto dei tuoi compagni che insieme a te hanno ordito questo pregevole inganno così disse e si gettò addosso a Tifi figlio di Agnia i suoi occhi brillavano come la fiamma del fuoco vorace e sarebbero tornati indietro verso la terra dei misi forzando il mare e la bufera incessante dei venti se i due figli di Borea Zete e Calais non fermavano Telamone con aspre parole infelici gli aspettava un ben duro castigo per mano dell'eroe che impedirono di ricercare mentre tornavano dai giochi in morte di Pelia li uccise nell'isola di Teno e sopra i due corpi ammassò la terra e costruì due colonne l'una di esse prodigio inaudito agli occhi degli uomini si muove e vibra al soffio sonoro di Borea queste cose dovevano compiersi tanto tempo più tardi ma ecco che dal profondo del mare apparve ad essi Glauco il sapiente ministro del divino Nereo levò sopra l'acqua il capo irsuto e il petto fino ai fianchi e afferrò con la mano robusta la poppa e parlò così agli eroi sconvolti perché contro il volere di Zeus volete condurre il forte Eracle alla terra di Eeta è suo destino portare a termine in argo per il profitto del superbo Euristeo tutte le dodici imprese e poi abitare con gli immortali quando avrà compiuto poche altre cose No non abbiate l'impianto e Polifemo è destinato a fondare alle foci del Cio nella Misia un'illustre città e a terminare i suoi giorni nell'immenso paese dei Calibi di Ila si è innamorata una ninfa e l'ha fatto suo sposo per lui gli altri errarono e furono abbandonati disse e si inabissò nel profondo fra i flutti impetuosi e attorno a lui spumeggiava l'acqua scura agitata dai vortici e attraverso il mare batteva la concava nave furono lieti gli eroi e Telamone corse con grande slancio da Giasone e gli prese la mano nella sua mano e gli disse abbracciandolo non essere irato con me figlio di Esone se mi sono lasciato arrecare dalla stoltezza ma il grande dolore mi ha spinto a parole superbe e oltraggiose disperdiamo nel vento la colpa e torniamo ad essere amici come eravamo in passato e il figlio di Esone così saggiamente rispose mio caro certo tu mi hai recato terribile offesa davanti a tutti accusandomi di aver tradito l'eroe ma pure afflitto verso di te non voglio osservare un amaro rancore che fosti preso dall'ira non per ricchezze o bestiame ma per un amico e spero che anche in difesa di me contro un altro tu verresti a contesa se mai qualcosa di simile avesse a succedermi disse e tornati amici come erano prima sedettero e gli altri due per volere di Zeus l'uno doveva fondare tra i misi una città che avrebbe portato lo stesso nome del fiume Polifemo figlio di Elato l'altro andava per compiere le fatiche al servizio di Euristeo ma minacciava di distruggere all'istante il paese dei misi se non trovavano Ila morto o vivo che fosse e quelli scelsero i primi giovani del loro popolo e gli ridiedero impegno prestandogli giuramento che non si sarebbero mai stancati di ricercarlo per questo ancora oggi i Ciani vanno in cerca di Ila figlio di Teodamante e si prendono cura di Trachis perché proprio là Eracle stabilì la sede dei giovani che gli avevano dato da condurre con sé come ostaggi il vento soffiava impetuoso e per tutto il giorno e la notte spinse la nave ma non spirava più un alito quando venne l'aurora videro un ampio lembo di terra che sporgeva dal golfo remando a prodare erano in quel paese le stalle e la casa di Amico il feroce signore dei Bebrici al quale diede la vita a Melia una ninfa bitinia unitasi al dio Posidone loro progenitore era il più arrogante degli uomini e perfino per i suoi ospiti aveva stabilito una legge indegna nessuno poteva andarsene prima di essere messo alla prova nel pugilato contro di lui e così uccise molti vicini e anche allora venne presso alla nave ma non degnò di chiedere nella sua alterigia chi fossero né il motivo del viaggio ma subito in mezzo a tutti disse queste parole sentite navigatori ciò che dovete sapere è legge che mai nessuno straniero una volta giunto tra i bebrici possa andarsene prima di aver levato contro le mie le sue mani perciò scegliete tra voi un uomo il più forte e fatelo combattere con me qui subito al pugilato se invece trascurerete e calpesterete i miei editti una dura necessità dolorosa cadrà su di voi così disse pieno d'orgoglio e all'udirlo riprese una rabbia selvaggia e più di tutti Polluce fu offeso da quelle minacce si levò subito a nome dei suoi compagni e rispose chiunque tu sia trattieni la tua crudele violenza e a noi non mostrarla obbediremo alle tue leggi così come tu dici io stesso di mia volontà mi offro per affrontarti così disse apertamente e amico lo fissò ruoteando gli occhi come il leone colpito dall'asta attorno a cui si affaticano sui monti gli uomini ed anche accerchiato da una gran folla non se ne cura ma vede un uomo soltanto quello che l'ha per primo ferito e non l'ha ucciso il figlio di Tindaro depose il ricco mantello morbido quello che un giorno una donna di Lemno gli diede in dono ospitale amico butta per terra il manto scuro doppio fermato da fibbie e il bastone ruvido d'olivo montano che usava portare trovarono subito un luogo adatto lì accanto e fecero sedere sulla sabbia divisi i loro compagni nell'aspetto e nella struttura erano in tutto diversi l'uno sembrava un parto mostruoso del tremendo tifeo o della terra medesima quelli che generò nella collera contro Zeus l'altro il Tindaride assomigliava all'astro che ha i raggi più belli quando si leva al crepuscolo e così splendido era l'eroe figlio di Zeus con le guance fiorite di leggera peluria e gli occhi splendenti ma la forza è il vigore di una belva muoveva le braccia provando se erano ancora agili come in passato e non le avevano appesantite né le fatiche né il remo non così amico restava indisparte in silenzio fissando gli occhi sopra di lui e il cuore fremeva dal desiderio di trargli il sangue dal petto nel mezzo un servo di amico ricoreo pose ai piedi di ognuno due cesti di cuoio aspri asciutti induriti e amico si rivolse al rivale con parole superbe ti darò quelli che vuoi senza sorteggio perché tu dopo non abbia a rimproverarmelo mettili attorno alle mani presto saprai e potrai dire anche ad altri quanto io valgo sia nel tagliare le dure pelli di bove sia nel coprire di sangue le guance degli uomini così disse e polluce non volle ribattere ai suoi insulti con un dolce sorriso prese senz'altro quei cesti che gli giocevano ai piedi e tosto gli vennero accanto castore e il figlio di biante il grande talao e velocemente glieli allacciarono e aggiunsero molte parole d'esortazione a combattere lo stesso fecero all'altro areto e ornito e non sapevano stolti di farlo per l'ultima volta secondo un crudele destino quando furono pronti quei cesti dall'una parte e dall'altra alzarono le mani pesanti a coprire la faccia e si scagliarono furiosamente l'uno sull'altro era il re dei bebrici come il flutto che si solleva violento contro una rapida nave ed esso evita pena grazie alla saggezza del suo esperto pilota che l'onda impetuosa penetri dentro i suoi fianchi così incalzava il tindaride cercando di fargli paura e non gli lasciava trarre respiro ma quello sempre schivava i suoi assalti e grazie all'intelligenza restava incolume sempre presto ebbe capito qual era l'arte selvaggia di amico dove era invincibile e dove esposto la sconfitta allora si fermò risoluto e prese a ribattere colpo su colpo come battono i falegnami coi martelli le caviglie a guzze conficcandole a forza a tenere insieme le tavole della nave e i colpi rimbombano senza tregua l'uno sull'altro così da ambo le parti risuonavano guance e macelle e si levava un digrignare infinito di denti l'uno di fronte all'altro non cessavano mai di colpirsi fin quando entrambi furono vinti dall'affanno angoscioso si scostarono un poco e asciugarono l'abbondante sudore dalla fronte ansimando respiri sfiniti e poi di nuovo entrambi si scagliarono l'uno sull'altro come due tori che furibondi si scontrano per una giovenca al pascolo allora amico si alzò sulle punte dei piedi tese il corpo come fa il macellaio per uccidere il bove e calò su polluce la mano pesante ma quello inclinò il capo e sostenne l'assalto ricevendo appena alla spalla il colpo poi fattosi sotto e muovendosi cauto lo colpì forte sopra l'orecchio e gli spezzò l'osso dentro cadde per il dolore in ginocchio i mini gettarono un grido mentre in un attimo solo la vita lasciava quel corpo i bebrici non furono indifferenti alla morte del loro sovrano tutti insieme brandirono le dure mazze e le lance e si scagliarono contro polluce ma davanti a lui i suoi compagni si schierarono ed estrassero dalle guaine le spade affilate per primo castore colpì un uomo che la saltava alla testa e divisa in due pendeva di qua e di là dalle spalle lo stesso polluce uccise l'enorme itimoneo e anche mimante ed all'ultimo un calcio nel petto col piede veloce e lo rovesciò nella polvere l'altro che gli era addosso lo colse col destro al di sopra del sopracciglio sinistro e gli strappò la palpebra lasciando nuda la vista intanto Oreite un suddito orgoglioso d'amico colpì nel ventre Talao figlio di Biante ma non l'uccise il bronzo scalfì soltanto la pelle sotto la cinta senza toccare le viscere Areto alla stessa maniera si slanciò contro il figlio di Eurito il prode Ifito e lo colpì con la mazza ma quello non era ancora votato al destino funesto presto piuttosto lui stesso doveva essere ucciso sotto la spada di Clizio il figlio di Licurgo l'arditissimo Anceo si scagliò allora tra i bebrici pieno di furia brandiva la grande scura e nella sinistra teneva la pelle nera dell'orsa e insieme a lui si slanciarono i figli di Eaco e si mosse anche il valoroso Ciasone come quando in una giornata d'inverno i rupi grigi entrati dentro la stalla all'insaputa dei cani sagaci e degli stessi pastori spargono il terrore tra le innumerevoli pecore e guardandone molte insieme cercano quale assaltare per prima e portar via e le pecore cercano scampo cadendo l'una sull'altra così spargevano il terrore tra gli orgogliosi bebrici e come i pastori o gli apicultori stanano un vasto sciame d'api col fumo dentro una roccia e quelle si ammassano tutte insieme nell'alveare e si agitano con un fitto ronzio ma poi soffocate dal fumo denso volano fuori lontano così i bebrici non resistettero a lungo ma si dispersero per il loro paese annunciando la morte di Amico stolti non sapevano che un'altra imprevista sventura era loro vicina in quel giorno i campi e i villaggi erano saccheggiati in assenza del loro sovrano dalla lancia nemica di Lico e dal popolo dei Mariandini che sempre contendevano loro la regione ricca di ferro pure gli eroi saccheggiavano stalle e capanne e andavano in giro a sgozzare innumerevoli bestie e tra loro qualcuno parlava in tal modo pensate cosa avrebbero fatto questi vigliacchi se un dio conduceva qui anche Eracle credo che non ci sarebbe stata neanche la gara di pugilato in sua presenza ma quando Amico venne a dirci dei suoi decreti subito un colpo di clava gli avrebbe fatto scordare decreti e superbia e l'abbiamo lasciato a terra e siamo salpati senza darcene cura ma ognuno di noi conoscerà in sua assenza la funesta sventura così diceva ma tutto si era compiuto secondo il volere di Zeus rimasero là quella notte e curarono i loro feriti fecero sacrifici agli dèi e prepararono un grande pranzo nessuno fu preso dal sonno accanto al cratere e alle vittime ardenti e con le teste bionde cinte dall'oro l'alloro che era sul lido e al quale avevano anche legato le cime di Argo cantavano un inno al suono della cetra di Orfeo armoniosamente e al loro canto si rallegrava la riva senza venti celebravano il figlio di Zeus l'eroe di Terapne ma quando il sole sorgendo dall'orizzonte splendette sui monti bagnati dalla rugiada e diedero la sveglia ai pastori allora sciolsero dai piedi dell'auro le gomene e imbarcarono le loro prede quante occorreva portarne e si diressero spinti dal vento al bosforo ricco di vortici qui l'onda simile a una montagna scocesa si leva di fronte ai naviganti e alta come una nuvola sembra piombare su loro e penseresti di non poter sfuggire al tremendo destino perché proprio in mezzo alla nave incombe minacciosa ma tuttavia si distende se trova un esperto pilota e così anche essi passarono grazie all'abile tifi illesi per quanto atterriti il giorno seguente gettarono le gomene alla terra tinia di fronte su quella riva abitava Fineo figlio di Agenole che fra tutti gli uomini subì le pene più atroci per l'arte profetica che gli donò un tempo il figlio di Leto non ebbe alcun ritegno nemmeno a rivelare agli uomini precisamente il sacro pensiero del figlio di Crono e perciò il Dio gli assegnò una vecchiaia lunghissima e gli tolse la dolce luce degli occhi e non gli permise di gustare i molti cibi che gli portavano a casa ai vicini chiedendogli una profezia perché piombando attraverso le nuvole le arpie gli strappavano sempre dalle mani e dalla bocca coi loro rostri e talvolta non gli lasciavano nulla dall'altra pochissimo perché continuasse a vivere e a soffrire però gli spargevano un odore schifoso e nessuno poteva non solo portarlo alla bocca ma sopportarlo da lontano tale effettore esalavano i resti del pranzo ma quando sentì la voce il frostuono di un gruppo di uomini capì che erano giunti quelli che gli avrebbero dato secondo i vaticini di Zeus la gioia del cibo si alzò dal suo letto come un fantasma nel sogno appoggiato al bastone coi piedi contratti giunse fino alla porta tastando nei muri e camminando le membra tremavano di fragilità e di vecchiaia il corpo era secco e duro di sudiciume e la pelle teneva insieme soltanto le ossa uscito di casa piegò le ginocchia sfinite e sedette sulla soglia dell'atrio l'avvolse una scura vertigine e gli parve che la terra girasse attorno a lui dal profondo senza parole cadde in un torpore spossato come lo videro gli eroi gli si raccolsero intorno stupiti ed egli traendo a fatica il respiro dal profondo del petto disse parole profetiche ascoltatemi voi che siete i più prodi di tutta la Grecia se siete davvero quelli che per un duro comando regale sulla nave Argo Giasone porta al vello d'oro ma certo lo siete ancora la mia mente conosce tutte le cose per la scienza divina ti ringrazio Signore figlio di Leto pure in mezzo ai miei dolorosi travagli in nome di Zeus protettore dei supplici e punitore implacabile dei malvagi in nome di Febo in nome di Hera stessa che più di tutti gli dèi a cura del vostro viaggio vi supplico datemi aiuto salvate dalla rovina un uomo infelice e non partite lasciandomi abbandonato così come sono non soltanto l'erinnima calpestato gli occhi e trascinò la mia vecchiaia verso l'irraggiungibile fine ma a questi mali si aggiunge un altro male più amaro le arpie mi rapiscono il cibo di bocca piombando da non so dove da qualche nido funesto e non ho modo di difendermi più facilmente quando ho voglia di cibo potrei celarlo a me stesso che a quelle tanto veloci attraversano l'aria se talvolta per caso mi lasciano un poco di cibo manda un odore tremendo che non si può sopportare nessuno degli uomini potrebbe mai avvicinarsi neppure un momento neppure se avesse il cuore di acciaio ma la necessità mi costringe amara insaziabile a restare e non solo a mettere nel mio maledetto ventre quel cibo la profezia divina dice che le cacceranno i figli di Borea e non mi sono estranei i miei salvatori se è vero che io sono fineo un tempo famoso tra gli uomini per la ricchezza e per l'arte profetica e mio padre fu a Genole e se quando ero signore dei traci condussi nella mia casa quale mia sposa con doni nuziali la loro sorella Cleopatra così disse Fineo è una profonda pietà presse ciascuna di loro ma più di tutti gli altri i due figli di Borea si avvicinarono entrambi in lacrime e Zete prendendo nelle sue mani e la mano del vecchio afflitto gli disse Misero nessuno degli uomini io credo è più infelice ma perché tante disgrazie ti si sono attaccate forse per una sciagurata imprudenza forse per una sciagurata imprudenza hai offeso gli dei con la tua arte profetica perciò sono tanto adirati a noi che vogliamo aiutarti si turba dentro la mente se davvero il Dio ha riservato noi due questo compito poiché ben chiare sono agli uomini le collere degli immortali e dunque non cacceremo le arpie quando verranno sebbene lo desideriamo prima che tu ci abbia giurato che non verremmo per questa azione in odio agli dei così disse e il vecchio spalancò gli occhi vuoti e li alzò verso di lui e rispose con queste parole figlio mio taci ti prego e non ti mettere in mente questo pensiero mi sia testimone il figlio di Leto che mi insegnò benevolo l'arte profetica e il maledetto destino che ho avuto in sorte e la cieca nube che sta sui miei occhi e gli dei di sotterra che non mi siano benigni neppure in morte se mento giuro che dal vostro soccorso non verrà ira divina prestato il giuramento erano entrambi ansiosi di porgergli aiuto subito i più giovani prepararono il pranzo per Fineo l'ultima preda offerta alle arpie e i boreadi si misero accanto per respingere con la spada l'assalto di quelle il vecchio aveva appena toccato il suo cibo che subito come acerbe tempeste come baleni balzarono dalle nubi improvvise e con un immenso stridore si avventarono al cibo smaniose a quella vista gli eroi diedero un grido ma quelle sempre stridendo e divarata ogni cosa volarono oltre il mare lontano e là non rimase altro che un insopportabile odore i due figli di Borea brandirono allora le spade e le inseguirono Zeus diede loro una forza instancabile senza di lui non avrebbero mai potuto seguirle perché volavano rapide come tempeste di Zefiro sempre quando andavano verso Fineo o ne ripartivano come quando sui monti i cani esperti di caccia corrono sulle piste delle capre o dei cerbiatti e gli si spingono addosso e in cima alle macelle serrano i denti a vuoto così serrando da presso le arpie i figli di Borea cercavano in vano protendendo le dita di prenderle quando poi le raggiunsero lontano alle isole erranti certo le avrebbero fatte a pezzi contro il volere divino se non li avesse visti la rapida iride e non fosse discesa dal cielo e non li avesse fermati ammonendoli non vi è lecito figli di Borea colpire con la vostra spada le arpie che sono i cani del potentissimo Zeus ma io vi giuro che non torneranno ad Afineo così disse e giurò sull'acqua del fiume Stige che è per gli dai tutti la più venerata e tremenda che mai più sarebbero andate alla casa del figlio di Agenole questo era stabilito dal fato ed essi cedettero al giuramento e si volsero indietro veloci per ritornare alla nave perciò gli uomini diedero il nome di Strofadi isole della svolta a quelle che prima chiamavano Erranti le arpie ed iride si separarono le une verso il profondo di una caverna di Creta iride in alto all'Olimpo la portavano in volo le velocissime ali intanto gli eroi lavarono con ogni cura la sudicia pelle del vecchio e sacrificarono pecore scelte dal bottino dei bebrici apprestata una cena copiosa nella sua casa sedettero a banchetto e Fineo mangiava con loro avidamente e con un piacere grandissimo come in un sogno poi quando furono sazi di cibo e di bevande vegliarono tutta la notte aspettando i figli di Borea e Fineo sedeva in mezzo ad essi accanto al focolare e li informava sul termine sul compiersi del loro viaggio ascoltatemi non è lecito a voi sapere ogni cosa precisamente ma quanto agli dei piace rendervi noto non vi terrò nascosto un'altra volta ho peccato svelando per mia stoltezza in ordine sino alla fine il disegno di Zeus lui così vuole che si diano agli uomini oracoli monchi perché abbiamo sempre bisogno del soccorso divino subito appena mi avete lasciato vedrete là dove il mare si stringe le rupi si implegadi che mai nessuno vi dico ha attraversato uscendone in colume perché non sono saldamente fissate alle loro radici ma spesso si scontrano l'una con l'altra e si riuniscono insieme e sopra si leva la piena dell'acqua e ribolle e intorno l'asprolido terribilmente risuona ascoltate il mio consiglio se veramente compite il vostro viaggio con saggezza e rispettando gli dei non vogliate cercare voi stessi la morte procedendo dritti stoltamente seguendo la vostra età giovanile fate dapprima la prova con un'acquolomba in auspicio e speditela davanti alla nave se passa le rupi e arriva al ponto sana e salva con le sue ali non trattenetevi più nel vostro cammino prendete in mano i remi e navigate lo stretto allora la vostra salvezza sarà nelle braccia più che nelle preghiere perciò lasciate da parte ogni altra cosa e faticate con tutte le forze prima però non vi vieto di pregare gli dei ma se invece volando in mezzo alle rocce l'uccello perisce tornate indietro sarà molto meglio cedere agli immortali non sfuggirete alla morte tra queste rocce neanche se Argo fosse fatta di ferro guai a voi non osate andare oltre i miei vaticini neanche se mi credete tre volte più odioso ai celesti di quel che sono o anche più non osate passare se l'augurio che vi ho indicato non fosse propizio riguardo a questo sarà ciò che deve essere ma se sfuggirete all'urto delle rocce ed entrate illesi nel ponto navigate allora tenendo alla destra la terra di Tinia ma dovete guardarvi dai frangenti fino a quando dopo aver doppiato il rapido Reba e il capo nero lungerete al porto dell'isola Tinia di là non molto lontano vi dirigerete alla terra dei mari Andini che si trova di fronte qui è la discesa all'Ade e qui si tende l'alta scogliera a Cherusia il vorticoso a Cheronte la taglia in profondo e riversa le sue acque da un'enorme voragine là non lontano costeggerete le molte colline dei Paflagoni quelli su cui regnava un tempo Pelope e Nezio e dal suo sangue si vantano ad essere discesi e c'è un promontorio rivolto all'orsa maggiore scosceso da ogni parte e chiamano Capo Carambi e su di lui si dividono le tempeste di Borea perché tocca il cielo proteso sul mare aperto quando è passato questo si stende la grande spiaggia all'estremo della grande spiaggia presso una punta si gettano le acque impetuose dell'alis là vicino il più piccolo iride volge al mare i suoi vortici bianchi più avanti sporge dal continente il grande gomito e sfocia il termodonte in un golfo tranquillo posto al di sotto del capo di Temiscira dopo avere attraversato una vasta pianura lì è la piana doansia e là vicino le tre città delle amazzoni e poi il paese dei calibi i uomini più travagliati che lavorano un suolo durissimo ed aspro e ne estraggono il ferro accanto a loro stanno i tibareni ricchi di grezzi oltre il capo Geneteo sacro Zeus protettore degli ospiti e dopo di loro i mossineci che là vicino nella piana boscosa ai piedi del monte costruiscono delle capanne nelle torri con tronchi di legno e delle solide torri che chiamano mossine e da quelle torri ricevono il nome quando li avrete passati approdate a un'isola nuda e con qualunque mezzo scacciate gli uccelli impudenti che in gran numero affollano l'isola vuota dove le due recine delle amazzoni o tra era ed antiope innalzarono un tempio di pietra in onore di Ares quando muovevano guerra e qui dal mare crudele verrà a voi un beneficio che mi è proibito di dirvi ma io che vi sono amico dico solo fermatevi là perché commettere ancora lo stesso peccato con la mia profezia svelando punto per punto ogni cosa oltre oltre l'isola oltre la terra che le sta di fronte sono i filiri oltre i filiri stanno i macroni e in seguito poi le immense tribù dei beccheri e poi nell'ordine vicino a questi stanno i sapiri e confinanti con i sapiri i bizzeri e al di là dei bizzeri gli stessi colchi guerrieri ma voi continuate la rotta finché sarete arrivati al recesso segreto del mare dove attraverserete la terra di Cita scendendo dai monti amaranti lontano e dalla pianura di Circe il fase impetuoso riversa dentro il mare le vaste correnti spinta la vostra nave sino alla foce del fiume allora vedrete le torri di Eta Citeo e il bosco ombroso di Ares dove sopra la cima di una quercia è disteso il vello ed un drago prodigio orrendo a vedersi lo veglia in ogni momento né giorno né notte il dolce sonno vince i suoi occhi spietati così disse e subito li colse il terrore a sentirlo a lungo rimasero colpiti senza parole poi finalmente parlò il figlio di Esone angosciato dal vaticinio terribile vecchio tu ci hai informato sul compiersi del nostro viaggio e ci hai detto il segno che noi dovremo seguire per passare nel ponto attraverso le rupi tremende ma se fuggiti a quelle ci sarà per noi ritorno in terra di Grecia questo da te io vorrei sopra ogni cosa sapere che fare come di nuovo percorrere tanto tratto di mare inesperto assieme ai compagni inesperti se è vero che Ea nella colchide si stende agli estremi confini di mare e di terra così disse e il vecchio Fineo così gli rispose figlio mio appena sarai sfuggito alle terribili rupi abbi fiducia un Dio guiderà il tuo viaggio per altra strada al ritorno da Ea e verso Ea avrai guide abbastanza cercate però amici miei l'inganno di Cipride l'inganno di Cipride che vi venga in aiuto in lei sta la gloria delle vostre fatiche ed ora a me non chiedete nulla più oltre così disse il figlio di Agenole accanto a lui i due Boreadi venuti dal cielo posarono a terra i rapidi piedi gli eroi si alzarono quando li videro giungere e Zete ancora ansimando forte per la fatica disse i compagni ansiosi quanto lontano cacciarono le arpie e come Iride aveva impedito di ucciderle e i giuramenti prestati dalla benevola dea e come quelle sprofondarono per lo spavento nell'enorme grotta del monte di Teo i compagni furono lieti di queste notizie ma più di tutti Fineo subito Giasone gli si rivolse con grande affetto e gli parlò in questo modo un dio certamente Fineo si è preso cura della tua misera sorte e ci ha portato qui da lontano perché i figli di Borea ti prestassero aiuto e se ti volesse ridare anche la luce degli occhi sento che ne sarai lieto come tornando nella mia casa disse e il vecchio rispose a lui tristemente figlio di Esone questo non si può avere non c'è più rimedio vuoti e consunti sono i miei occhi in cambio di questo il dio mi conceda presto la morte quando sarò morto allora avrò tutto il mio bene questi discorsi si scambiavano l'uno con l'altro poco dopo mentre parlavano apparve l'aurora attorno a Fineo si raccolsero i vicini che erano soliti frequentarlo giorno per giorno e portargli sempre una parte dei loro cibi a tutti anche ai più umili il vecchio dava risponsi accurati e molti coi suoi vaticini li aveva salvati dalla sciagura per questo venivano e gli portavano il cibo e con gli altri venne Parebio che gli era più caro di tutti e con piacere Parebio li vide nella sua casa da tanto tempo Fineo aveva predetto che un giorno uno stuolo di eroi dalla Grecia diretti alla terra di Eta sarebbero prodati alla terra Tinia e per volere di Zeus avrebbero messo fine agli assalti dei mostri a tutti il vecchio diede il conforto di savie parole e gli congedava ma il solo Parebio lo fece rimanere assieme agli eroi subito gli ordinò di cercare e portargli il più bel montone quando fu uscito disse ai naviganti riuniti queste cortesi parole Amici non tutti gli uomini sono superbi non tutti scordano i benefici guardate quest'uomo che un tempo è venuto a cercarmi perché voleva conoscere il proprio destino quanto più lavorava quanto più si affaticava sempre più lo tormentava la mancanza dei mezzi di vita cresceva giorno su giorno sempre più atroce e per le sue pene mai non c'era respiro ma pagava una dura pena per una colpa del padre costui trovandosi solo nei boschi a tagliare la legna disprezzò le preghiere di una ninfa madriade che gli chiese piangendo di non tagliare il tronco di quercia che era cresciuto con lei dove aveva trascorso la vita ma lui incurante recise l'albero nell'arroganza della sua giovinezza ma poi la ninfa mandò una sciagura incurabile a lui e ai suoi figli io quando venne da me conobbi la colpa e gli ordinai di costruire un altare alla ninfa di tinia e compiervi dei sacrifici per espiazione chiedendo di scampare alla sorte paterna e da quando è sfuggito al castigo divino non si è scordato di me non mi ha trascurato che anzi a fatica lo mando alla sua casa tanto desidera porgermi aiuto nella disgrazia così disse il figlio di Agenore e subito giunse Parebio portando dal greggio due bestie Giasone si levò in piedi al cenno del vecchio e con lui i due figli di Borea subito invocarono il dio profetico Apollo sacrificando sul focolare verso il tramonto del giorno i compagni più giovani prepararono un pranzo copioso e dopo avere mangiato si coricarono quali accanto alle gomene quali riuniti dentro la casa di Fineo alla mattina si levarono i venti estesi che soffiavano ugualmente per tutta la terra mandati da Zeus per questa ragione si dice che al tempo degli uomini antichi una donna di nome Cirene pascolava le greggi presso la palude Penea e aveva carissima la sua verginità ed il letto non toccato dal maschio ma la rapia Apollo mentre badava alle pecore sulla riva del fiume la portò via lontano dalla Tessaglia e la diede alle ninfe che hanno la loro sede in Libia presso il Mirtosio e qui partoria ad Apollo Aristeo che i ricchi tessali chiamano Agreo e Nomio cioè cacciatore e pastore e per amore del Dio rese anche lei una ninfa cacciatrice immortale il figlio ancora infante lo diede a crescere nella grotta del centauro Chirone cresciuto le muse gli diedero moglie e gli insegnarono la medicina e l'arte dei vaticini e gli assegnarono da custodire tutte le grezzi che pascolavano nella pianura a Tamazia di Ftia e alle falde dell'Otri presso il corso del sacro Apidano e poi quando Sirio dal cielo bruciò le isole del re Minosse e il tempo passava e non si trovava rimedio allora per consiglio del Dio Signore dei Dardi chiamarono Aristeo a difenderli contro il flagello egli obbediendo al comando del padre abbandonò la Ftiotide e prese dimora in Ceo raccogliendovi il popolo dei Parrasi che trae origine dal sangue di Licaone costruì un grande altare in onore di Zeus Dio delle piogge e celebrò sopra i monti i riti per Sirio e per i figli di Crono perciò mandati da Zeus i venti estesi rinfrescano per 40 giorni la terra e a Ceo i sacerdoti ancora oggi compiono dei sacrifici prima che sorga la costellazione del cane così si narra gli eroi dovettero restare fermi in quel luogo e ogni giorno i tini mandavano loro grati per Fineo innumerevoli doni ospitali poi costruito sulla riva di fronte un altare ai dodici dei e collocate le offerte salirono sulla nave e si misero ai remi ma non si scordarono di portare con loro una colomba trepida per il terrore Eufemo la portava tenendola in mano sciolsero da terra le doppie gomene e non sfuggì ad Atena la loro partenza la dea subito in fretta posò i piedi sopra una nuvola lieve che pure portava il suo peso in un istante si slanciò verso il ponto a soccorrere i rematori come chi verrando in esilio dalla sua patria così spesso vaghiamo noi uomini afflitti e nessuna terra è troppo lontana tutte le strade si aprono al nostro sguardo pensa alla sua casa e gli si mostrano insieme le vie del mare e di terra e ora l'una ora l'altra con gli occhi e con l'acuto pensiero non meno veloce si slanciò la figlia di Zeus e mise piede sulla costa Tineide del ponto arrivati gli eroi allo stretto tortuoso passaggio chiuso da entrambe le parti dalle rupi scoscese il vortice della corrente colpiva di sotto la nave nel suo cammino e andavano molto avanti ma con paura perché già colpiva agli orecchi il fragore tremendo delle rupi che urtavano l'una sull'altra e urlava la spiaggia battuta dal mare allora si alzò in piedi e ufemo tenendo la colomba nella sua mano salì sulla prora gli altri regolarono per comando di Tifi figlio di Agnia la voga per passare poi tra le rupi fidando nel loro vigore d'improvviso le videro superato l'ultimo braccio di terra le videro aprirsi e i cuori furono sconvolti eufemo lanciò la colomba e tutti alzarono il capo a guardarla quando volò tra le rocce e quelle di nuovo urtarono insieme l'una sull'altra con grande fragore si levò in alto un'ondata ribollente come una nuvola il mare diede un urlo feroce e rimbombò il grande etere tutto all'intorno risuonarono le grotte cave sotto gli scogli scoscesi quando le invasero i flutti si riversò sulla riva in alto la bianca schiuma delle onde ruggenti la corrente volgeva in tondo la nave le rocce tagliarono le ultime punte alla coda della colomba ma essa volò illesa e i rematori diedero un grido allora tifi ordinò di remare con forza di nuovo le rocce si stavano aprendo ma remando tremavano finché il riflusso dell'onda li lasciò tra le rupi e tutti furono presi da atroce terrore sopra le loro teste era la morte che non conosce rimedi già da una parte e dall'altra si apriva pastissimo il ponto ed improvviso si levò su di loro una grande ondata ricurva come una rupesco scesa quando la videro chinarono il capo perché pareva volesse invadere Argo e sommergerla tutta ma più rapido tifi alleggerì la nave che la voga rendeva pesante e la massa dell'acqua arrotolò al di sotto della carena però dalla poppa d'acqua tirò indietro la nave lontano dalle rupi ed Argo si mosse in alto sulla cresta dell'onde andando da tutti i compagni Eufemo urlava che remassero con ogni forza e quelli frangevano l'acqua con grandi grida ma quanto la nave avanzava sotto la spinta dei rematori due volte più si muoveva all'indietro si piegavano i remi come archi ricurvi sotto l'enorme sforzo degli uomini poi piombò un'onda opposta e Argo corse in avanti come un cilindro correportato dall'onda potente sopra il mare profondo la fermò proprio in mezzo alle rupi il vortice della corrente le rupi gemevano scosse e le tavole d'argo erano incatenate allora Atena si appoggiò ad una solida roccia con la sinistra e con la destra spinse la nave dritta attraverso il passaggio essa si levò alta come il volo di una saetta tuttavia le rupi scontrandosi l'una sull'altra tagliarono via la punta degli ornamenti della plustre Atena di nuovo balzò sull'Olimpo quando furono in salvo mentre le rocce serrandosi insieme misero salde radici questo era nei fatti divini quando un uomo le avesse viste e attraversate sopra una nave gli eroi respirarono dopo il terrore gelido guardando il cielo e la sconfinata distesa del mare si sentivano scampati al regno dei morti Tifi il timoniere parlò allora per primo grazie alla nostra nave credo che ormai siamo in salvo ma a nessuno si deve questo quanto ad Atena che nella nave ha sperato una forza divina quando Argo ne ha inchiodato le tavole e non può essere vinta figlio di Esone non devi più temere il comando del tuo sovrano poiché la Dea ci ha concesso di sfuggire alle rupi le prove che ancora ci aspettano avranno buon esito così ha profetizzato il figlio di Agenore Fineo disse e intanto guidava la nave in alto mare di fronte alla costa Bitinia ma gli rispose Giasone con cortesi parole Tifi perché consolare con questi discorsi il mio affanno ho sbagliato ho commesso un errore sciagurato e senza rimedio avrei dovuto sottrarmi al comando di Pelia e rifiutare subito il viaggio anche a costo di morire anche a costo di essere orribilmente sbranato ora soccombo a un'angoscia suprema a intollerabili affanni e odio navigare le gelide strade del mare ma anche toccare la terra perché dappertutto vi sono uomini ostili sempre alla fine del giorno veglio notti di gemiti da quando per causa mia vi siete raccolti all'inizio meditando sopra ogni cosa e facilmente tu parli perché devi darti pensiero solo della tua vita io nemmeno un momento temo per me ma per l'uno o l'altro di voi per te e per gli altri compagni se non riuscirò a riportarvi in Columi in Grecia così disse mettendo alla prova i compagni ed essi rumoreggiarono con parole ardite Giasone si rallegrò nel suo cuore del conforto che gli veniva da loro e in tutta franchezza rispose amici miei si accresce il mio coraggio nel vostro valore anche se dovessi andare attraverso gli abissi dell'Ade non avrei più paura con voi così saldi in mezzo ai pericoli ma ora che abbiamo passato alle simplegadi penso che non ci saranno altre paure come queste in futuro se noi continuiamo il nostro viaggio seguendo fedelmente i consigli di Fineo così parlò e smessi i discorsi ripresero l'incessante fatica dei remi ben presto passarono le rapide acque del fiume Reba e lo scoglio di colonne e non molto dopo raggiunsero il capo nero e poi le foci del Fillide là dove un tempo Dipsaco accolse presso di sé il figlio del re Atamante che sull'Ariete fuggiva dalla città di Orcomeno era Dipsaco il figlio di una ninfa dei prati non amava la violenza e abitava insieme alla madre presso le acque paterne facendo sereno le greggi videro il suo santuario e le vaste rive del fiume e la piana e le profonde corrente del calpe e passarono oltre remando di giorno e poi ancora durante la notte senza vento infaticabili e come solcando un terreno ubertoso s'affaticano i buoi e un copioso sudore sgorga dai fianchi e dal collo si volgono gli occhi obliqui di sotto al giogo e il respiro arido esce giamendo dalle bocche e puntano i piedi sulla terra e lavorano per l'intera giornata simili a loro gli eroi spingevano i remi sul mare quando non c'è ancora la luce divina ma non è più tutto scuro è un lieve chiarore percorre la terra gli uomini appena svegli lo chiamano crepuscolo allora sfatti dalla fatica entrarono al porto dell'isola tiniade deserta e sbarcarono a terra e ad essi apparve il figlio di leto che dall'alicia andava lontano verso l'infinita moltitudine degli ipoerborei mentre avanzava si agitavano sulle sue guance come grappoli d'uva e riccioli d'oro nella sinistra portava l'arco d'argento sulle spalle pendeva la faretra l'isola tutta si scuoteva sotto i suoi piedi e i flutti inondavano il suolo alla sua vista gli eroi furono presi da sgomento e stupore nessuno osava guardare di fronte negli occhi belli del dio stavano fermi col capochino a terra e Apollo trascorse verso il mare lontano per l'aria solo più tardi Orfeo si rivolse agli eroi e disse queste parole orsù consacriamo quest'isola a Febo dio del mattino poiché nel mattino il dio è apparso a tutti noi passando e sacrifichiamogli ciò che possiamo edificando un altare sulla riva se poi ci concede di ritornare sani e salvi in tessaglia allora gli offriremo cosce di capre cornute ma vi prego di rendergli onore così col grasso e le libagioni ma tuo signore si ci propizio e ci sia propizia la tua apparizione così disse e alcuni subito con delle pietre innalzarono l'altare altri girarono per tutta l'isola in cerca di cerbiatti e capre selvatiche che spesso stanno nel folto delle foreste il figlio di leto diede loro una buona caccia e secondo il rito bruciarono sull'altare due cosce a volte di grasso invocando a pollo col nome di dio del mattino sulle vittime ardenti intrecciarono un'ampia danza celebrando il bel febo iè peana e in mezzo ad essi orfeo il figlio di eagro iniziò sulla cetra bistonia un canto amoroso come una volta il dio sotto il gioco pietroso del parnaso uccise con le sue frecce il mostruoso pitone era ancora un giovane imberbe fiorente ancora di riccioli perdona signore le tue chiome restarono sempre intunse intatte come giusto è letto soltanto la figlia di ceo le accarezza con le sue mani e più volte lo incitavano le figlie di plisto le ninfe corice gridando ye ye e da questo loro gridare ha origine il bel ritornello che si intona in onore di febo quando l'ebbero celebrato con il canto e la danza giurarono con le pie li bagioni e toccando le vittime di darsi l'un con l'altro in amicizia un vicendevole aiuto resta ancora oggi il tempio che costruirono alla benigna concordia la dea alla quale si deve la gloria più grande all'alba del terzo giorno col soffio possente di zefiro lasciarono l'isola impervia e videro e costeggiarono di fronte la foce del fiume Sangario e la fertile terra dei mariandini e il corso di lico e il lago antemoiside procedendo vibravano al vento le cime e gli attrezzi di Argo al mattino era caduto il vento durante la notte giunsero lietamente al porto del capo a Cherusio che si leva con rupi impervie e guarda al mare bitinico sotto vi sono piantati scogli lisci battuti dal mare e tutto intorno terribilmente risuona l'onda che li avviluppa in alto sopra la cima sono dei platani amplissimi dal capo declina in basso verso l'interno una valle profonda qui è la grotta dell'Ade completamente avvolta da rocce e foreste ne spira un soffio gelido che senza tregua esala dal profondo angoscioso recesso e tutto intorno crea la candida brina che scioglie soltanto il sole di mezzogiorno ma il silenzio possiede questo terribile capo geme al rimbombo del mare alle foglie mosse agitate dai venti della caverna qui è anche il corso del fiume Acheronte che attraverso il capo si getta nel mare orientale una profonda voragine lo inabissa dall'alto tra i posteri i megaresi nisei vi attribuirono il nome di Sonaute salvatore dei naviganti per chiedere loro salvezza quando accengendosi a stabilirsi nella terra dei mariandini furono presi nel pieno di una furiosa tempesta passarono con la nave attraverso il capo Acherusio e vi sbarcarono il vento era appena caduto non restò a lungo nascosto a Lico il re del paese e ai mariandini che erano approdati gli eroi gli uccisori di Amico come già tutti sapevano prima per fama per questa ragione li accolsero in amicizia e come a un dio diedero il benvenuto a Polluce raccolti da tutte le parti perché da moltissimo tempo erano in guerra contro i superbi bebrici andati in città tutti insieme passarono il giorno come amici dentro le case di Lico e qui banchettarono e godettero insieme il piacere dei mutui soccorsi il figlio di Esone gli disse la stirpe e il nome di tutti i suoi compagni gli disse i comandi di Pelia e come li avevano accolti le donne di Lemno e ciò era accaduto a Cizzico presso i Dolioni e come giunti al Cio nella Misia contro il volere lasciarono l'eroe Eracle e i vaticini di Glauco come avevano ucciso i bebrici e Amico le profezie di Fineo e le sue sventure come sfuggirono alle rupi Cianee e incontrarono Apollo nell'isola e mentre narrava gli eventi nel loro ordine Lico ascoltava l'animo in preda all'incanto ma nell'udire dell'abbandono di Eracle il dolore lo prese e disse queste parole amici miei quale uomo avete perduto quale soccorso nel vostro viaggio per andare a Eeta io lo conosco bene l'ho visto in questa terra in casa di mio padre d'Ascilo quando attraverso la terra d'Asia giunse qui a piedi andava a prendere il cinto della guerriera Ippolita e mi trovò che la lanugine appena mi copriva le guance e qui nei giochi per mio fratello Priola ucciso dai misi che il nostro popolo da quel tempo piange con tristissimi canti careggiò e vinse nel pugilato il fortissimo Tizia che per bellezza e forza spiccava tra tutti i giovani e gli fece cadere a terra i denti poi oltre ai misi rese suddite di mio padre le genti dei Migdoni che abitano nelle campagne vicine e vinse le tribù dei Bitini fino al corso del fiume Reba e allo scoglio Colonio e gli cedettero anche i Paflagoni nipoti di Pelope quanti ne circondano le acque nere del billo ma oggi in assenza di Eracle i Bebrici e l'insolenza di Amico mi hanno tolto moltissime terre e posto i confini sulle marcite del Lipio ma per opera vostra sono stati puniti e io vi dico che non fu senza il volere divino che tu figlio di Tindaro portasti guerra ai Bebrici quando uccidesti quell'uomo così per questa ragione per quanto io potrò mostrarvi la mia gratitudine lo farò volentieri è questo il dovere dei deboli verso i più forti che hanno portato soccorso per primi e manderò con voi compagno del vostro viaggio mio figlio Dashilo con lui troverete genti ospitali navigando finché giungerete alla foce del termodonte inoltre farò costruire per i Tindaridi un tempio in alto sulla cima del promontorio a Cherusio e da lontano sul mare che da lontano sul mare lo vedano i naviganti tutti e li onorino e voglio in più dedicare ad essi come a dei fertili campi di terra atta ad essere arata di fronte alla nostra città così passarono il giorno in allegria a banchettare all'alba scesero in tutta fretta alla nave e Lico stesso li accompagnava offrendo moltissimi doni e fece andare da casa assieme a loro suo figlio qui la sorte segnata colpì il figlio di Abante Itmone esperto di vaticini ma non lo salvarono i vaticini perché il destino lo condusse a perire giaceva in una palude del fiume ricco di canne e rinfrescava nell'acqua i fianchi e il vastissimo ventre un cinghiale dalle zanne bianche un mostro che terrorizzava anche le ninfe dell'acqua nessuno sapeva che c'era viveva da solo nella vasta palude il figlio di Abante camminava sopra un rialto del fiume fangoso la belva balzò dal canneto improvvisa e lo azzannò sulla coscia violentemente e recise nel mezzo i nervi insieme con l'osso lanciò un grido acutissimo e cadde per terra gridarono i compagni affollandosi intorno a lui e subito Peleo scagliò l'asta contro la fiera che fuggiva nella palude ma si voltò e gli balzò addosso allora Ida lo colpì e il cinghiale cadde urlando sulla rapida lancia lo lasciarono a terra nel punto dove era caduto e tristemente portarono Idmone alla nave agonizzante spirò tra le braccia dei suoi compagni non poterono dunque pensare a riprendere il viaggio e restarono afflitti a rendere al morto gli onori dovuti lo piansero tre giorni interi e poi all'indomani lo seppellirono con grande pompa al rito prese parte il popolo col suo sovrano Lico sgozzarono innumerevoli pecore il sacrificio che spetta secondo l'uso ai defunti fu poi innalzato in quella terra il sepolcro all'eroe e sopravvive un segno alla vista dei posteri un grullo d'olio selvaggio quali si usano per parare le navi fiorente di fronde poco sotto la vetta del capo a Cherusio e se guidato dalle muse devo dirlo con piena franchezza Febo ordinò chiaramente ai Beoti e ai Nisei di onorare Idmone come loro patrono e attorno all'olivo selvaggio fondare la loro città ma quelli al posto del pio nipote di Eolo onorano invece ancora oggi Agamestore chi tra loro morì perché un'altra tomba gli eroi dovettero dare a un loro compagno infatti due sepolcri ancora oggi si vedono si dice che morì allora Tifi figlio di Agnia non era nel suo destino portare più oltre la nave ma un rapido morbo lo addormentò lontano dalla sua patria nel mentre che i suoi compagni rendevano onore al morto figlio di Abante dopo la prima sventura fu insopportabile ad essi un nuovo lutto quando anche Tifi lebbero presto sepolto caddero in preda all'angoscia di fronte al mare avvolti nei loro mantelli non pensavano più né a mangiare né a bere il loro cuore era battuto dalla pena e il ritorno era molto lontano dalle loro speranze e ancora più tempo sarebbero stati fermati dalla tristezza se era non infondeva un enorme coraggio ad Anceo nato presso le acque del fiume Imbrasio da Asti Palea e da Posidone ed abilissimo nel guidare le navi egli si rivolse a Peleo con grande slancio figlio di Eaco come si può trascurare la nostra impresa e restare tanto in terra straniera non perché fossi un prode guerriero Giasone mi hai portato con te da Partenia alla conquista del vello ma perché esperto pilota non c'è dunque nessun timore per la guida di Argo e del resto ci sono altri uomini abili così che chiunque mettiamo a poppa non ci farà correre rischi nel navigare ma tu dillo presto e incoraggia i compagni che da uomini prodi ricordino la nostra impresa così disse e il cuore di Peleo si riempiva di gioia e subito dopo parlò in mezzo ai compagni sciagurati perché continuare così un inutile lutto quei due sono morti per il destino che ebbero in sorte ma altri piloti ci sono pure tra noi e molti perciò non tardiamo a provarli svegliatevi all'opera mettiamo da parte il dolore ma il figlio di Esone in preda all'angoscia così gli rispose figlio di Eaco dove sarebbero questi piloti quelli che prima vantavano come uomini esperti ecco che più di me sono abbattuti ed afflitti perciò prevedo per noi una sorta infelice come quella dei due che sono morti se non potremmo neppure giungere alla città del terribile Eeta né più tornare alla terra di Grecia che oltre le rupi estenderà sopra di noi un destino inglorioso invecchiando in questa terra senza uno scopo così disse ma Anceo si offerse con grandissimo slancio di condurre la rapida nave lo spingeva il volere divino dopo di lui si alzarono Ergino Nauplio ed Eufemo desiderosi di mettersi alla guida di Argo ma li trattennero i compagni la più parte di loro scelse Anceo per pilota si imbarcarono all'alba del dodicesimo giorno alle loro spalle soffiava un forte vento di Zefiro rapidamente oltrepassarono a Remy il fiume Acheronte poi fidandole il vento vissarono le vele e nel tempo sereno percorsero un largo tratto a vele spiegate presto giunsero presso la foce del fiume Callicoro dove si dice che Dioniso figlio di Zeus celebrò le sue feste quando lasciate le genti dell'India andava a stabilirsi in Tebe e là istituì le danze davanti alla grotta dove passò notti sacre senza sorriso e da quel tempo i vicini chiamano il fiume Callicoro cioè dalle splendide danze e dalla grotta hanno dato il nome di Aulio rifugio poi viderò il sepolcro di Stenelo figlio di Attore che ritornando dall'aspra guerra contro le Amazzoni dove era stato compagno di Eracle morì sulle rive del mare per ferita di un dardo che in quelle terre l'aveva colpito per un poco non passarono avanti perché Persephone stessa rimandò l'anima lacrimosa del figlio di Attore e supplicava di poter vedere per un momento i suoi pari salito in cima al sepolcro osservava la nave vestito come quando partì per la guerra attorno al suo capo splendeva l'elmo coi quattro cimieri e la cresta di porpora poi scese di nuovo nel buio oscuro a quella vista gli eroi stupirono e il figlio di Ampico Mopso il profeta gli esortò a sbarcare e a propiziarsi con li bagioni l'eroe raccolsero presto la vela e gettarono a terra le gomene sbarcati resero onore alla tomba di Stenelo fecero li bagioni e sacrificarono carni di pecora e oltre alle li bagioni innalzarono ivi un altare ad Apollo che tiene sotto la sua protezione le navi e bruciarono carni e Orfeo vi consacrò la sua lira da ciò viene il nome di lira che ha ancora oggi quel luogo il vento soffiava forte e si imbarcarono presto e spiegata la vela l'attesero con due scotte Argo avanzava rapida come in alto nel cielo lo sperviero avanza veloce con ali aperte nel vento e senza un movimento le tiene ferme nel cielo puro gli eroi costeggiarono le correnti del fiume Partenio che dolcemente scende nel mare e dove la figlia di Leto quando torna dalla caccia per ascendere al cielo rinfresca il suo corpo nelle amabili acque la notte seguente proseguirono senza sosta il loro cammino passarono sesamo e gli scoscesi eritini Crobialo Croma e la boscosa Citoro ai primi raggi del sole doppiarono il capo Carambi e costeggiarono a forza di remi la grande spiaggia per tutto il giorno e tutta intera la notte sbarcarono poi nella terra da Siria là dove Sinape figlia di Asopo fu collocata un giorno da Zeus e Zeus ingannato dalle sue stesse promesse le diede in dono di restare vergine e Dio bramava ad unirsi con lei e le promise di darle qualunque cosa desiderava in suo cuore ed essa con grande scaltrezza gli chiese la verginità la stessa astuzia usò con Apollo che pure voleva il suo amore e poi con il fiume Halis così nessuno dei maschi la possedette mai tra le sue braccia amorose là abitavano i figli dell'illustre Deimaco di Tricca dei Leonte Autolico e Flogio da chi avevano lasciato Eracle e quando videro arrivare gli eroi andarono loro incontro e si fecero apertamente conoscere poiché non volevano restare là gli imbarcarono appena soffiò il vento di Argeste e insieme con loro portati dal soffio veloce lasciarono il fiume Halis e il vicino corso dell'Iride e le terre fluviali da Siria in quel giorno stesso doppiarono da lontano il promontorio portuoso delle Amazzoni dove un tempo Eracle tese un agguato alla figlia di Ares che si era spinta troppo in avanti me la nippe allora Ippolita per riscatto della sorella gli diede la sua cintura tutta splendidamente cesellata e l'eroe la rimandò indietro in colume in questo golfo gli eroi approdarono presso la foce del termodonte il mare si gonfiava minaccioso sul loro cammino nessun fiume è simile a questo nessuno diffonde sul suolo da sé tante correnti l'una divisa dall'altra chi le contasse quattro sole ne mancherebbero per fare cento ma una soltanto è la fonte che scende al piano degli altissimi monti che si chiamano a quanto si dice monti amazzoni ma di là si disperde trovando di fronte una terra montuosa per questa ragione si apre via oblique da tutte le parti la dove incontra un pendio vicino o lontano moltissimi di questi corsi non si sa dove vanno a finire ma il fiume con pochi suoi bracci rovescia vistosamente le sue acque nel mare inospitale proprio sotto la curva del promontorio e induciando in quel luogo sarebbero scesi a battaglia contro le amazzoni e sarebbe stata battaglia cruenta non erano miti le amazzoni che abitavano la pianura do ansia non rispettavano le leggi della giustizia ma ad essa erano care soltanto la violenza e i lavori di Ares di lui erano figlie e della ninfa armonia che si unì al dio nel profondo del bosco di Acmone e gli partorì le fanciulle che amavano sopra ogni cosa la guerra se per volere di Zeus non fosse tornato il soffio di Agreste e spinti dal vento lasciarono il promontorio ricurvo dove si stavano armando le amazzoni di Temiscira infatti non stanno tutte insieme in una città ma disperse per il paese e divise in tribù da una parte queste che avevano Ippolita come loro regina da un'altra parte le Licastie e da un'altra parte ancora le Arcelie Cadesie il giorno dopo e la notte seguente costeggiarono il paese dei Calibi sono uomini che non si curano di arare coi buoi non coltivano i dolci frutti degli orti non portano al pascolo le bestie sui prati bagnati dalla rugiada ma aprono il duro terreno che produce ferro e vendono il ferro e ne traggono i mezzi di vita non sorge per loro un'alba senza fatica e sopportano il duro lavoro in mezzo al fumo e alla fuligine dopo di loro doppiarono il capo geneteo e passarono al largo della terra dei Tibareni qui quando le donne partoriscono figlia e mariti sono essi mariti che si mettono a letto e che gemono con il capo bendato e le donne provvedono al cibo per loro e preparano i bagni rituali del parto passarono poi di fronte al monte sacro alla terra dove i mossineci abitano sulle falde dei monti le torri chiamate mossine dalle quali prendono il nome le loro leggi e le usanze sono diverse da tutte le altre tutto ciò che è costume fare all'aperto ed in pubblico e nelle piazze loro lo fanno in casa in segreto e ciò che noi siamo soliti compiere in casa essi lo fanno senza biasimo in mezzo alla strada non hanno neppure vergogna di fare l'amore davanti a tutti come maiali al pascolo e senza riguardo per chi si trova presente si accoppiano in libera unione alle donne per terra il loro re sta seduto sulla mossina più alta e rende giustizia ai suoi moltissimi sudditi infelice se sbaglia nel giudizio lo chiudono per tutto un giorno digiuno e costeggiando questi paesi di fronte avevano l'isola del dio Ares per tutto il giorno fendevano l'acqua coi remi già che la brezza leggera li aveva lasciati al crepuscolo ed ecco che videro in alto slanciarsi per aria un uccello un abitante dell'isola che agitando le ali sopra il cammino di Argo scagliò su di essa una penna acuta piombò sulla spalla sinistra dell'illustre oileo ferito lasciò cadere il suo remo e gli altri stupirono a vedere il proiettile alato il compagno che gli stava accanto e ribote estrasse la freccia e faciola ferita sciogliendo dal fodero della sua spada la fascia che lo reggeva ma un altro uccello comparve in volo dopo il primo ecclizio figlio di Eurito che già teneva teso l'arco ricurvo scagliò un dardo veloce e lo colpì cadde roteando presso la nave anfidamante figlio di Aleo parlò così allora ai compagni è vicino all'isola di Ares anche voi lo sapete vedendo gli uccelli e non basteranno le frecce credo a farci sbarcare pensiamo dunque a qualche altro espediente se ricordate Fineo e volete approdare come ci ha detto neppure Eracle quando venne in Arcadia ebbe forza bastante a scazzare con l'arco gli uccelli dell'argo Stimfalide l'ho visto con i miei occhi però tenendo in mano e agitando sopra un'altura uno strumento di bronzo produsse tanto rumore che quelli impauriti fuggirono via con altissime strida perciò anche noi pensiamo qualcosa di simile e voglio dirvi anzi quello che ho già pensato mettiamoci in testa gli elmi con alto cimiero e poi metà di noi continui a remare e gli altri coprano la nave con le aste polite e con gli scudi e tutti insieme mandiamo un grido terribile saranno impauriti dallo strepito inusitato e dai cimieri ondeggianti e dalle lance levate in alto se poi giungeranno nell'isola allora levate un immenso rumore battendo gli scudi così disse e a tutti loro piacque l'astuto espediente misero in capo gli elmi di bronzo che mandavano trucci bagliori e sopra di essi ondeggiavano creste dal colore di porpora una metà di loro remava gli altri coprivano argo con le lance e gli scudi e come quando si copre una casa di tegole per ornamento e per riparo dall'acqua e tutte combaciano bene l'una con l'altra così proteggevano coi loro scudi la nave e qual è il grido che si leva da una schiera di uomini in marcia quando gli eserciti cozzano gli uni contro gli altri tale fu quello che si diffuse per l'aria al di sopra di argo non videro più nessun uccello ma quando arrivati nell'isola batterono sopra gli scudi a migliaia si levarono in volo terrorizzati come quando Zeus manda dal cielo la grandine fitta sulle città e sulle case e gli abitanti al riparo siedono tranquillamente ascoltando il frastuono che batte sui tetti la tempesta non li ha sorpresi perché prima hanno consolidato le loro case così gli eroi gettavano fitte le penne fuggendo in alto sul mare verso le alture della terra di fronte ma quale fu il pensiero di Fineo di fare approdare nell'isola l'illustre stuolo d'eroi e quale soccorso doveva venire in quel luogo alle loro speranze i figli di Frisso andavano sopra una nave di Colchide lasciata Eea ed Eeta Citeo alla città di Orcomeno a prendere le ricchezze immense del padre lui stesso morendo aveva loro ordinato di compiere il viaggio erano in quello stesso giorno nei pressi dell'isola e Zeus fece soffiare il vento di Borea segnando con le piogge l'umido arrivo di Arturo durante il giorno scuoteva appena sui monti le foglie dei rami più alti ma nella notte piombò violento sul mare e urlando il suo soffio sollevò i flutti il cielo era avvolto tutto da una calicine nera non si vedevano gli astri brillare dietro le nuvole tutto intorno incombeva la tenebra oscura i figli di Frisso bagnati temendo la morte venivano sballottati di qua e di là a caso dalle onde la violenza del vento strappò via le vele e spezzò in due la nave scossa dai flutti e qui tutte e quattro ispirati dal volere divino si appigliarono a un solo grossissimo legno uno dei tanti che pur bene inchiodati si erano spersi nel naufragio sul mare afflitti ormai vicini alla morte le onde e i soffì del vento li portarono all'isola e d'improvviso si scatenò una gran pioggia pioveva sul mare sull'isola e su tutta quanta la terra di fronte abitata dai mossineci tutti e quattro insieme col solido legno l'impeto dei marosi riscagliò sulla spiaggia dell'isola nella notte scura la grande pioggia di Zeus cessò all'alba e ben presto si incontrarono gli uni con gli altri Argo parlò per primo in nome di Zeus che tutto vede chiunque voi siate vi supplichiamo di avere pietà e di darci soccorso nel nostro bisogno la tempesta tremenda si è abbattuta sul mare e ha disperso i legni della nostra infelicissima nave su cui siamo stati costretti a salire e a percorrere il mare perciò vi preghiamo se voleste darci dei panni per coprire le nostre membra e prendere cura di noi abbiate pietà di giovani come voi che si trovano nella sventura e per amore di Zeus che protegge i supplici e gli ospiti rispettateci noi che siamo ospiti e supplici entrambi gli appartengono e anche sopra di noi sta il suo sguardo il figlio di Esone gli fece savie domande pensando che si compissero i vaticini di Fineo ben volentieri e subito vi daremo quanto chiedete ma ditemi la verità qual è il vostro paese quale bisogno vi spinge a viaggiare per mare qual è il vostro nome quale la vostra famiglia e Argo gli rispose affranto dalla Sciagura che era già prima noto credo che Frisso nipote di Eolo venne ad Eea dalla Grecia Frisso che giunse alla città di Eeta cavalcando un montone che fu mutato da Ermes in oro e il vello ancora oggi potete vederlo disteso sui folti rami di una quercia e in seguito come il montone stesso chiese che fosse fatto lo sacrificò a Zeus il figlio di Crono nella sua veste di protettore degli esuli Eeta accolse Frisso nella sua casa e gli diede in moglie la figlia Calciope senza doni per la gioia dell'animo noi siamo figli di Frisso e Calciope Frisso ora è morto assai vecchio nella casa di Eeta e noi obbedendo all'ordine di nostro padre andiamo or comeno a prendere possesso dell'eredità di Atamante se tieni a conoscere anche il nostro nome questo è Titissoro e questo è Frontis e questo Melas a me chiamatemi con il nome di Argo così disse e gli eroi si rallegrarono di questo incontro e si raccolsero intorno a loro stupiti il figlio di Esone a sua volta rispose ad essi con queste parole voi mi siete parenti dal lato paterno voi che ci chiedete di avere pietà e di darvi soccorso erano infatti fratelli Creteo e Atamante e io sono il nipote di Creteo e vado con questi compagni dalla Grecia alla città di Eeta ma di queste cose parleremo più tardi adesso prima vestitevi credo che per volere divino siete venuti da me bisognosi d'aiuto disse e diede loro dalla nave dei panni per coprirsi e poi tutti insieme andarono al tempio di Ares a compiervi sacrifici di pecore con grande zelo le collocarono attorno all'altare fatto di pietre fuori del tempio che era privo di tetto dentro stava la pietra nera sacra sopra la quale tutte le amazzone un tempo erano solite pregare non era lecito ad esse far sacrificio su questo altare di pecore e buoi ma solo dei cavalli che avevano splendidamente nutriti quando ebbero finito il sacrificio e consumato il banchetto Giasone allora parlò cominciando con queste parole veramente Zeus vede ogni cosa e non gli sfuggiamo noi che siamo uomini pi e amanti della giustizia fu lui che strappò nostro padre alla morte orditagli dalla matrigna e gli diede lontano enormi ricchezze così anche voi il dio vi ha osservati incolumi dalla tremenda tempesta ma su questa nave è possibile andare dove si vuole a Deea o verso la ricca città del nobile Orcomeno Atena l'ha fabbricata e con la scure ha tagliato le tavole dalla cima del pelio e insieme a lei Argo invece la vostra le onde violente l'hanno dispersa ancora prima che arrivi alle rupi che nello stretto urtano senza posa l'una sull'altra ma ve ne prego anche voi dateci aiuto nel nostro progetto di riportare il vello d'oro in terra di Grecia siateci guida c'è che quest'impresa io la compio in espiazione del sacrificio di frisso per cui Zeus si stegnò con gli eolidi così li esortava ma quelli non ridirono il suo discorso pensavano che non avrebbero mai trovato Eeta benigno se era nei loro disegni portare via il vello d'oro e così disse Argo turbato all'idea dell'impresa che usavano amici miei non vi mancherà il nostro aiuto se ne avete bisogno per quanto è il nostro potere ma Eeta è crudele è violento è terribile perciò ho grande paura per le sorti del vostro viaggio si vanta ad essere figlio del sole intorno a lui sono le innumerevoli genti dei colchi e nel grido feroce e nella forza immensa si mette alla pari di Ares ma anche senza contare Eeta è ugualmente difficile prendere il vello tale è il serpente che lo custodisce insonne immortale gli diede vita la terra sulle falde del caucaso sotto la rupe Tifonia dove Tifone percosso dal fulmine di Zeus figlio di Crono per aver levato contro di lui le fortissime mani versò caldo sangue dal capo si dice e in questo stato giunse ai monti e alla piana di Nisa dove ancora oggi giace sommerso sotto le acque del lago serbonide così disse e il pallore invase le guance di molti all'udire di un simile compito ma subito Peleo replicò arditamente e disse queste parole amico mio non cercare di spaventarci con i tuoi discorsi non ci manca il coraggio a tal punto da dichiararci sconfitti da Eeta nella prova delle armi anche noi andiamo là esperti di guerra io credo e nati dal sangue degli immortali quindi se non ci consegnerà in amicizia il vello d'oro ho fiducia che non gli varranno a nulla le genti di Colchide così a vicenda parlavano poi dopo aver cenato si addormentarono al mattino seguente spirava sul loro risveglio un soffio propizio vissarono quindi le vele che si gonfiarono al vento e ben presto abbandonarono l'isola di Ares la notte dopo oltrepassarono l'isola di Filiria qui Crono figlio di Urano nel tempo che aveva la signoria dell'Olimpo e regnava sopra i titani e Zeus nell'antro di Creta cresceva tra i cureti dell'Ida si unì a Filira ingannando Rea ma Rea li sorprese insieme nel letto e il dio balzò fuori e fuggì mutandosi in un cavallo dalla lunga criniera e l'Oceanina Filira lasciò per vergogna quei luoghi che andò sulle grandi montagne pelasghe e qui dall'amore col dio cangiante diede alla luce il mostruoso Chirone in parte dio in parte cavallo di là costeggiarono la terra dei macroni e quelle vastissime dei becheri e quelle dei superbi sapiri e dopo i bizzeri procedevano sempre con grande slancio spinti da un vento leggero e già ai naviganti appariva il seno segreto del ponto e si levavano le cime impervie dei monti del caucaso là dove le membra inchiodate dalle catene di bronzo all'aspera roccia prometeo nutriva col proprio fegato l'aquila che sempre e sempre tornava a scagliarsi contro di lui la videro a sera volare vicino alle nuvole con uno stridore acuto alta sopra la nave eppure sconvolse tutte le vele col battito delle sue ali perché non aveva natura d'uccello del cielo ma muoveva le ali simili a remi politi poco dopo udirono anche la voce il lamento del titano straziato nel fegato dei suoi gemiti risuonava l'aria finché di nuovo dal monte videro l'aquila ingorda scagliarsi allo stesso bersaglio a notte guidati da Argo giunsero al vasto corso dei fasi agli estremi confini del ponto qui subito ammainarono le vele e l'antenna e ne riposero nella custodia cava poi inclinarono l'albero e lo deposero anch'esso e percorsero a forza di remi la grande corrente del fiume le acque cedevano ovunque ribollendo sulla sinistra avevano i monti erti del caucaso e la città citeide di Eea sulla destra la piana di Ares e il bosco sacro del dio dove il serpente instancabile vigilava sul vello disteso sui rami di una querza frondosa lo stesso figlio di Esone versò una coppa d'oro nel fiume li bagioni suavi di puro vino in onore della terra e degli dai del paese e delle anime degli eroi morti e li pregava di concedergli aiuto benevolmente e di accogliere con fausto augurio la prodo in quel momento Anceo fece loro questo discorso siamo giunti alla terra di Colchide alle correnti del Fasi è giunto il momento che tra noi meditiamo se saggiare Eta con le maniere cortesi oppure trovare qualche altro mezzo efficace così disse e Esasone seguendo il consiglio di Argo fece portare la nave in un'ombrosa palude e la gettare le ancore vicino al luogo del loro arrivo orsu stammi vicino Erato e cantami come Giasone portò il vello a Iolco da quelle terre lontane grazie all'amore di Medea tu pure hai avuto in sorte il dominio di Cipride e incanti nell'ansia le giovani vergini tu pure hai un nome che dentro di sé contiene l'amore gli eroi stavano nascosti in mezzo ai folti canneti ma li videro Hera ed Atena e in disparte da Zeus stesso e dagli altri immortali andarono in una stanza e tennero ivi consiglio era per prima tentò in questo modo il cuore di Atena dimmi tu prima figlia di Zeus qual è il tuo pensiero che fare mediti forse un inganno per prendere il vello d'oro ad Eeta e riportarlo in terra di Grecia giacché persuaderlo con dolci parole non possono è terribilmente superbo eppure nulla si deve lasciare in tentato così disse e subito Atena le diede questa risposta era anch'io tra me e me volgevo questi pensieri quando mi ha interrogata ma ancora purtroppo non possiedo l'inganno che aiuti il loro coraggio e su tanti disegni ho già dubitato disse e fissarono gli occhi a terra ai loro piedi assorte nei pensieri poi era per prima disse il suo proposito andiamo dunque da Cipride chiediamole di parlare al suo figlio e di persuaderlo a colpire con le sue frecce la figlia di Eeta la maga e ammagliarla d'amore per Giasone credo che con le astuzie di lei Giasone riporterà il vello in terra di Grecia così parlò e l'astuto e l'astuto progetto piacque ad Atena e allora di nuovo rispose ad Era con dolci parole Era mio padre mi ha generata ignara dei dardi d'amore non conosco il bisogno l'incanto del desiderio se a ti piace questo disegno ti verrò dietro ma sarai tu a parlare quando andremo da lei disse e alzatesi andarono alla grande casa di Cipride costruita per lei dallo zoppo Efesto suo sposo quando un tempo la ricevette in moglie da Zeus entrarono nel cortile e si fermarono sotto il portico nella stanza dove la dea preparava il letto di Efesto questi era andato di buon mattino nell'officina nel vasto recesso segreto dell'isola errante dove alla fiamma del fuoco forgiava le opere splendide e lei sola in casa sedeva su di un trono adorno davanti alla porta lasciando cadere da ambo le parti i capelli sopra le candide spalle li ravvivava col pettine d'oro e ne faceva lunghissime trecce vedendole smise e le chiamò dentro e si levò dal suo trono le fece sedere e sedette di nuovo anche lei raccogliendo con le mani le chiome non curate dal pettine poi sorridendo rivolse loro queste sottili parole mia care quale pensiero quale necessità vi guida da me dopo tanto tempo perché venite non certo spesso in passato siete venute da me voi due che siete le dèi più grandi ed in risposta era le disse queste parole tu ci schernisci ma il nostro cuore è sconvolto d'affanno già sul fiume Fasi il figlio di Esone ferma la nave e con lui gli eroi venuti alla conquista del vello per tutti loro adesso che incombe vicino all'impresa grande il nostro timore ma più di tutti per Giasone quest'uomo anche se dovesse navigare laggiù nel regno dei morti per sciogliere il Sione delle catene di bronzo io lo proteggerò sempre con ogni mia forza perché non rida di me sfuggendo alla morte funesta Pelia che con arroganza mi tolse l'onore dei sacrifici e inoltre già prima mi era carissimo Giasone dal giorno che presso le acque in piene del fiume Anauro l'ho incontrato quando volevo provare la giustizia degli uomini lui tornava dalla sua caccia le cime dei monti erano piene di neve e da esse i torrenti rotolavano giù rimbombando io mi ero trasformata in una povera vecchia e il figlio di Esone ebbe pietà di me mi prese sulle sue spalle e mi portò al di là dell'acqua impetuosa perciò io non cesserò di stimarlo del resto neppure il re Pelia potrà scontare la pena se tu non gli doni il ritorno così disse e Afrodite fu presa da muto stupore turbata a vedersi davanti era che la supplicava e finalmente rispose con dolci parole lea veneranda che nulla al mondo sia così più vile di cipride se non mi prendo cura del tuo desiderio con parole o atti che possano compiere le mie deboli mani e da te non vorrò ricompensa in cambio di questo così disse ed era le diede questa accorta risposta non di forza o di braccia abbiamo bisogno non per questo siamo venute resta tranquilla e chiedi soltanto a tuo figlio che ammali la giovane figlia di Eta di desiderio per Zasone se Benigna verso di lui gli farà dono dei suoi consigli credo che facilmente conquisterà il vello d'oro e tornerà a Iolco essa ha grandissima astuzia così parlò e ad entrambe Afrodite rispose era ed Atena mio figlio ubbidirebbe piuttosto a voi non a me giacché per quanto ho sfrontato un qualche ritegno per voi lo avrà pure negli occhi ma di me non si cura non ha riguardo e mi provoca sempre ho pensato addirittura non potendone più della sua cattiveria di fargli a pezzi in sua presenza l'arco e le frecce tali minacce mi ha scagliato nella sua collera se non tenevo ferme le mani quando era ancora capace di dominare la rabbia poi avrei avuto a pentirmene così disse e le due d'è sorrisero guardandosi l'una con l'altra e Afrodite afflitta così riprese a parlare i miei dolori fanno ridere gli altri e io non devo più raccontarli a tutti basta che sia io a saperli ora poiché questa cosa a voi due sta tanto a cuore proverò a persuaderlo e non si tirerà indietro così disse ed era le prese la mano gentile e le sorrise suavemente e a sua volta le disse questo che dice Afrodite compilo subito e non arrabbiarti non vale la pena di litigare con tuo figlio la smetterà prima o poi così disse e lasciò il suo seggio accompagnata da Atena e tornarono indietro mentre Afrodite andava per le valli d'Olimpo in cerca del figlio lo trovò in disparte nel giardino fiorito di Zeus non solo ma con Ganimede quello che un tempo Zeus collocò in cielo a convivere con gli immortali preso dalla sua bellezza i ragazzi giocavano con i dadi d'oro come buoni compagni ma l'insaziabile Eros stringeva la mano sinistra piena dei dadi sul petto in piedi e un dolce rossore gli coloriva le guance Ganimede gli stava accanto inginocchiato in silenzio a testa bassa aveva ancora due dadi e li lanciò l'uno di seguito all'altro ma in vano furibondo con Eros che sghignazzava li perse anche quei due come aveva perso gli altri e se ne andò sconsolato a mani vuote senza avvedersi dell'arrivo di Cipride che si fermò davanti al suo figlio gli accarezzò il viso e gli parlò in questo modo di che cosa sorridi? sciagurato canaglia hai ingannato quel povero sciocco e l'hai sconfitto coi tuoi imbrogli orsù sii buono e fammi il favore che ti domando ti darò in dono il balocco stupendo di Zeus quello che fece per lui la nutrice a Drastea nell'antro dell'Ida quando era ancora bambino una palla veloce niente potresti avere più bello dalle mani di Efesto è fatta di cerchi dorati e attorno a ogni cerchia dall'una parte e dall'altra girano intorno gli anelli ma le giunture sono nascoste sopra di loro corre un'azzurra voluta se tu l'avrai nelle mani e la lanci lascia per aria un solco splendente come una stella io te la dono ma tu dovrai colpire con le tue frecce e incantare la figlia di Eta d'amore per Giasone e senza indugio oppure più scarso sarà il mio compenso così disse ed egli si rallegrò ad udire questo discorso gettò via i suoi giochi e aggrappato con ambo le mani alle vesti di lei di qua e di là la teneva con insistenza e la pregava di dargliela subito però Afrodite lo trasse a sé con dolci parole e lo baciò sulle guance e sorridendo rispose lo giuro sul tuo caro capo e sul mio che ti darò il dono non ti voglio ingannare purché tu scagli i tuoi dardi sulla figlia di Eta così disse e lui raccolse gli astragali e dopo averli contati li depose nello splendido seno della dea sua madre e subito si mise addosso con una fascia dorata la sua faretra era appoggiata a un albero e prese l'arco di curvo attraversò il ricco giardino del grande Zeus e varcò poi le porte aeree d'Olimpo là una strada scende dal cielo alla terra reggono la volta due cime d'altissimi monti sommità della terra là dove il sole si leva rosseggiante al mattino dei suoi primi raggi sotto di lui si vedevano il suolo fertile e le città degli uomini le acque sacre dei fiumi i monti e attorno il mare mentre passava nell'aria gli eroi nascosti appostati in un canneto del fiume tenevano l'assemblea sopra i banchi di Argo parlava il figlio di Esone e gli altri ascoltavano muti sedendo ciascuno in ordine al proprio posto amici miei voglio dirvi ciò che mi pare opportuno a voi spetterà far sì che venga compiuto comune è l'impresa e comune a tutti il diritto a parlare chi tace chi tiene per sé pensieri e progetti sappia che toglie a tutti lui solo la via del ritorno voi altri restate tranquilli in armi presso la nave io andrò alla reggia di Eta portando con me i figli di Frisso e due altri compagni mi incontrerò col sovrano e proverò se posso convincerlo con le parole a darci il vello d'oro in amicizia o se invece fidando nella sua forza disprezzerà la richiesta in questo caso sapremo prima da lui stesso la nostra disgrazia e potremo pensare se affrontarla in battaglia o se vi sia qualche altro disegno efficace rinunciando alla guerra non usiamo la forza per togliergli il suo possesso prima di aver provato con la parola meglio andare da lui e compiacerlo con un discorso spesso il discorso ottiene senza fatica addolcendo gli animi come si conviene secondo il bisogno ciò che a fatica potrebbe giungere a conquistare il coraggio Eta ha pure accolto presso di sé l'incolpevole Frisso che fuggiva dall'inganno della matrigna dal sacrificio del padre perché dappertutto e tutti anche l'uomo più cane rispettano e osservano la legge di Zeus protettore degli ospiti così disse e i giovani tutti insieme approvarono la parola di Giasone nessuno aveva altre proposte ordinò allora ai figli di Frisso a Telamone e ad Augia che lo seguissero e prese lo scettro di Hermes tosto balzarono giù dalla nave oltre l'acqua e le canne e misero piede a terra sopra un rialzo della pianura il suo nome è Circeo e qui fioriscono molti filari di salici e tamarischi e alle cime di questi sono appesi cadaveri legati con delle corde ancora oggi infatti è sacrilegio per i colchi bruciare gli uomini e neanche è lecito loro sotterrarli e innalzare sui loro corpi il sepolcro li avvolgono dentro pelli di bue non conciate e li appendono agli alberi fuori città così l'aria parte uguale alla terra giacché sottoterra ripongono le donne e questa è la norma del loro costume e mentre procedevano era sollecita verso di loro sparse per la città una fittissima nebbia così da nasconderli alla folla dei colchi nel loro cammino verso la reggia di Eta quando ebbero percorso la piana e giunsero presso il palazzo allora la dea disperse di nuovo la nube si fermarono all'entrata stupiti a vedere il cortile del sovrano e le vaste porte e i colonnati che cingevano tutti intorno le mura e in alto un fregio di pietra correva al di sopra dei capitelli di bronzo passarono tranquillamente la soglia accanto ad essa fiorivano rigogliose levandosi alte viti incoronate di pampini sotto le viti scorrevano quattro fontane perenni lavoro del dio Efesto la prima versava latte la seconda vino la terza olio fragrante e l'ultima acqua calda verso il tramonto delle pleiadi e al loro sorgere invece usciva dalla roccia cava gelida come il ghiaccio queste opere illustri aveva compiuto l'abile Efesto nel palazzo di Eta e aveva anche forgiato per lui dei tori dai piedi di bronzo e con le bocche di bronzo da cui soffiavano un fuoco terribile fabbricò inoltre un aratro tutto ad un pezzo di solido acciaio in segno di riconoscenza per il sole che l'aveva accolto sul suo carro quando era sfinito dalla battaglia di Flegra anche la porta centrale era lavorata in metallo e accanto c'erano molte porte doppie ben costruite e stanze dall'una parte e dall'altra e per tutta la lunghezza ad un ricchissimo portico e di traverso a destra e a sinistra c'erano costruzioni più alte e nella più alta di tutte abitava con la sua sposa il grande Eta e in un'altra abitava Sirto il figlio di Eta l'opartoria Sterodea una ninfa del caucaso prima che il re prendesse come sposa legittima idea la figlia più giovane di Oceano e di Teti i giovani colchi usavano chiamarlo fetonte e cioè splendido perché brillava tra i suoi coetanei nelle altre stanze stavano le ancelle e le due figlie di Eta Calciope e Medea e fu Medea che essi videro uscire dalla sua camera per entrare nella camera della sorella Era l'aveva tenuta a casa prima non era solita restare a palazzo anzi per tutto il giorno si prendeva cura del tempio di Ecate ne era la sacerdotessa come li vide vicini gridò chiaramente l'intese Calciope le ancelle lasciando cadere il filo e diffusi corsero fuori tutte affollandosi Calciope uscita con loro vide i suoi figli e con grande gioia levò in alto le mani essi abbracciarono e salutarono a loro volta la madre felici piangendo Calciope disse queste parole dunque non era destino che vagaste lontano lasciandomi nell'abbandono la sorte vi ha fatto tornare ahimè infelice quale desiderio vi ha preso della terra di Grecia per qualche sciagurata follia seguendo il comando di frisso vostro padre che in punto di morte vi diede ordini penosi al mio cuore perché andare alla città di Orcomeno quale che sia per le ricchezze del re Atamante lasciando qui vostra madre in preda al dolore così disse e intanto il re Eta uscì per ultimo e anche idea la sua sposa che aveva appena sentito Calciope subito tutto il recinto fu pieno di folla alcuni servi prepararono un grande toro altri con la scure tagliavano legna secca altri mettevano l'acqua a bollire e nessuno si sottraeva a lavorare per il suo sovrano intanto giunse Eros con l'aria chiara invisibile violento come si scaglia sulle giovani vacche l'assillo che i mandriani usano chiamare Tafano Rapidamente nel vestibolo accanto allo stipide tese il suo arco e prese una freccia intatta a portatrice di pene Poi senza farsi vedere varcò la soglia con passo veloce e ammiccando e facendosi piccolo scivolò ai piedi di Giasone Adattò la cocca in mezzo alla corda tese l'arco con ambo le braccia e scagliò il dardo contro Medea un muto stupore le prese l'anima lui corse fuori ridendo dall'altissima sala ma la frezza ardeva profonda nel cuore della fanciulla come una fiamma e lei sempre gettava il lampo degli occhi in fronte al figlio di Esone e il cuore pur saggio le usciva per l'affanno dal petto non ricordava nient'altro e consumava il suo animo nel dolore dolcissimo come una filettrice che vive lavorando la lana getta fucelli sopra il tizzone ardente e nella notte brilla la luce sotto il suo tetto si è alzata prestissimo la fiamma si leva immensa dal piccolo legno e riduce in cenere tutti i fucelli così a questo modo terribile Eros insinuatosi dentro il cuore ardeva in segreto e smarrita la mente le morbide guance diventavano pallide e rosse quando i servi ebbero imbandita la mensa per gli ospiti ed essi si furono lavati nell'acqua calda si saziarono lieti di cibo e di bevande poi Eeta interrogò benevolmente i nipoti rivolgendosi a loro con queste parole figli di mia figlia e di frisso ospite che ho onorato più di ogni altro nel mio palazzo come siete tornati alla terra di Eea forse qualche disgrazia ha interrotto il vostro cammino non mi deste ascolto quando io vi dicevo l'enorme lunghezza del viaggio ben lo sapevo avendo percorso il ciclo del sole mio padre sul suo carro quando condusse all'occidente mia sorella Circe e giungemmo alla costa tirrenica là dove essa vive ancora oggi molto molto lontano dalla terra di Colchide Eea ma a che tante parole ditemi chiaramente quale ostacolo avete trovato chi sono questi uomini che vi vengono dietro e dove siete sbarcati dalla concava nave a queste domande Argo pensando con terrore all'impresa di Giasone dede una risposta cortese prima dei suoi fratelli già che era lui il più anziano quella nave è Eta ben presto l'hanno distrutta tempeste violente noi aggrappati a una trave nella notte oscura le onde ci hanno gettato sulle spiagge dell'isola sacra ad Ars e Nialo un dio ci ha salvato gli uccelli di Ars che prima avevano il loro nido nell'isola disabitata non li trovammo più questi uomini che il giorno avanti erano scesi dalla loro nave li avevano tutti cacciati e li trattenne in quel luogo il volere di Zeus che ebbe pietà di noi o una qualche sorte perché ci diedero abbondanza di cibo e vesti udendo il nome illustre di Frisso e il tuo perché venivano alla tua reggia e se vuoi saperne il motivo non te lo nascondo quest'uomo che vedi un re desiderando cacciarlo lontano dalla sua patria e dai suoi possessi poiché superava in valore tutti gli eolidi lo manda qui senza speranza e proclama che i nipoti di Eolo non sfuggiranno all'ira tremenda di Zeus implacabile alla sua rabbia all'insopportabile contaminazione al castigo per Frisso prima che il vello d'oro ritorni in terra di Grecia la nave la fabbricata palla di Atena e non assomiglia alle navi dei Colchi tra cui noi avemmo in sorte la più sciagurata l'hanno distrutta la furia delle acque e di venti la loro nave è ben inchiodata se anche le piombassero addosso tutte le bufere e corre ugualmente nel vento è quando gli uomini senza tregua fanno forza sui remi su questa nave ha radunato gli eroi più prodi di tutta la Grecia e viene alla tua città dopo aver errato per tante città e mari terribili a chiederti il vello ma sarà come a te piace non viene ad usare la forza e vuole darti un compenso degno del dono da me ha sentito parlare dei tuoi nemici i sauromati li piegherà al tuo potere e poiché certo vuoi sapere anche il nome e la stirpe di questi uomini ti dirò tutto colui per il quale gli altri si sono raccolti da tutte le parti dell'Ellade ha nome Giasone figlio di Esone figlio di Creteo e se veramente discende da Creteo allora è nostro parente per parte di padre entrambi Creteo e Atamante erano figli di Eolo e nostro padre era figlio di Atamante figlio di Eolo quest'altro che vedi è Augia figlio del sole se mai ne hai sentito parlare e questo è Telamone figlio del nobilissimo Eaco nato da Zeus e anche tutti gli altri compagni che seguono sono figli o nipoti degli dei immortali così parlò Argo ma il re fu preso da furia al suo discorso e il petto gli si gonfiò per la rabbia disse con sdegno soprattutto era adirato coi figli di Calciope però per a loro pensava erano giunti quegli altri e gli brillavano gli occhi turbati sotto le ciglia andatevene via lontano subito via dai miei occhi fuori da questa terra canaglie voi e i vostri inganni prima che a qualcuno di voi costi caro frisso e il vello tutti d'accordo non per il vello siete venuti qui dalla Grecia ma tramando di togliermi lo scettro e l'onore regale se non vi foste prima accostati alla mia tavola gli avrei tagliata la lingua e troncate entrambe le mani e mandati via coi piedi soltanto perché in futuro non osiate più tentare simili imprese tali menzogne avete detto anche sugli dei beati così disse furioso e si gonfiava in profondo il cuore di Telamone dentro di sé voleva rispondergli in faccia parole di morte ma il figlio di Esone lo trattenne e rispose lui prima in tono cortese non ti irritare Eta per il nostro viaggio non al modo che dici veniamo alla tua città e alla tua reggia e neanche per nostro volere chi mai avrebbe l'audacia di attraversare tanto spazio di mare per prendere le cose da altri mi manda un dio e il feroce comando di un re superbo ti supplichiamo concedici il tuo favore ed io per tutta la Grecia diffonderò la tua fama illustre noi siamo pronti a compensarti subito combattendo per te se tu decideri sottomettere al tuo cettro i sauromati o qualche altro popolo così disse con voce soave adulandolo e il cuore di Eta era diviso nel petto tra due diversi pensieri se prenderli subito e ucciderli oppure provare il loro valore riflettendo questo gli parve il meglio e così rispose straniero perché parlare di tutto ciò punto per punto se veramente siete figli di dei o in ogni caso non mi siete inferiori voi che venite per prendere le cose da altri io ti darò il vello da portare via se lo desideri ma dopo una prova non sono invidioso degli uomini prodi come voi dite che è il sovrano di Grecia la prova del tuo coraggio e della tua forza sarà una fatica di cui per quanto tremenda io vengo a capo con le mie braccia due miei tori pascolano nella piana di Ares hanno piedi di bronzo e dalla bocca aspirano fuoco io li aggiogo e li conduco attraverso il duro campo di Ares di quattro iugeri e dopo averlo arato fino in fondo rapidamente getto nei solchi non il seme del grano sacro a Demetra ma i denti di un serpente feroce che una volta cresciuti prendono forma di uomini armati e io li falcio li uccido con la mia lancia quando mi vengono addosso da tutte le parti di buon mattino aggiogo i buoi e compio la mia titura al tramonto se tu sei capace di compiere questo lo stesso giorno potrai portare al tuo re il vello d'oro ma prima non te lo darò non sperarlo non sarebbe giusto che un valoroso ceda a chi vale meno di lui così disse e Giasone fissava gli occhi per terra restava muto disperato di fronte alla sua disgrazia per lungo tempo rivoltava dentro di sé la decisione da prendere e non riusciva ad affrontare arditamente l'impresa gli sembrava grandissima alla fine rispose con accortezza Eta è nel tuo pieno diritto impormi questa durissima prova ed io l'affronterò per quanto terribile anche se il mio destino sarà di morirvi per gli uomini nulla è più duro della necessità spietata che mi conduce qui per comando di Pelia così disse nella sua angoscia e a lui costernato e Eta rispose con queste parole tremende va dunque dai tuoi compagni poiché sei disposto ad affrontare l'impresa ma se tu temi di aggiogare i buoi o fuggi di fronte al raccolto mortale allora farò di tutto perché ogni altro uomo in futuro non si arrischi più a presentarsi a uno più forte di lui così disse apertamente Giasone si alzò dal suo seggio e con lui Augia e Teramone Argo lo seguì solo facendo segni ai fratelli di restare là nel frattempo uscirono dalla stanza e fra tutti splendeva il figlio di Esone per la bellezza e la grazia e addosso a lui la fanciulla fissava lo sguardo obliquo scostando lo splendido velo estruggendosi il cuore di pena come in sogno la mente volava trascinandosi sulle tracce di lui che partiva gli eroi uscirono dalla rezza in preda all'angoscia Calciope stando in guardia dall'ira di Eta corse nelle sue stanze assieme ai figli e Medea fece lo stesso ma nel suo animo si agitavano tutti gli impulsi d'amore davanti ai suoi occhi si formavano ancora le immagini di ogni cosa l'aspetto di Giasone e l'abito che indossava come parlava e come sedeva e come si mosse ad uscire e nel pensarvi le sembrò che simile a lui non ci fosse nessun altro uomo le tornavano sempre alle orecchie la voce e le dolci parole che aveva sentite tremava per lui che non uccidessero i tori o lo stesso Eta e già lo piangeva per morto senz'altro scorrevano per le sue guance le lacrime di tenero affanno e di pietà profondissima e sommessamente piangendo disse queste parole perché il dolore mi prende infelice vada alla malora costui che sta per morire grande eroe o uomo da poco oh se potesse sfuggire illeso alla morte sì questo possa avvenire divina signora Ecate e ritorni salvo alla patria ma se è il suo destino perire sotto le fiere prima almeno lo sappia che io non mi rallegro della sua sorte funesta così la mente della fanciulla era sconvolta e turbata quando furono fuori dalla città e dalla gente per la strada che avevano fatto prima venendo dalla pianura allora Argo si rivolse a Giasone con queste parole figlio di Esone tu disprezzerai l'idea che sta per dirti ma nessun tentativo va trascurato nella disgrazia sei una fanciulla te l'ho già detto che pratica incanti sotto la guida della dea Ecate figlia di Perse se riuscissimo a persuaderla non ci sarebbe pericolo che tu soccomba alla prova ma temo ahimè fortemente che nostra madre rifiuti di darci il suo aiuto e tuttavia tornerò là per pregarla poiché la morte incombe comune a tutti noi disse così saggiamente e il figlio di Esone rispose mio caro se a te così piace io non te lo impedisco va e con parole accorte prega muovi tua madre ad agire ma veramente è una vana speranza se il nostro ritorno viene affidato alle donne così disse e presto arrivarono alla palude i compagni lieti facevano molte domande vedendoli giungere ma il figlio di Esone parlò così tristemente amici miei il cuore del terribile Eta è adirato contro di noi ma non servirebbe dirvi ogni cosa ne servirebbe a voi chiedere dice che pascolano nella pianura di Ares due tori con i piedi di bronzo che dalla bocca spirano fuoco mi ha ordinato di arare con loro un campo di quattro iugeri e mi darà per semente i denti di un drago che fanno nascere da terra uomini armati e il giorno stesso devo ucciderli questo compito io l'ho accettato senza esitare non c'era scelta migliore così disse e a tutti l'impresa apparve impossibile a lungo muti senza parole si guardavano gli uni con gli altri abbattuti dalla sventura e dall'impotenza Peleo alla fine parlò arditamente rivolgendosi a tutti i compagni ora è il momento di riflettere su cosa fare ma io non credo che nessun consiglio ci dia tanto aiuto quanto la forza delle nostre braccia se tu pensi di poter aggiogare i tori di Eta eroe figli di Esone e desideri questa fatica allora mantieni la parola che hai dato e preparati ma se il tuo cuore non ha fiducia piena ed intera nella tua forza allora tu non esporti e non stare a cercare un altro tra questi uomini io non mi tirerò indietro la morte è il peggio che può capitare così disse Peleo a Teramone si turbò il cuore nel petto e si alzò di slancio per terzo superbamente si revò in piedi Ida e poi il figlio di Tindaro e poi il figlio di Eneo pari agli uomini di più maturo vigore benché sulle sue guance non fosse ancora la prima peluria di tale forza si esaltava il suo animo gli altri si ritirarono restando in silenzio ma subito Argo tenne questo discorso agli eroi bramosi di lotta amici miei sarà questa l'ultima scelta ma penso piuttosto che un utile aiuto mi verrà da mia madre per quanto impazienti restate perciò nella nave dove siete è sempre meglio aspettare che per audacia scegliersi una morte terribile vive una fanciulla nel palazzo di Aeta che la dea Ecate ha più di ogni altra istruita nell'arte di tutti i filtri che produce la terra e il mare infinito e con essa sa domare la forza del fuoco instancabile e ferma in un momento le acque scrocianti dei fiumi incatena gli astri e le sacre vie della luna venendo qui dal palazzo durante la strada abbiamo pensato se nostra madre che lei e sorella potesse persuaderla venirci in aiuto in questa prova se anche a voi piace oggi stesso io sono pronto a tornare alla reggia di Aeta tenterò e forse tenterò con l'aiuto di un dio così disse ed i dei propizi inviarono un segno una colomba tremante fuggendo dalla violenza di uno sparviero cadde dall'alto atterrita nel grembo del figlio di Esone e lo sparviero si impalò sulla plustre allora subito Mopso rivolse a tutti i compagni queste parole profetiche amici questo segno ci giunge per volere divino non saprei dargli nessun altro senso migliore andare dalla fanciulla e parlarle con ogni mezzo io non la credo insensibile al nostro destino se è vera la profezia di Fineo anche in Afrodite risiede la speranza del nostro ritorno ora il suo dolce uccello è scampato alla morte e come il mio cuore prevede secondo questo prodigio così possa essere pregate amici miei ci terea di venirci in aiuto e senza indugio seguite il consiglio di Argo disse e i compagni approvarono memori delle istruzioni di Fineo solo il figlio di Afareo Ida si levò in piedi e infuriato gridò a grandissima voce ahimè siamo venuti qui in compagnia di donnette che chiamano in loro soccorso Afrodite rifiutano il combattimento e badano alle colombe e agli sparvieri non più alla forza di Ares andate in malora e non pensate più alle cose di guerra ma a sedurre con preghiere le fragili vergini così parlava con rabbia e molti compagni mormoravano a bassa voce ma nessuno lo contraddisse sedette allora pieno di collera subito Giasone li rincorò ed espose il suo pensiero Argo lasci la nave poiché così è stato deciso da tutti ma noi altri dal fiume approdiamo alla terra e apertamente gettiamo le gomene non è più tempo di stare nascosti evitando il combattimento così disse e subito impose ad Argo di ritornare in città velocemente gli altri secondo il comando di Giasone tirarono a bordo le ancore e a forza di remi uscirono un poco dalla palude e si accostarono a terra subito Eta convocò l'assemblea dei colchi fuori del suo palazzo là dove si riunivano anche in passato e qui tramava inganni e mali irresistibili contro gli eroi appena i tori avessero fatto a pezzi colui che accettò la terribile prova bisognava tagliare gli arbusti in cima alla folta collina e incendiare la nave assieme a tutti gli uomini sputassero fuori la loro infausta superbia coloro che avevano osato un disegno così tracotante neanche frisso il nipote di Eolo benché fosse in grande bisogno l'avrebbe mai accolto nella sua casa frisso che pure si distingueva tra tutti gli ospiti per la pietà e l'amitezza se Zeus in persona non mandava Hermes dal cielo e il suo messaggero perché le preghiere trovassero buona accoglienza tanto meno sarebbero a lungo rimasti impuniti i pirati che erano venuti nella sua terra che avevano in animo di mettere le mani sui beni altrui e tramare inganni nascosti e saccheggiare le stalle con scorrerie di ribaldi e inoltre gli avrebbero pagato il giusto castigo i figli di frisso che senza scrupolo si erano uniti a dei malfattori per togliergli il trono e lo scettro regale come gli aveva predetto l'oracolo luttuoso del sole suo padre che ben doveva guardarsi dagli inganni sottili dai progetti della sua stirpe dalla sventura versatile proprio per questa ragione li mandò come loro volevano in terra di Grecia a eseguire i comandi del padre un lungo viaggio delle sue figlie non aveva timore che concepissero contro di lui pensieri odiosi e di suo figlio Assirto neppure nei figli di Calciope era per lui la rovina così nell'ira svelava i suoi tremendi progetti al popolo e li minacciava sorvegliassero bene la nave e gli uomini e nessuno sfuggisse alla morte e intanto Argo tornato al palazzo di Eta pregava con ogni mezzo la madre che supplicasse Medea di soccorrerli e già Calciope stessa ci aveva pensato ma la tratteneva il timore o che le sue preghiere riuscissero inutili e fuori luogo se Medea aterrita dalla collera atroce del padre o se Medea pure cedeva che tutto venisse alla luce un sonno profondo riposava dai suoi dolori Medea distesa sul letto ma la turbavano sogni terribili ingannatori come succede a chi è in preda all'angoscia le sembrava che l'ostraliero affrontasse la prova non per il desiderio di portar via il vello d'oro che non per questo fosse venuto alla reggia di Eta ma per portarla nella sua casa come legittima sposa e vedeva se stessa lottare coi tori e sconfiggerli agevolmente ma i suoi genitori mancavano alla promessa dicendo che non a lei avevano dato l'incarico di aggiogare i tori e tra gli stranieri e suo padre sorgeva una lite insanabile entrambe le parti si rimettevano a lei sarebbe stato ciò che sceglieva il suo cuore e lei sceglieva subito lasciava i suoi genitori per lo straniero loro riprese un immenso dolore e diedero un grido di raffurente sparve il sonno a quel grido e balzò su tremando per la paura e guardò intorno ai muri della sua stanza astento li prese fiato nel petto e gridò infelice quale terrore mi ha dato il sogno angoscioso temo che da questo viaggio sorga un enorme sciagura palpita per lo straniero il mio cuore là nella sua patria lontana sposi una donna greca io devo darmi pensiero della mia vita di vergine della casa dei miei genitori tuttavia voglio crearmi un cuore che sia pronto a tutto e non restare più sola ma tentare semmai mia sorella mi chieda aiuto in questo frangente temendo per i suoi figli sì questo potrebbe spegnere dentro il mio cuore la pena disse e si alzò dal letto e aprì di colpo la porta vestita della sola tunica e a piedi nudi voleva vedere Calciope subito e varcò la soglia del cortile ma poi lungo tempo restò nel vestibolo trattenuta dalla vergogna e si volse e tornò indietro e dalla sua camera di nuovo si gettò fuori e di nuovo rientrò inutilmente i piedi la portavano avanti e indietro quando avanzava la vergogna la teneva ferma là dentro trattenuta dalla vergogna la spingeva il desiderio possente per tre volte tentò e si fermò per tre volte alla quarta si sentì mancare e cadde prona sul letto come una giovane sposa piange nella stanza nuziale lo splendido sposo a cui l'hanno data i genitori e i fratelli e per vergogna e riservo non si mescola alle sue ancelle resta seduta in disparte e soffre il dolore lui l'ha ucciso il destino prima che entrambi godessero il reciproco amore piange la donna straziata in silenzio e fissa gli occhi sul letto vuoto temendo il sarcasmo e le ingiurie delle altre donne così piangeva Medea d'improvviso la vide una giovane ancella venuta in quel punto una sua serva e lo riferì a Calciope subito essa sedeva tra i figli pensando al modo come poteva persuadere Medea ma di aderetta all'ancella quando udita lei la parola in attesa stupita si lanciò dalla sua camera nella camera dove presa d'angoscia la giovane si era buttata sul letto e si straziava le guance come vide gli occhi inondati di pianto così le disse ahimè Medea perché queste lacrime cos'è accaduto quale pena crudele è giunta dentro il tuo cuore forse un male divino ti ha invaso oppure hai saputo qualche funesta minaccia di nostro padre su di me e sui miei figli oh vorrei non vedere più la casa dei miei genitori nella città e abitare ai confini del mondo dove non esiste neppure il nome dei colchi così disse e le guance di lei arrossirono voleva rispondere ma la trattenne a lungo il pudore di vergine le parole le fiorivano talvolta dalla punta della lingua talvolta piombavano in fondo al petto e spesse volte correvano alla bocca suave ma non diventavano suono finalmente parlò con inganno perché la sconvolgevano gli impulsi arditi d'amore il mio cuore calciope si turba per i tuoi figli che ben presto mio padre non li uccida con gli stranieri poco fa in un brevissimo sonno ho veduto sogni luttuosi che un dio non li lasci compiersi che tu non abbia un dolore terribile per i tuoi figli disse e tentava così la sorella se mai per prima la supplicasse di venire in aiuto ai suoi figli calciope fu travolta da una pena insopportabile atroce per la paura di ciò che aveva sentito rispose con queste parole anch'io pensando a tutto ciò sono venuta da te perché tu mi aiutassi a trovare a preparare un soccorso ma giura sul cielo e la terra che quello che dico lo terrai nel tuo cuore e agirai insieme con me per gli dèi ti imploro per te stessa per i genitori fa che io non veda i miei figli sbranati da un destino funesto miseramente o morendo assieme con loro sarò per te dalla tomba un erinni tremenda così disse e mentre parlava scendeva un pianto dirotto e a terra le abbracciava con le mani i ginocchi chinarono insieme il capo sul petto ed entrambe intonarono l'una accanto all'altra il lamento attraverso la casa si levò il suono soffocato dei loro dolori poi per prima Medea angosciata parlò alla sorella infelice quale rimedio posso trovare per te che mi parli di maledizioni tremende o di erinni o se fosse in mio potere di salvare i tuoi figli e come mi chiedi io giuro il giuramento più grande dei colchi per il grande cielo e la terra profonda madre di tutti gli dèi che quanto è nelle mie forze non ti verrà a mancare purché tu mi chieda il possibile disse e calcio per rispose a lei con queste parole non puoi tu per lo straniero che te lo chiede lui stesso pensare un inganno o un qualche altro espediente che lo aiuti nella prova per amore dei miei figli argo viene da lui e mi prega di chiederti aiuto recandomi qui l'ho lasciato nelle mie stanze così disse e a lei dentro il petto il cuore balzò dalla gioia ma insieme lo splendido volto arrossì e lo coprì come un'ombra di piacere poi finalmente disse queste parole farò come volete calciope come vi piace possa non risplendere più l'aurora ai miei occhi e possa tu non vedermi vivere a lungo se per me conta qualcosa più della tua vita e dei tuoi figli che mi sono cari nipoti e compagni d'infanzia perché io sono tua sorella e anche insieme tua figlia a me come a loro hai offerto il tuo seno quando ero piccola così mi diceva mia madre ma tu va e proteggi col silenzio la mia promessa che io possa compierla all'insaputa dei genitori domattina andrò al tempio di Ecate e porterò il filtro incantato allo straniero per il quale è sorta questa contesa così Calciope uscì dalla stanza e disse ai suoi figli l'aiuto della sorella ma lei rimasta sola la prese di nuovo il pudore e una feroce paura che cosa aveva pensato per un uomo contro suo padre la notte portava il buio sopra la terra nel mare i naviganti guardavano all'orsa e alle stelle di Orione desideravano il sonno il viandante e il guardiano uno spesso torpore avvolgeva perfino la madre che ha perduto i suoi figli non più guaire di cani per la città non rumore sonoro il silenzio possedeva le tenebre sempre più nere ma il sonno soave non prese Medea molte ansie la tenevano sveglia nel desiderio di Giasone temeva la forza brutale dei tori a cui doveva soccombere di morte crudele lottando sul campo di Ares il cuore batteva fitto dentro il suo petto come dentro a una casa guizza un raggio di sole dall'acqua appena versata in una caldaia o in un vaso e nel mulinello vibra qua e là veloce così s'agitava nel petto il cuore della fanciulla versava dagli occhi lacrime di compassione e dentro la pena la rodeva senza riposo insinuandoci sotto la pelle fino ai nervi sottili fino all'estremità della nuca là dove penetra il dolore più acuto quando gli impulsi d'amore instancabili scagliano la sofferenza dentro il petto degli uomini e in un momento si diceva di dargli il rimedio fatato e poi di non darglielo anzi morire anche lei e ancora poi di non darglielo ma neppure morire restare ferma e affrontare la propria sventura poi sedette nel dubbio e disse queste parole me è infelice tra quali e quali sventure mi trovo da ogni parte il mio cuore non ha che angoscia e impotenza nessun rimedio alla pena alla fiamma ferma che brucia come vorrei che mi avessero uccisa tra le frecce veloci di Artemide prima che io lo vedessi prima che la nave greca portasse qui i figli della mia sorella calciope un dio o nerini li ha guidati di là per il mio dolore e il mio pianto muoia se il destino è di morire sul campo ma io come potrei preparare il rimedio nascondendolo ai miei genitori e cosa dire qual è il pensiero l'inganno che mi dia aiuto posso vederlo rivolgermi a lui solo senza compagni infelice anche quando sia morto non spero di avere respiro dai mali allora per me verrà la sventura quando avrà perso la vita alla malora il pudore e la fama e lui salvo per mio volere se ne vada via il leso dove il suo cuore desidera ma io il giorno stesso quando avrà compiuta la prova morrò appendendo il mio collo al soffitto o bevendo il veleno che distrugge la vita eppure anche da morta lo so scaglieranno contro di me le voci maligne l'intera città griderà la mia sorte e le donne di Colchide mi porteranno con spregio di bocca in bocca l'una con l'altra colei chiamò un uomo straniero fino a morirne e disonorò la sua casa e i suoi genitori cedendo alla lussuria quale non sarà la vergogna quale la mia sventura meglio sarebbe in questa notte stessa in questa stanza lasciare la vita per un destino nascosto sfuggendo a tutti i rimproveri prima di aver compiuto colpe innominabili disse e cercò il cofanetto dove erano tutti i suoi filtri quelli benefici e quelli mortali gemeva tenendolo sulle ginocchia e bagnava il seno di lacrime che cadevano fitte senza tregua mentre pensava alla sua terribile sorte desiderava scegliere i filtri mortali ed inghiottirli e già nel suo desiderio infelice scioglieva i lacci ma d'improvviso le venne nel cuore una cupa paura del regno odioso dei morti la sto a lungomuta scomenta davanti a lei passavano tutte le dolcezze dell'esistenza ricordava i piaceri che toccano ai vivi le gioiose compagnie della sua giovinezza e il sole apparve più dolce di prima ai suoi occhi quando passò ogni cosa al vaglio della ragione depose dalle ginocchia il cofanetto mutando pensiero secondo il volere di era e non dubitava più tra i diversi progetti ma desiderava che venisse subito l'alba per dargli il filtro che aveva promesso e poterlo vedere nel volto e spesso apriva la porta della sua camera spiando la luce e finalmente l'aurora le portò il sole agognato e tutti si mossero per la città intanto Argo ordinò ai suoi fratelli di restare lì ancora cercando di capire l'animo e i pensieri della fanciulla lui li lasciò invece e li precedete alla nave Medea quando vide la prima luce dell'alba raccolse con le mani i biondi capelli irrequieti che li cadevano senza cura poi lavò le guance secche dal pianto e unse la pelle con un unguento di nettere e indossò uno splendido peplo tenuto fermo da fibbie eleganti e si mise sul capo bellissimo un velo bianco muovendosi su e giù per la casa batteva i piedi scordando il dolore che era nel suo presente e quello più grande che avrebbe avuto in futuro chiamò le dodici ancelle che tutte dormivano nel vestibolo della sua stanza fragrante sue coetanee che mai avevano ancora diviso il letto con uomini e fece a giocare in fretta al carro i muli che la portassero allo splendido tempio di Ecate e mentre le ancelle preparavano il carro estrasse dal profondo del suo cofanetto il filtro che dicono porta il nome di Prometeo chi dopo essersi propiziata da ira la dea unigenita con sacrifici notturni ne unge il corpo non è vulnerabile ai colpi del bronzo ne cede all'ordore del fuoco ma per tutto quel giorno è più forte e più grande nacque la prima volta quando l'uccello carnefice fece colare a terra sulle montagne del Caucaso il sangue divino dell'infelice Prometeo crebbe un fiore alto un cubito che ha lo stesso colore del croco coricio e poggia su un duplice stelo dentro la terra la radice pareva carne appena tagliata l'umore simile al succo nero delle querce Medea lo aveva raccolto per farne un filtro in una conchiglia del Caspio e si bagnò sette volte nelle acque perenni e sette volte invocò la dea Brimo la grande nutrice Brimo notturna infernale la regina dei morti nella notte nera coperta da abiti neri e quando tagliò la radice nata dal sangue titanico la terra scura si scosse con un muggito profondo e Giamette lo stesso figlio di Giappeto angosciato dalla sofferenza prese il filtro e lo mise dentro la fascia fragrante che le cingeva il seno bellissimo poi uscita di casa montò sul carro veloce e con lei a destra e a sinistra due ancelle lei stessa prese in mano le redini e nella destra la sferza ben lavorata guidava per la città e le altre ancelle attaccate di dietro al carro correvano lungo la vasta strada e sollevavano sopra i bianchi ginocchi le tuniche morbide come sulle rive del dolce fiume partenio la figlia di Leto o dopo il bagno nelle acque dell'amnisio avanza per le montagne in piedi sul carro dorato portata dalle veloci cerbiatte verso una ricca ecatombe lontana le vengono dietro le ninfe compagne quali raccolte alla stessa sorgente dell'amnisio quali venute dai boschi e dalle vette ricche di fonti attorno le fiere muovono la coda e ulunano tremando al suo passaggio così correva per la città e attorno la folla cedeva il passo evitando lo sguardo della fanciulla regale quando ebbe lasciato le vie ben tracciate della città e attraversò la piana e fu giunta al tempio salto giù senza indugio dal rapido carro con slancio e parlò in questo modo alle ancelle mie care ho commesso un errore non ho capito che non dovevo andare tra gli stranieri che si aggirano per la nostra città la città tutta è presa d'angoscia per questo non è venuta nessuna delle donne che si radunavano qui tutti i giorni ma poiché noi siamo qui e non verrà nessun altro saziamo il nostro cuore con il piacere del canto e poi colti i fiori dalla tenera terra torneremo a casa allora consueta ma voi tornerete con moltissimi doni oggi se mi darete aiuto nel mio proposito Argo cerca di persuadermi e anche calciope ma voi ascoltate queste parole e serbate il silenzio che non giungano mai all'orecchio di Eta che accetti dei doni per proteggere questo straniero quello che si è impegnato ad affrontare i tori nella terribile prova ho accolto le loro proposte e l'ho invitato a venire davanti a me solo senza compagni così che i suoi doni li divideremo tra noi e gli daremo un filtro che non gli giovi ma voi quando arriva vi prego state lontane così disse e a tutte loro piacque il progetto ingannevole intanto Argo prese con sé Zasone separandolo dai suoi compagni non appena i fratelli gli ebbero detto che presto di buon mattino Medea si recava al tempio della dea Ecate e lo guidava per la pianura insieme con loro era Mopso figlio di Ampico capace di spiegare le apparizioni di uccelli e di dare buoni consigli ai compagni di strada mai nessuno al tempo degli uomini antichi nessuno dei semidei figli di Zeus stesso e degli altri immortali fu quale la sposa di Zeus rese in quel giorno il figlio di Esone nell'aspetto e nella parola gli stessi compagni erano stupefatti di vederlo risplendere di tutte le grazie l'indovino figlio di Ampico che già sapeva ogni cosa si rallegrava del viaggio c'è sulla strada nella pianura nei pressi del tempio un pioppo fiorito di innumerevoli foglie dove spesso si rifugiano le loquaci cornacchie e una di loro in quel punto battendo le ali dall'alto di un ramo lo schermì in questo modo dicendo il volere di era ecco un indovino incapace non sa ciò che sanno anche i bambini che nessuna parola soave nessuna parola d'amore può dire una giovane a un giovane quando altri estranei ci sono di mezzo alla malora sciocco indovino né afrodite propizia di spira e neanche i dolcissimi impulsi d'amore questo fu il suo rimprovero e Mopso sorrise a sentire la parola divina della cornacchia e così disse a Giasone va al tempio di Ecate e troverai la fanciulla Giasone e la troverai dolce e benevola grazie al volere di Cipride che sta al tuo fianco in quest'impresa come ci aveva già detto prima il figlio di Agenore Fineo ma io e Argo resteremo qui in disparte e aspetteremo che torni perché tu solo devi pregarla e persuaderla con parole sapienti parlava accortamente e gli altri due la provarono ma l'animo di Medea non poteva volgersi ad altro pure in mezzo ai canti quale che ella intonasse non le piaceva a lungo l'interrompeva angosciata e non riusciva a guardare tranquillamente le ancelle ma sempre girava il volto lontano a fissare la strada e più volte il cuore le si spezzava nel petto chiedendosi se era il vento che le correva vicino o il rumore di un passo non molto tempo dopo egli apparve al suo desiderio quale si rivassirio in alto sopra l'oceano allorché sorge nitido e bello alla vista eppure porta infinite sciagure alle grezzi così bello a vedersi giunse il figlio di Esone eppure le portava il travaglio di una passione angosciosa il cuore le cadde dal petto le si anebbiarono gli occhi un caldo rossore le invase le guance non pote muovere le ginocchia né avanti né indietro i piedi erano come inchiodati intanto le ancelle si erano fatte in disparte lontano erano muti senza parole l'uno vicino all'altra come le querce e i grandi pini che hanno radici nei monti e stanno senza vento vicini ed immobili ma poi sotto il soffio del vento si agitano e sussurrano senza fine così a quel modo stavano per parlare a lungo ispirati da amore il figlio di Esone la vide colpita da un male divino e le rivolse parole come carezze perché fanciulla tanto ritegno di fronte a me sono solo e non sono arrogante come tanti altri non lo ero neppure nella mia patria lascia perciò l'eccessivo pudore chiedimi o dimmi liberamente ciò che ti piace poiché ci troviamo amici l'uno dell'altra in un luogo sacro dove non è permessa la frode parla chiedi apertamente e non mi ingannare con belle parole poiché tu per prima hai promesso a tua sorella di darmi il filtro che mi ha bisogna ti imploro in nome di Ecate e dei tuoi genitori di Zeus che stende la mano sugli ospiti e i supplici e io per te sono insieme supplice e ospite io che per un destino invincibile cado ai tuoi ginocchi senza di te non posso vincere la durissima prova e secondo giustizia ti sarò grato in futuro come può esserlo chi vive tanto lontano dando gloria al tuo nome così gli altri eroi ritornati in terra di Grecia ti celebreranno e insieme anche le loro spose e le madri che già ci piangono sedute sulla riva del mare tu potresti disperdere il loro dolore anche Teseo fu salvato nella durissima prova da un affetto di vergine da Arianna la figlia che diede a Minosse Pasife la figlia del sole quando Minosse placò la sua ira salì sulla nave con lui e lasciò la sua patria fu cara anche agli dèi e un segno nel mezzo del cielo una corona di stelle che porta il nome di Arianna si volge tutta la notte fra le figure celesti e così anche a te renderanno grazie gli dèi se tu salvi un così grande stuolo di eroi dal tuo aspetto sembra che tu possegga la bontà più soave così ne tesseva le lodi ed ella abbassando gli occhi ebbe un sorriso divino e le balzò il cuore nel petto si sentì come levare in alto e la guardò dritto negli occhi non sapeva quale parola dirgli per prima perché voleva dirgli tutto insieme nello stesso tempo poi senza esitare estrasse dalla fascia fragrante il filtro ed esultando Giasone l'accolse nelle sue mani tremando tutto il suo cuore gli avrebbe dato se glielo chiedeva strappandolo al petto così dolcemente rifulgeva l'amore dal biondo capo di Giasone e le rapiva gli occhi lucenti e la gioia scioglieva il suo animo come all'aurora la luciata si scioglie sopra le rose tutti e due nel loro pudore tenevano gli occhi fissi per terra talora e talora lanciavano sguardi l'uno sull'altra sorridendo d'amore sotto le ciglia splendenti finalmente a fatica Medea parlò al figlio di Esone in questo modo ascolta bene come ho pensato di venirti in aiuto quando mio padre ti avrà consegnato i denti funesti strappati alla bocca del drago che tu dovrai seminare attendi l'ora che divide in due parti la notte e bagnati nelle acque perenni del fiume solo senza compagni vestito di abiti scuri poi scava una fossa rotonda poi sgozza un'agnella e senza tagliarla ponila cruda su una pira sopra la fossa e rendi onore ad Ecate figlia unigenita della dea perse libando da una coppa l'opera dell'alveare quando ti sarai resa propizia debitamente la dea allontanati dalla pira nei rumori di passi né l'attrato di cani ti facciano voltare indietro tutto sarebbe distrutto e con un cattivo auspicio torneresti alla nave tra i tuoi compagni al mattino inumidisci il filtro poi spogliati e ungiti il corpo avrà una forza infinita un vigore possente e lo daresti simile a quello di un dio non già degli uomini ma ungine anche la lancia e inoltre lo scudo e la spada non ti feriranno le armi degli uomini nati dal suolo né l'irresistibile fiamma che spira dai tori non sarà a lungo così ma per tutto quel giorno non temere dunque la prova ancora io voglio darti un aiuto quando avrai aggiogato i fortissimi tori e rapidamente arato con le tue braccia il duro campo spunteranno già lungo i solchi i giganti dai denti del drago seminati nell'oscurità della terra appena li avrai veduti levarsi dal suolo in gran numero allora tu di nascosto getta una grossa pietra così che su di essa i giganti come cani voraci attorno ad un osso si uccideranno gli uni con gli altri affrettati allora a combattere in questo modo riporterai il vello di Eea nella lontana terra di Grecia andrai dove ti piace dove ti è caro quando sarai partito da questo luogo così disse e in silenzio teneva gli occhi per terra e bagnava le guance bellissime di calde lacrime al pensiero che lui stava per affrontare il mare e andare lontano e poi di nuovo guardandolo in viso gli disse parole angosciose e gli prese la destra il pudore aveva lasciato i suoi occhi ricordati quando sarai tornato nella tua patria il nome di Medea come io per quanto lontano ti ricorderò ma dimmi ti prego dov'è la tua casa dove andrai per mare una volta partito andrai forse alla città del ricchissimo Orcomeno o vicino all'isola di Eea parlami della fanciulla che prima hai nominato l'illustre figlia di Pasife che fu sorella a mio padre disse e anche in lui si insinuava come le lacrime della fanciulla il terribile amore e le diede questa risposta no certamente né giorno né notte io penso di poter scordarmi di te se scampo alla morte se davvero riuscirò a fuggire in colume in Grecia e da Eta non mi proponga qualche altra prova più dura ma se a te piace avere notizie della mia patria te le darò questo è anche il mio desiderio c'è una regione circondata da altissimi monti ricca di grezzi e di pascoli dove Prometeo figlio di Giappeto generò il buon Deucalione che per primo fondò una città e innalzò templi agli dei immortali e per primo furè di uomini le genti vicine chiamano questa terra Tessaglia qui è Iolco la mia città e molte altre dove non si è mai sentito neppure il nome dell'isola Eea di qui Minia è partito Minia il figlio di Eolo di cui si dice che abbia fondato Orcomeno accanto ai Tebani ma perché dirti parole vane sulla mia casa e sulla famosissima Arianna la figlia di Minosse Arianna è il fulgido nome dell'amabile vergine di cui mi hai domandato oh se allo stesso modo come Minosse con Teseo per lei tuo padre accettasse di esserci amico la carezzava così con suavi parole ma nel suo animo Medea era scossa dai più crudeli tormenti e gli rivolse a Flitta queste chiare parole stipulare dei patti è bello in Grecia capisco ma non è uomo è età quale tu dici che fu Minosse lo sposo di Pasife e neanch'io sono uguale ad Arianna perciò non parlarmi dei vincoli che legano l'ospite all'ospite ma tu di me quando sarai lontano alla terra di Iolco ricordati e anch'io di te anche contro i miei genitori mi ricorderò e mi verrà una voce o un uccello che reca messaggi se tu mi dimenticherai o possano rapirmi le veloci bufere e portarmi di là del mare a Iolco che io ti guardi negli occhi ti rimproveri e ti ricordi che fu solo per mio volere che sei sfuggito alla morte o come vorrai apparire in attesa il tuo focolare nella tua casa così disse e pietose lacrime ricavano il volto il figlio di Esone le rispose mia cara lascia che le bufere si disperdano vuote lascia l'uccello che reca messaggi è vano quello che dici se tu verrai in quei luoghi nella terra di Grecia avrai onore e rispetto dagli uomini e dalle donne ti veneranno come una dea poiché per opera tua faranno ritorno i loro figli e i fratelli e i compagni e i giovani sposi scamperanno alla sventura dividerai con me il letto nuziale legittimo e niente mai potrà separare il nostro amore prima che ci avvolga la morte segnata così disse e il cuore di lei si sciolse nel petto ma insieme si agghiacciò a vedere di fronte a sé l'azione terribile infelice non doveva rifiutare ancora per molto di abitare la Grecia così Hera aveva voluto che la fanciulla di Eea giungesse alla sacra terra di Iolco per la rovina di Pelia lasciando la terra dei padri le ancelle la guardavano stando lontane in silenzio turbate ormai era l'ora di ritornare a casa presso la madre ma Bedea non pensava al ritorno l'animo invaso di gioia per la bellezza e le sapienti parole del figlio di Esone se lui stesso vigile e attento non le diceva alla fine è ora di andare prima che ci sorprenda il tramonto del sole e qualche estraneo si accorga di tutto un'altra volta torneremo in questo luogo e ancora ci incontreremo così solo fino a quel punto tentarono l'animo l'uno dell'altra con dolci parole e si separarono il figlio di Esone si mosse lietamente per tornare alla nave e ai compagni e Medea dalle ancelle le si fecero incontro tutte insieme ma lei non le vide neppure perché l'anima volava alta in mezzo alle nubi e i suoi piedi da sé la portarono sopra il carro veloce e prese in una mano le redini nell'altra la frusta i muli corsero alla città e al palazzo al suo arrivo le fece molte domande calciope afflitta per i suoi figli Medea nell'angoscia dei pensieri mutevoli non sentiva una sola parola e non voleva rispondere a quelle domande sedette ai piedi del letto su un basso scabello appoggiando di lato la guancia alla mano sinistra e fissava gli occhi umidi pensando a quale terribile fatto aveva deciso di dare il suo aiuto quando il figlio di Esone ebbe raggiunto i compagni dove li aveva lasciati si misa in cammino con loro per arrivare dagli altri e raccontava ogni cosa giunsero insieme alla nave gli eroi gli fecero festa come lo videro li interrogarono e lui a tutti rispose sul progetto della fanciulla e mostrò il terribile filtro solo tra i compagni Ida rimase in disparte masticando la bile ma gli altri erano lieti e quando scese la notte scura a fermarli tranquilli si presero cura dei loro bisogni poi al levarsi del sole mandarono ad Eta due uomini a chiedere il seme il prodetto Lamone ed Etalide il figlio di Ermes andarono e non fecero inutilmente la strada al loro arrivo Eta consegnò per la prova i terribili denti del drago Aonio che Cadmo giunto in Tebe e Ogigia alla ricerca di Europa uccise quando era a guardia della fonte di Ares Ivi Ivi si stabilì l'eroe condotto dalla giovenca che il vaticinio di Apollo gli diede a guida del viaggio Atena la dea Tritonide strappò i denti dalle macelle del drago e li diede in dono ad Eta e all'uccisore Cadmo il figlio di Agenore li seminò nei campi da Onia e ai figli del suolo quelli che non aveva mietuto la lancia di Ares diede dimora in quella terra gli altri e Eta gli fece portare ben volentieri alla nave non pensava che Giasone avrebbe compiuto l'impresa neppure se fosse riuscito ad imporre il loro gioco ai due tori il sole scendeva lontano sotto la terra scura ad occidente al di là delle estreme vette d'Etiopia la notte aggiogava i cavalli gli eroi preparavano il letto accanto alle gomene intanto Giasone quando le stelle dell'orsa fulgente furono tramontate e l'aria del cielo fu tutta serena andò nel luogo deserto di nascosto come un ladro con tutto ciò che serviva durante il giorno aveva disposto ogni cosa Argo gli portò dalle grezze un'agnella e del latte il resto lo prese dalla nave stessa ma quando ebbe visto a un luogo indisparte dalle vie percorse degli uomini in un prato intatto resposto al cielo sereno qui prima di tutto lavò pianamente il bel corpo nell'acqua del fiume sacro e quindi indossò il suo mantello nero quello che un tempo gli aveva donato il sipile la regina di lemno in memoria del dolce legame poi scavò nel terreno una fossa di un cubito e ammucchiata la legna tagliò la gola all'agnella e la distese là sopra poi diede fuoco alla legna mescolò e versò le libagioni invocando ecate brimo in aiuto alle sue imprese quando l'ebbe invocata tornò indietro la dea tremenda ludì e dai recessi profondi venne a ricevere l'offerta il capo era cinto di spaventosi serpenti intrezzati con rami di quercia lampeggiava l'immenso bagliore delle sue fiaccole d'intorno urlavano con acuti latrati i cani infernali tremavano tutte le erbe al suo passaggio diedero un grido le ninfe delle paludi che danzavano sopra quei prati del Fasi a Maranzio il terrore prese il figlio di Esone e tuttavia non si volse indietro fino a quando fu giunto in mezzo ai compagni sulle nevi del caucaso già sorgeva l'aurora e diffondeva la luce allora Eta si cinse al petto la salda corazza che gli diede Ares quando con le sue mani ebbe ucciso Mimante di Flegra si mise sul capo l'elmo dorato con quattro creste splendente come il globo di luce del sole appena si leva dall'acqua d'oceano e poi prese lo scudo fatto di molte pelli e la spada tremenda invincibile nessuno poteva resistervi degli eroi da quando lasciarono Eracle in terre lontane lui soltanto avrebbe potuto combattere da pari a pari fetonte gli portò accanto lo splendido carro e i cavalli veloci perché vi salisse ed Eta salì e prese in mano le redini sull'ampia strada uscì di città per assistere alla prova ed assieme a lui si mosse una folla infinita quale sopra il suo carro Posidone si reca ai giochi dell'istmo o al tenero o alla fonte di Lerna oppure al bosco di Onchestoianzio o spesso raggiunge coi suoi cavalli Calauria la roccia Tessala o la selvosa Geresto tale era l'aspetto di Eta il signore dei colchi intanto Giasone inumidì il filtro secondo i consigli di Medea e ne unse lo scudo la grande lancia e la spada accanto a lui i compagni saggiarono le sue armi con tutte le loro forze ma non riuscirono a piegare la lancia nemmeno un poco era infrangibile e nelle loro mani restava rigida e ferma sdegnato Ida percosse l'impugnatura con la grande spada ma al colpo si ritrasse la lama come il martello sopra l'incudile allora gli eroi gridarono lieti nella speranza della vittoria poi Giasone si unse e in lui penetrò una forza terribile immensa intrepida le sue braccia fremevano sprigionando vigore come un cavallo guerriero desideroso da entrare in battaglia salta nitrisce percuote il terreno e solleva il collo superbamente drizzando le orecchie così godeva il figlio di Esone della forza delle sue membra e spesso balzava qua e là prendendo lo scudo di bronzo e la lancia di frassino avresti detto un fulmine nella tempesta che guizza nel cielo avvolto nell'oscurità piombando giù dalle nuvole che stanno per rovesciare a terra la pioggia più nera non erano più lontani dall'affrontare la prova si misero subito in ordine ai loro banchi e si affrettarono verso la piana di Ares era dall'altra parte della città non lontano quanto dista dalla partenza la meta ad una corsa sui carri quando alla morte del re i suoi parenti brandiscono gare a piedi ed a cavallo e là trovarono a Eta e la folla dei colchi questi a piedi sulle pendici del caucaso il re sulla riva dove il corso del fiume si piega quando i compagni ebbero attaccate le gomene Giasone saltò giù dalla nave e andò alla prova con la lancia e lo scudo e prese l'elmo lucente pieno dai denti aguzzi e cinse alle spalle la spada era nudo e somigliava ad Ares in parte in parte ad Apollo che porta la spada dorata guardò il campo e vide il gioco di bronzo per i tori e l'aratro tutto d'un pezzo fatto d'acciaio durissimo si fece avanti e piantò nel terreno la lancia possente dritta sull'impugnatura depose l'elmo appoggiandolo ad essa e avanzò col solo scudo cercando le mille tracce dei tori ed ecco che quelli uscirono da qualche grotta sotterranea nascosta dove erano le loro stalle avvolti da tutte le parti dal fumo fuligginoso spirando fiamme di fuoco a vederli gli eroi tremarono ma gesone ben piantato sulle gambe li attendeva come lo scoglio sul mare attende i marosi agitati da infinite bufere davanti a sé teneva lo scudo e i tori mugendo vi urtarono violentemente con le corna robuste ma urtando non lo spostarono nemmeno un poco come i mantici di cuoio talora soffiano nei crogiuoli forati e ne divampa la fiamma tremenda talora smettono il soffio e si leva un boato allorché il fuoco si slancia dal fondo così mughiavano i tori soffiando dalla bocca la rapida fiamma e il calore investiva l'eroe come un fulmine avvolgendolo tutto ma lo proteggeva il filtro della fanciulla afferrò per la punta del corno il toro di destra e tirò con ogni forza avvicinandolo al gioco gli colpì con un rapido calcio lo zoccolo bronzeo e lo rovesciò per terra in avanti poi l'altro anch'esso lo stese in ginocchio con un sol colpo depose a terra lontano il vasto scudo e ben piantato sulle gambe ambedue li tenne piegati sui ginocchi anteriori e intanto le fiamme lo circondavano età stupì della forza di Giasone ed ecco i due figli di Tindaro come era stato deciso con loro si fecero accanto presero il gioco e glielo porsero lo mise bene al collo dei tori e sollevato l'asse di bronzo in mezzo lo fissò subito al gioco attraverso l'anello e si fuggirono fuori del fuoco alla nave l'eroe riprese lo scudo e se lo mise alle spalle poi presa il solido elmo pieno dei denti aguzzi e la potentissima lancia e con questa li percossi ai fianchi come fa il contadino col pungolo pelasgo e saldamente reggeva il manico dell'aratro ben costruito in acciaio dapprima i tori s'infuriarono terribilmente soffiavano su di lui la fiamma violenta del fuoco e sorse un mugito simile all'urlo dei venti che i marinai più temono e ammainano la grande vela ma poco dopo obbedirono pure alla lancia e si mossero dietro di loro si apriva il duro terreno spezzato dalla forza dei buoi e dell'aratore e con tremendo frastuono si rompevano lungo i solchi le zolle grosse come il peso di un uomo però eseguiva poggiando il piede saldamente all'aratro e gettava lontano da sé i denti man mano che arava voltandosi indietro che non gli venisse già addosso la massa tremenda dei nati dal suolo e i tori avanzavano facendo forza sugli zoccoli bronzei e continuavano il loro lavoro quando il giorno declina e più non ne resta che un terzo nell'ora che i contadini sfiniti invocano il dolce momento di sciogliere i buoi allora il campo sebbene fosse di quattro iugeri tutto era stato arato dall'infaticabile giasone sciolse i tori e li spaventò mettendoli in fuga per la pianura e poi vedendo i solchi ancora vuoti di uomini tornò alla nave i compagni gli si fecero incontro e li incoraggiarono attingendo con l'elmo la limpida acqua del fiume spense la sete e piegò le ginocchia per scioglierle e fu pieno di forze simile a un cinghiale che affila le zanne contro i suoi cacciatori e nel furore riversa una schiuma copiosa ma ormai per tutto il campo fiorivano i figli del suolo e la piana di Ares l'uccisore di uomini fu irta di solidi scudi di lance di elmi brillanti del fondo i bagliori salivano attraverso l'aria all'Olimpo e come quando moltissima neve è caduta sopra la terra e nella nera notte i venti spazzano via le nubi invernali e tutti insieme nel buio compaiono gli astri lucenti così splendevano quelli uscendo su dal terreno ma Giasone si ricordò dei consigli della sapiente Medea afferrò dalla pianura una grande pietra rotonda un disco di Ares e Nialio neppure quattro uomini forti l'avrebbero mai sollevata dal suolo neppure di un poco però la sollevò in mano e preso lo slancio la gettò lontano in mezzo ai giganti poi senza paura si riparò dietro lo scudo i colchi diedero un grido come il grido del mare contro gli scogli acuti ma un muto stupore prese il re Eta al lancio del grande disco quelli balzarono come cani veloci attorno alla pietra e urlando si uccidevano gli uni con gli altri cadevano sopra la madre terra colpiti dalle proprie lance come i pini e le querce sconvolti dalla bufera dei venti e come dal cielo precipita una stella di fuoco illumina un solco prodigio per chi la vede percorrere il cielo oscuro con un baleno così il figlio di Esone balzò addosso ai giganti con la spada squainata e li colpiva alla rinfusa alcuni al ventre o sui fianchi quelli usciti nell'aria a metà altri fino alle spalle altri levati in piedi da poco e altri ancora che già correvano e si affrettavano alla battaglia e come quando scoppia una lite tra due vicini e il contadino temendo che il suo rivale arrivi prima di lui a mietergli il campo afferra la falce ricurva affilata di fresco e miete di tutta fretta il raccolto acerbo e non attende che sia maturato pienamente ai raggi del sole così Giasone falciava i giganti e i solchi erano pieni di sangue come canali di acqua sorgiva cadevano quali in avanti mordendo l'aspro terreno quali all'indietro quali sui gomiti e i fianchi simili alla massa dei mostri marini ed alcuni di loro colpiti prima di alzare il piede sopra la terra di quanto erano usciti nell'aria altrettanto ricaddero sotto il peso delle teste ancora non solide e come in una vigna e germogli sotto la pioggia violenta di Zeus appena fioriti rovinano a terra spezzati dalle radici e se ne va con loro la fatica del contadino uno scoramento e un profondo dolore prende il padrone del campo che li aveva piantati così a questo modo una pena pesante invase il cuore di Eta tornò indietro in città assieme ai colchi pensando come ora tu stessa musa divina figlia di Zeus dovrai cantare il travaglio e i pensieri della fanciulla di Colchide che dentro di me la mia mente ondeggia in uno sgomento senza parole se devo dire che fu per angoscia infelice d'amore o per terrore fatale che lasciò la terra dei colchi Eta nel palazzo assieme ai grandi della sua gente per tutta la notte tramava un inganno astuto contro gli eroi e nel suo cuore nutriva un'ira terribile per l'odiosa prova e pensava che tutto sarà compiuto non senza l'aiuto delle sue figlie era infuse nel cuore una paura penosa tremava come una cerbiatta veloce terrorizzata dall'abbaiare dei cani nel folto di un bosco profondo improvviso vide chiaro e capì che il suo aiuto non gli poteva restare nascosto e la sciagura era al colmo temeva le donne che sapevano tutto i suoi occhi furono pieni di fuoco le orecchie rombavano terribilmente spesso portò le mani alla gola spesso strappando ciocche di capelli piangeva in disparte dolore e là in quel giorno sarebbe morta contro il destino ingoiando il veleno e rendendo vani i progetti di era se nella sua angoscia la dea non l'avesse spinta a fuggire insieme ai figli di frisso allora nel petto si calmò il cuore inquieto tornata in se stessa vuotò il cofanetto e nascose i filtri nel seno baciò il letto baciò dentro e fuori i battenti accarezzò le pareti e con le mani strappò un lungo ricciolo e lo lasciò nella stanza per la madre ricordo della sua vita di vergine e giamette con voce convulsa questa lunga ciocca ti lascio al mio posto madre mia e me ne vado addio e sii felice anche se vado tanto tanto lontano addio calciope addio a tutta la casa oh se il mare ti avesse sbranato straniero prima di arrivare alla terra dei colchi così disse e versava dagli occhi copiose lacrime come trascinata per una casa ricca una schiava di guerra che il destino ha appena strappato via dalla patria e ancora non ha avuto esperienza delle aspre fatiche non ha provato miseria e lavori servili si muove infelice sotto le dure mani della padrona così la splendida donna corse fuori dalla sua reggia davanti a lei cedettero da soli i battenti spalancandosi in dentro al rapido suono degli incantesimi correva a piedi nudi per le vie strette con la sinistra sollevava il peplo sugli occhi sopra le belle guance e la fronte e intanto alla destra reggeva in alto un lembo di tunica andava rapida nel suo terrore per una strada oscura oltre le mura della grande città non la riconobbe nessuna delle sentinelle non si avvidero della sua corsa pensava di andare al campo sapeva bene le strade tante volte le aveva percorse cercando cadaveri ed erbe malefiche come usano fare le maghe ma il cuore batteva forte di tremore e terrore la vide correre levandosi appena dall'orizzonte la luna la dea Titania e gioi con malizia e tra sé e sé disse queste parole io non soltanto ricerco l'antro di latmo io non soltanto brucio per il bel endimione io che spesso mi sono mossa per i tuoi astuti incantesimi nel pensiero d'amore perché tu celebrassi i tuoi riti tranquilla nella notte oscura come ti piace ora anche tu hai parte in questa stessa sventura il dio del dolore ti ha dato Giasone come tua pena ed angoscia va dunque e preparati a sopportare per quanto sapiente tu sia dolori infiniti così disse ma l'altra i piedi la portavano rapida in fretta liatamente giunse alle rive del fiume e vide sull'altra sponda splendere i due fuochi che nella gioia della vittoria gli eroi avevano acceso per tutta quanta la notte al di là del fiume nel buio con voce limpida e acuta chiamò il più giovane tra i quattro figli di frisso frontis ne riconobbe la voce lui e i fratelli e il figlio di Esone i compagni stupirono muti quando capirono che era lei proprio lei tre volte gridò e tre volte per invito degli altri frontis rispose al richiamo e intanto gli eroi remavano in cerca di lei facendo forza sui remi non avevano ancora gettato le cime alla riva di fronte e dalla tolla subito Giasone balzò a terra con rapido piede e assieme a lui saltarono Argo e Frontis figli di frisso la giovane donna abbracciò i loro ginocchi e disse queste parole salvatemi amici salvate me infelice e voi stessi da Eta tutto è già stato scoperto e non c'è più rimedio presto presto fuggiamo sulla nave prima che monti i veloci cavalli io vi darò il vello d'oro addormentando il serpente custode ma tu straniero davanti ai compagni prendi gli dei a testimoni della promessa che hai fatto e non lasciare che io andando lontano sia per l'assenza dei miei disprezzata e derisa così disse afflitta ma era lieto il cuore di Giasone subito dolcemente la rialzò dalle sue ginocchia e le fece coraggio e le parlò in questo modo mia cara sia testimone Zeus Olimpio custode dei giuramenti ed era la sposa di Zeus la dea delle nozze che ti porterò nella mia casa come sposa legittima quando avremo fatto ritorno alla città di Grecia così disse e mise la mano destra nella sua mano Medea ordinò di condurre presto la nave al bosco sacro per poter prendere il vello durante la notte ingannando il volere di Eta così disse e così fecero pieni di slancio la presero a bordo e si staccarono subito dalla riva era grande il frastuono del battito intenso dei remi lei slanciandosi indietro tendeva alla terra le mani disperata ma Giasone le faceva coraggio la sosteneva nel suo dolore nell'ora in cui i cacciatori scacciano il sonno dagli occhi e fidandone i cani non dormono l'ultima parte di notte perché la luce dell'alba non cancelli colpendo la terra coi limpidi raggi le tracce e l'odore delle fiere selvagge in quell'ora Medea e il figlio di Esone sbarcarono in un luogo erboso che chiamano il letto del montone là per la prima volta piegò le ginocchia sfinite quando portava sul dorso il mineo frisso figlio del re Atamante erano là vicine le fondamenta coperte di ceneri dell'altare che frisso innalzò Zeus patrono degli esuli e gli consacrò il vello d'oro obbedendo al comando di Ermes che gli apparve benevolo qui per consiglio di Argo gli fece scendere per un sentiero giunsero al bosco sacro cercando la grande quercia dove era il vello simile a una nuvola che si fa rossa sotto i raggi infiammati del sole nascente ma già con gli occhi insonni li aveva visti il dragone al loro arrivo e tendeva verso di loro il collo lunghissimo soffiava terribilmente e risuonava la riva del fiume e la sconfinata foresta l'udivano i colchi anche quelli che vivevano molto lontano dalla terra titania di Ea lungo il corso di Lico che staccandosi dal fragoroso Arasse riunisce le sue sacre correnti a quelle del Fasi e correndo insieme sfociano insieme nel mare Caucasio le donne a letto si svegliarono per lo spavento e piene d'angoscia abbracciarono i bimbi che dormivano sul loro seno anch'essi scossi dal sibilo e come in una foresta che brucia si volgono innumerevoli ardenti spire di fumo via via montando dal fondo l'una di seguito all'altra così il mostro scuoteva le sue enormi volute coperte di aride squame e mentre lui si allungava ecco che Medea fu davanti ai suoi occhi e con voce suave invocò il sonno in aiuto il Dio Supremo che affascinasse la fiera e chiamò anche la resina notturna infernale che le fosse benevola e le concedesse l'impresa la seguiva atterrito il figlio di Esone ed il serpente stregato dall'incantesimo scioglieva la lunga spina dalle spire nate dal suolo e allungava i suoi infiniti anelli così come quando sul mare in bolaccia si rovescia un'onda scura muta senza frasduono ma tuttavia teneva alzata l'orribile testa borramoso di avvolgere entrambi nelle macelle mortali Medea intinse un ramo di ginepro tagliato da poco nella mistura e sparse il filtro possente sopra i suoi occhi pronunciando le formule lo circondò l'odore del filtro e lo addormentò la bocca cadde poggiando a terra e gli anelli innumerevoli si distesero dietro nel folto della foresta obbedendo a Medea Giasone staccò dalla quercia il vello d'oro ed essa intanto immobile spargeva il suo filtro sopra il capo del mostro finché Giasone ordinò di tornare alla nave e a quel punto lasciarono il bosco ombroso di Ares come una fanciulla riceve sopra la veste la luce della luna piena che splende sul tetto della sua stanza e il suo cuore è lieto dell'incantevole lume così godeva il figlio di Esone alzando il vello nelle sue mani sopra le bionde guance e sopra la fronte al baleno del vello venne un rossore come di fiamma grande come la pelle di una giovenca di un anno o di un cervo quello che i cacciatori chiamano cerbiatto così era il vello tutto d'oro e coperto di bioccoli pesante e mentre Giasone avanzava la terra ai suoi piedi rifletteva passo su passo la luce andava portandolo ora sopra la spalla sinistra lasciandolo pendere fino ai piedi dall'alto del collo ora lo raccoglieva tra le mani temendo di incontrare un uomo un dio che glielo rubasse Aurora si spandeva sul mondo quando arrivarono presso i compagni stupirono i giovani nel vedere il grande vello splendente simile al lampo di Zeus e ognuno si slanciava a toccarlo a prenderlo in mano ma Giasone li allontano tutti e vi gettò sopra un mantello nuovo sollevando Medea la fece sedere a poppa e in mezzo a tutti disse queste parole non induciate più amici miei a tornare alla nostra patria l'impresa per cui osammo il viaggio angoscioso soffrendo pena e fatica l'impresa è bene compiuta grazie ai consigli di questa fanciulla io come essa desidera la porterò nella mia casa e sarà la mia sposa legittima ma voi proteggetela lei che è venuta in soccorso vostro e di tutta la Grecia penso che presto Eta verrà con il suo esercito a sbarrarci il cammino che porta dal fiume nel mare a turno seduti sui banchi fate forza sui remi e l'altra metà di voi protendendo gli scudi di cuoio a difesa delle frecce nemiche protegga la via del ritorno in mano nostra abbiamo i figli e la cara patria e i vecchi padri da noi dipende la Grecia che sia umiliata o che riceva grandissimo onore disse e vestì le armi di guerra gli altri gettarono un grido immenso lui sguainò la spada e recise le cime di poppa poi si sedette armato di fianco alla donna e vicino ad Anceo il pilota la nave correva spinta dai remi avevano fretta di portarla fuori del fiume intanto al superbo Eta e a tutti i colchi era noto l'amore di Medea e ciò che essa aveva compiuto si radunarono armati in assemblea ed erano tanti quante sono le onde del mare in tempesta agitato dal vento o quante sono le foglie che cadono in autunno e chi potrebbe contarle in folla immensa occuparono con grandi strida di guerra le rive del fiume Eta sopra il suo carro spiccava fra tutti per i cavalli doni del sole e veloci come un soffio di vento nella mano sinistra teneva lo scudo rotondo nella mano destra una grande fiaccola la sua lunghissima lancia era lì accanto distesa in avanti ed assirto reggeva ai cavalli le redini ma già la nave spinta dai rematori robusti e dalla corrente del grande fiume solcava le onde del mare il re colpito dall'aspra sventura levò al cielo le braccia chiamando il sole e Zeus a testimoni del male subito e rivolse a tutto il popolo gravi minacce se non avessero trovato sua figlia per terra o sulle onde del mare e non gliel'avessero riportata a casa perché saziasse il suo animo punendola di tutto questo sapessero che sul loro capo ricadrebbe tutta la collera e la rovina così parlò Eeta i colchi in quel giorno stesso misero in mare le navi e le armarono e quel giorno stesso presero il largo avresti detto che erano non una flotta ma un popolo enorme d'uccelli che volavano a stormo sul mare con grande strepito ma gli eroi il vento soffiava fortissimo per volere di era perché al più presto Medea giungesse alla terra Pelasga e portasse la rovina alla casa di Pelia al terzo giorno all'alba legarono gli ormegi di Argo alle orive di Paflagonia nei pressi del fiume Alis là aveva imposto Medea di sbarcare ed onorare con sacrifici Ecate e ciò che ella fece apprestando la cerimonia mai nessuno lo sappia e il mio cuore non mi spinga a cantarlo ho ritegno a dirlo ma resta tuttora il santuario che gli eroi costruirono su quelle rive alla Dea offerto alla vista delle generazioni future in quel momento Giasone e gli altri compagni si ricordarono di Fineo che aveva predetto un altro cammino al ritorno di Ea ma a tutti loro era ignoto Argo Argo così parlò agli eroi ansiosi noi torneremo alla città di Orcomeno per quella via che vi ha detto il profeta infallibile che avete incontrato è vero c'è un altro cammino quello che rivelano i sacerdoti nati in Tebe e Tritonia non c'erano tutte le stelle che volgono in cielo il loro corso nessuno aveva sentito parlare del popolo sacro dei Danai c'erano solo gli Arcadi Apidani gli Arcadi che si dice siano ancora più antichi della luna e mangiavano ghiande sulle montagne sul paese Pelasgo non regnavano gli illustri figli di Deo Calione ma già si dava il nome di Ereia terra brumosa al fertilissimo Egitto origine dei primi uomini e di Tritone al grande fiume che la bagna tutta dalle cui acque fiorisce sempre il raccolto poiché mai non lo bagna la pioggia di Zeus di là si racconta che un uomo percorse tutta l'Europa e tutta l'Asia fidando nella potenza e nella forza e nel coraggio del proprio esercito ed infinite città fondò nella marcia alcune ancora abitate altre no che moltissimo tempo è trascorso ma Ea resta ancora oggi ben salda e restano i figli degli uomini che aveva installato Colà per popolarla ed essi conservano le iscrizioni dei loro padri tavolette sopra le quali sono segnate le strade e i confini di mare e terra a beneficio di chi si metta in cammino c'è un fiume l'ultimo corno d'oceano largo profondo tanto che può navigarlo una nave da carico lo chiamano Istro e lo segnano molto lontano per un tratto attraversa da solo quella immensa regione poiché le sue sorgenti mormonano al di là del soffio di Borea lontano sui monti Rifei ma quando percorre le terre abitate dai traci o dagli sciti si divide in due bracci da un lato si getta nel mare orientale dall'altro attraversa il golfo profondo dove si insinua il mare Trinacrio accanto al vostro paese seppure è vero che nel vostro paese sgorga il fiume a Chelo così disse e la dea mandò loro un messaggio propizio per cui tutti insieme gridarono di seguire la strada indicata là dove stavano per andare comparve un solco di luce celeste e lietamente dopo aver lasciato in quel luogo il figlio di Lico spiegarono al vento le vele e corsero il mare guardando i monti di Pavlagonia ma non doppiarono il capo Carambi perché non cessarono i venti nello splendore del fuoco celeste finché non furono giunti alle grandi correnti del listro i colchi intanto alcuni cercandoli in vano lasciarono il ponto attraverso le rupi cianee altri si diressero al fiume a Sirto che li guidava tagliò di lato e percorse per la foce bella e dunque giunsero prima oltre il braccio di terra entrando nel golfo estremo del mare Ionio c'è un'isola infatti chiusa dalle acque del listro triangolare che ha nome Peuce e nel suo lato più largo guarda la costa l'angolo è verso il fiume perciò le acque si dividono in due da una parte il nome è Nareco dall'altra in basso la foce bella e in questa entrarono a Sirto e i colchi più rapidi degli eroi che passarono a largo oltre la punta dell'isola sugli umidi prati i pastori lasciavano le ricche greggi atterriti come a vedere dei mostri che uscivano fuori dal mare meraviglioso prima non avevano visto mai altre navi non gli sciti misti ai traci non i sigini non i trauceni e neppure i sindi che vivono ora nella grande e deserta pianura attorno all'aurio quando ebbero oltrepassato il monte anguro e al di là dell'anguro la roccia del monte cauliaco là dove istro divide il suo corso e da due parti si getta nel mare e la pianura dell'aurio i colchi entrarono dentro il mare di crono e bloccarono tutti i varchi che non fuggissero ed essi dietro scesero il fiume ed arrivarono nelle isole brige sacre ed artemide in una di esse aveva il suo tempio ma per fuggire agli uomini di assirto glieloi sbarcarono nell'altra quelle isole fra tutte quante le trascurarono per rispetto alla figlia di zeus mentre le altre gremite di colchi bloccavano le vie del mare e anche nelle coste vicine alle isole assirto aveva raccolto degli uomini fino al salangone e alla terra dei nesti qui in una battaglia e luttuosa pochi contro moltissimi gli eroi sarebbero stati sconfitti ma strinsero un patto per evitare la guerra il vello d'oro apparteneva a loro saldamente e a buon diritto lo stesso Eta l'aveva promesso se avessero superato la prova era loro preso in qualsiasi maniera contro il volere del re con l'inganno o agli occhi di tutti quanto a Medea lì era tutto il conflitto sarebbe rimasta sola senza di loro presso la figlia di Leto finché qualcuno dei re che hanno il potere di fare giustizia avesse deciso se deveva tornare alla casa del padre o alla ricca città del nobile Orcomeno o seguire gli eroi e andare in terra di Grecia ma quando Medea ebbe pensato nella sua mente ogni cosa acuti dolori le scossero l'anima e non le davano respiro subito chiamò Giasone senza compagni in un luogo segreto e guardandolo in viso e singhiozzando gli disse queste parole figlio di Esone quale progetto avete tramato sopra di me la fortuna ti ha forse tolto memoria e non ti curi più di quanto dicevi una volta nella stretta necessità dove sono finiti i giuramenti in nome di Zeus protettore dei supplici dove le dolci promesse per quelle ho lasciato la patria contro l'uso senza ritegno ho lasciato la gloria della mia casa e i genitori e tutto quello che mi era più caro e sono partita lontano sul mare con i malinconici alcioni a causa delle tue imprese perché tu compissi la prova in colume contro i tori e gli uomini nati dal suolo e anche il vello hai preso quando tutto è stato scoperto grazie alla mia follia e a tutte le donne ho portato vergogna per questo dico che ti seguirò in terra di Grecia come tua figlia come tua sposa e sorella e tu dunque devi proteggermi con tutto il cuore e non lasciarmi sola senza di te a cercare non so che sovrano difendimi tu senz'altro restino salvi la giustizia e il diritto che entrambi abbiamo accettato oppure tagliami in mezzo alla gola con la tua spada ma subito che per la mia passione io abbia il compenso dovuto sciagurato e se il re al quale affidate questo patto crudele mi assegnerà a mio fratello come potrò io giungere davanti agli occhi del padre sì certo con molta gloria quale castigo quale tremenda sventura dovrò mai soffrire per ciò che ho fatto mentre tu avrai il ritorno che tanto desideri no non lo voglio la sposa di Zeus la regina del mondo che tu vanti amica e di me un giorno dovrai ricordarti quando sarai sfinito dai mali e allora il tuo vello sparisca simile ai sogni nell'erebo e dalla tua patria presto le mie rinni ti scacceranno lo stesso che io ho sofferto per la tua crudeltà e ti dico che queste parole non cadranno nel vuoto poiché tu spietatamente hai violato una sacra promessa coi vostri patti non resterete a lungo tranquilli a schernirmi così disse e ribolliva di aspra collera e desiderava bruciare la nave e distruggere tutto quanto e cadere essa stessa nel fuoco il figlio di esone ebbe paura e le rispose così con dolci parole mia cara calmati neanche a me questo piace ma stiamo cercando di ritardare la guerra tanto è grande la nuve dei nostri nemici che ci circondano e vogliono te tutti quelli che vivono in questa terra sono pronti ad aiutare assirto a riportarti a tuo padre a casa come tu fossi una preda rapita se combattiamo avremmo una fine luttuosa e sarà anche un dolore più grande morendo lasciarti in mano loro però questo patto compie un inganno col quale noi lo trarremo a rovina le genti vicine non ci saranno più ostili per fare sul tuo conto cosa gradita ai colchi quando non ci sarà più il tuo fratello e tutore e neppure mi sottrarrò a combattere contro i colchi faccia a faccia se non mi daranno libero passo così disse per addolcirla e lei rispose una parola tremenda rifletti è necessario dopo le orribili cose compiute pensarne un'altra ancora è necessario dopo le orribili cose compiute pensarne un'altra ancora già che sono stata accecata e per polere divino ho compiuto azioni colpevoli tu pensa a difenderti dalle lance dei colchi in battaglia lui sarò io a ingannarlo perché cada nelle tue mani trattalo come amico mandagli splendidi doni io cercherò di persuadere i suoi messi quando torneranno da lui che devo parlargli da solo a sola e se a te così piace non te lo impedisco uccidi e dopo attacca battaglia con le gente di colchide e insieme d'accordo ordirano un grande inganno contro Sirto gli offrirono molti doni ospitali e tra essi anche la tunica sacra di Sipile purpurea la tesserono un tempo le grazie per Dioniso all'isola dia e Dioniso ne fece dono più tardi al figlio Toante e Toante la lasciò a Isipile e lei la diede a Giasone splendido dono ospitale insieme a molti altri mai non avresti saziato il desiderio soave di vederla e toccarla con mano perché restava in essa un profumo immortale da quando vi aveva dormito il signore di Nisa inebriato dal vino e dal nettere rendo stretto il bel corpo di Arianna che aveva seguito Teseo da Knosso e l'eroe l'aveva lasciata nell'isoladia quando ebbe fatto il suo discorso ai messaggeri e li ebbe convinti a farlo venire appena lei fosse giunta nel tempio secondo il patto e la notte avesse disteso le sue nere tenebre avrebbero insieme pensato un inganno così da prendere il grande vello d'oro e tornare alla casa di Eta a forza i figli di Frisso l'avevano consegnata in preda a quegli stranieri dopo queste parole ingannevoli diffuse i filtri incantati nell'aria nel soffio dei venti filtri capaci da tirare una fiera da lontano dall'alto dei monti funesto amore grande sventura abominio degli uomini da te nascono le contese mortali i gemiti e i travagli e ancora si agitano infiniti dolori sui figli dei miei nemici vieni armato signore quale gettasti nell'animo di Medea l'odiosa rovina in che modo diede ad Assirto che si recava da lei una morte atroce questo adesso deve narrare il mio canto dopo che secondo i patti la lasciarono al tempio di Artemide si divisero ed approdarono ognuno con la propria nave Giasone si dispose in agguato attendendo Assirto e poi i suoi compagni Assirto ingannato dalle più atroci promesse si affrettò ad attraversare il mare per nave e nella notte nel buio sbarcò sull'isola sacra andò solo di fronte alla sorella e prese a assaggiarla con le parole come fa un dolce bambino con un torrente che neppure gli uomini forti si arrischiano ad attraversare chiedendole si aveva pensato all'inganno per gli stranieri si accordarono l'uno con l'altra su tutti i punti e all'improvviso il figlio di Esone balzò dallo scaltro agguato con in mano la spada nuda Medea distolse subito gli occhi coprendosi con il velo per non vedere il fratello colpito ed ucciso Giasone come fa il macellaio con un toro delle ampie corna colpì l'aveva espiato nei pressi del tempio di Artemide che una volta costruirono in suo onore le genti brige le quali vivevano nella terra di fronte l'eroe cadde in ginocchio nel vestibolo e all'ultimo mentre esalava il respiro raccolse con ambo le mani il nero sangue della ferita e mentre lei si scherniva le arrossò il bianco velo ed il peplo ma con occhio acuto ed obliquo l'irinni spietata signora del mondo vide l'orrenda azione che i due avevano fatto l'eroe figlio di Esone tagliò le estremità del cadavere leccò tre volte il sangue e tre volte sputò la macchia del sacrilegio come vuole il rito che gli omicidi espiglino la morte data con frode poi nascose sotto terra il morto tiepido ancora là dove ancora oggi giacciono fossa in mezzo ai popoli assirti gli altri intanto avevano visto la fiamma del fuoco che Medea aveva levato in alto come segnale per farli venire e lanciarono la loro nave contro quella dei colchi e li uccisero come gli sparvieri uccidono gli stormi delle colombe oppure i selvaggi leoni piombati dentro le stalle un grosso greggio di pecore nessuno di quelli sfuggì alla morte come il fuoco assalirono l'intero stuolo e lo massacrarono giassone li raggiunse più tardi desideroso di dare il suo aiuto ma non ne avevano alcun bisogno e invece già cominciavano a preoccuparsi per lui sedettero e pensarono a prendere il miglior consiglio per il viaggio e melea venne a partecipare ai loro discorsi peleo primo fra tutti disse queste parole penso che dobbiamo imbarcarci subito mentre è ancora notte all'opposto di dove i nemici sorvegliano all'alba quando sapranno ogni cosa non credo che si troveranno concordi che si persuadano di inseguirci più oltre senza più il loro capo saranno divisi da aspre contese e si dividono allora sarà facile per noi la riva quando ritorneremo così disse e i giovani approvarono il figlio di Eaco salirono subito in nave e fecero forza sui remi senza tregua finché arrivarono all'isola sacra di Eletride ultima fra tutte accanto al corso dell'Eridano quando i colchi si accorsero della morte del loro signore si lanciarono per tutto quanto il mare cronio alla ricerca di Argo e dei mini ma li trattenne Era scagliando terribili lampi dal cielo alla fine li pughiarono le loro case in terra citea temendo l'ira selvaggia del loro signore e stabilirono la propria dimora in quei luoghi sbarcarono chi qua chi là nelle medesime isole degli eroi e ancora vi abitano e portano il nome di Assirto altri sulle rive del nero profondo fiume di Liria dove la tomba di Cadmo è Armonia e vi costruirono una fortezza nel paese degli Enkelei altri ancora vivono sulle montagne che sono dette Ceraunie i monti del fulmine dal momento in cui le folgore di Zeus il figlio di Crono impedirono loro di passare nell'isola che sta di fronte gli eroi quando il ritorno parve senza pericoli procedettero innanzi e gettarono a terra le gomene nel paese degli Illei spolgevano fitte le isole lasciando ai naviganti in mezzo un passaggio rischioso gli Illei non erano più come prima nemici anzi facilitarono loro la strada e ne ebbero ricompensa il grande tripode di Febo a Pollo il Dio aveva donato due tripodi a Giasone da portare lontano nel viaggio che gli veniva in posto di compiere quando si recò a Pito Sacra per consultarlo sulla navigazione era destinato che la terra dove fossero stati non sarebbe mai stata distrutta da armi nemiche e per questo motivo ancora oggi il tripode è nascosto profondamente fissato nel suolo presso la bella città degli Illei invisibile agli uomini là non trovarono ancora in vita il re Illo che la bella Melite partoria ad Erecle in terra feacia Erecle giunse infatti alla corte di Nausito e presso Macride la nutrice di Dioniso per purificarsi dell'uccisione orrenda dei figli e si innamorò di Melite figlia del fiume Egeo e la possedette ed essa diede alla luce il fortissimo Illo quando fu cresciuto non volle più vivere nell'isola sottomesso allo sguardo del re Nausito ed andò nel mare di Crono con un gruppo di nativi feaci che aveva raccolto lo stesso sovrano dispose il suo viaggio si stabilì Colà e lo uccisero i mentori mentre cercava di difendere le sue mandrie nei campi ma ditemi Muse perché al di là del mare attorno alla terra Ausonia alle isole Ligustidi cui danno il nome di Stecadi restano in gran numero e chiari i segni di Argo quale necessità o bisogno li portò tanto lontano quali venti li condussero verso quei luoghi ucciso a Sirto un iratterribile prese Zeus il re degli dèi così avevano fatto e decretò che soltanto dopo essersi purificati del sangue maledetto per mano di Circe ed aver sofferto innumerevoli pene soltanto allora avrebbero avuto il ritorno ma nessuno di loro lo seppe correvano via dalla terra tra il lea e si lasciavano dietro tutte le isole liburnie già occupate dai colchi l'una di seguito all'altra issa e di scedalo e la bella pitiea dopo di esse arrivarono a Corcira dove il dio Posidone collocò la figlia di Asopo Corcira dai bei capelli che per amore aveva rapito dalla città di Fliunte e i marinai che da lontano sul mare la vedono annerita da tutte le parti da una buia foresta la chiamano Corcira nera poi costeggiarono Melite godendo di un vento leggero e l'alta Cerosso e più lontano Ninfea là dove viveva la figlia di Atalante la potente Calipso e già sembrava loro di scorgere dentro la nebbia i monti Cerauni quando era compresa i disegni di Zeus e la sua collera immensa preoccupata per il compimento del viaggio suscitò le tempeste contro di loro e in preda a quelle furono ancora portati alla rocciosa isola erettride qui all'improvviso mentre avanzavano parlò con voce umana un legno della concava nave che Palla di Atena ricavò da una quercia a Dodona e lo collocò nel mezzo della carena un terrore angoscioso li prese nell'udire la voce e la grande ira di Zeus la voce diceva che non sarebbero mai sfuggiti alle pene del mare infinito né alle tempeste terribili se Circe non li purificava dalla feroce uccisione di Assirto a Castore e Polluce ordinava di supplicare gli dèi immortali che aprissero loro la strada del mare a Usonio dove dovevano trovare la maga Circe figlia di Perse e del Sole così gridò Argo quando calava la sera i Tindaridi si alzarono in piedi e stendendo le mani agli dèi immortali pronunciarono la preghiera punto per punto ma l'abbattimento prese gli altri mini la nave era corsa lontano a vela entrarono profondamente nel corso del fiume Eridano là dove un tempo fetonte colpito al cuore dal fulmine ardente e bruciato a metà cadde dal carro del sole nelle acque di questa profonda palude ed essa ancora oggi esala dalla ferita bruciante un tremendo vapore nessun uccello può sorvolare quelle acque spiegando le ali leggere ma spezza il suo volo e piomba in mezzo alle fiamme intorno le giovani Eliadi infelici puntate negli alti pioppi e fondono tristi lamenti e dai loro occhi versano al suolo le gocce d'ambra splendente le gocce si asciugano sopra la sabbia ai raggi del sole e quando le acque della nera palude tracimano a riva sotto il soffio sonoro del vento rotolano tutte insieme verso l'eridano e i suoi flutti agitati i scelti hanno inventato una storia che sono le lacrime del dio Apollo il figlio di Leto a formare i vortici lacrime sparse un tempo infinite quando giunse al popolo sacro degli iperborei e lasciò il cielo splendente per le minacce del padre irato a causa del figlio che gli partorì Coronide quella splendida lacerea presso le rive del fiume Amiro questo è ciò che si racconta tra quegli uomini gli eroi non avevano voglia di bere né di mangiare la loro mente non andava ai piaceri durante il giorno giacevano affranti sfiniti dall'odore cattivo che mandavano le correnti dell'eridano del corpo riarso di fetonte intollerabile e poi la notte sentivano i gemiti acuti il triste elemento delle Eliadi e le lacrime delle Eliadi correvano sopra le acque come fossero gocce di olio di là entrarono nel profondo corso del rodano che si getta nel ridano e nel confluire le acque rimbombano e ribollono questo fiume nasce dagli estremi confini del mondo dove sono le porte e le sedi della notte e di là si riversa da un lato alle coste d'oceano da un altro nel mare Ionio da un altro ancora nel mare Sardo nel suo golfo immenso con sette bocche usciti dal fiume avanzarono nei laghi tempestosi che si stendono all'infinito per le terre dei Celti qui avrebbero avuto una sorte infelice c'è che uno dei bracci portava in un golfo d'oceano e senza saperlo stavano per entrarvi e non ne sarebbero usciti a salvamento ma era scesa dal cielo gridò dalla rupe Ercinia tutti furono scossi dal terrore a quel grido il grande etere ebbe un tremendo rimbombo per ordine della dea tornarono indietro e capirono qual era la via per la quale si apriva loro il ritorno dopo un lungo cammino giunsero alle rive del mare passando a incolumi per volere di era passando a incolumi per volere di era in mezzo ai mille popoli dei celti e dei liguri la dea aveva diffuso attorno a loro una grande nebbia per tutti i giorni del viaggio passarono con la nave attraverso la bocca centrale e sparcarono alle isole stecadi salvi grazie all'aiuto dei figli di Zeus perciò dedicarono ad essi altari e sacrifici che hanno valore per sempre né questo solo viaggio seguirono benevolmente ma Zeus affidò loro anche le navi dei posteri lasciate poi le stecadi passarono all'isola etalia dove sfiniti detersero il copioso sudore con delle pietruzze molto semili ci sono ancora su quella spiaggia così pure i dischi e altri resti illustri dei mini là dove il porto ha preso il nome di Argo rapidamente avanzarono sulle acque del mare a Usonio e furono in vista delle coste tirreniche giunsero poi al porto di Eea e gettarono a terra le gomene qui trovarono Circe che purificava il capo con l'acqua marina a tal punto era stata sconvolta dai sogni notturni era parso che tutti i muri e le stanze della sua casa grondassero sangue e le fiamme inghiottivano i filtri coi quali prima incantava ogni straniero che veniva da lei e lei stessa con le mani attingeva a quel sangue e spegneva le fiamme così cessò il terrore mortale perciò al risveglio al sorgere dell'aurora essa lavava i capelli e le vesti nel mare e con lei i mostri non simili a fiere selvagge e neanche ad uomini misti di membra diverse venivano in massa così come un greggio di pecore lascia le stalle tenendo dietro al pastore già in passato la terra aveva fatto fiorire dal fango esseri come questi fatti di membra commiste quando ancora non era condensata dall'aria secca e non le aveva ancora tolto l'umido i raggi prosciuganti del sole poi mise ordine il tempo distribuendoli in specie ma allora avevano forma indicibile ai mostri che la seguivano e uno stupore grandissimo prese gli eroi subito ognuno di loro guardando negli occhi e nella figura di Circe capì facilmente che era sorella di Eta quando ebbe cacciato i timori del sogno notturno tornò subito indietro e ordinò di seguirla con un gesto affettuoso ma pensava all'inganno lo stuolo d'eroe rimase lì fermo indifferente per ordine di Giasone che prese con sé la fanciulla di Colchide entrambi seguirono Circe per la sua strada finché giunsero alla casa allora li fece sedere su ricchi seggi e si chiedeva il perché della loro venuta muti senza parole si slanciarono sul focolare e vi sedettero come costume dei miserabili supplici lei poggiava la fronte su ambo le mani e Giasone piantò per terra la grande spada che aveva ucciso il figlio di Eta né l'uno né l'altra osava alzare gli occhi Circe comprese la loro sorte di esuli e l'orrendo delitto perciò rispettando la legge di Zeus protettore dei supplici che colpisce gli assassini ma anche da loro soccorso compì il sacrificio nel quale i colpevoli supplici sono purificati quando si accostano al focolare in espiazione della morte irreparabile tenne alto sopra di loro un porcellino la madre aveva ancora le mammelle gonfie dal parto e gli tagliò il collo immerse le loro mani nel sangue e con libagioni e con preghiere placò Zeus il dio che purifica che soccorre gli omicidi che rispetta le suppliche i rifiuti li portarono fuori di casa le ancelle naidi che la servivano in tutto ed essa intanto bruciava accanto al focolare focacce e libagioni senza vino pregando che le terribili erinni smettessero la loro collera e Zeus stesso potesse sorridere ed essere benigno ai due supplici fossero le loro mani macchiate di sangue straniero o di parenti quando ebbe compiuto ogni cosa li fece alzare e sedere su seggi ben levigati e sedette essa stessa vicino in faccia a loro subito li interrogava punto per punto sui motivi del loro viaggio da dove e perché venivano sulla terra e alla sua casa e si accostavano al focolare il ricordo del sogno si insinuava atroce nel suo cuore sconvolto e desiderava sentire dalla fanciulla la voce del suo paese da quando la vide alzare lo sguardo da terra la stirpe del sole si riconosceva ben chiara dal lampo degli occhi che tutti loro mandavano lontano e brillava come la luce dell'oro alle domande la figlia del terribile Eta raccontò tutto parlando suavemente la lingua dei colchi il viaggio la strada percorsa dagli eroi e quanto soffrirono nelle aspre prove e come per le ansie di sua sorella aveva commesso la colpa e come quei figli di frisso fuggì lontano dal feroce terrore del padre tacque l'uccisione di assirto che pure non restò nascosta alla mente di Circe ma tuttavia ebbe pietà del suo pianto e le disse sciagurata un viaggio funesto e vergognoso è quello che hai intrapreso e non credo che sfuggirai lungo tempo all'ira di Eta verrà anche in terra di Grecia presto per vendicare la morte del figlio hai compiuto un'azione orribile ma poiché vieni da me mia supplice e mia parente non ti farò nessun altro male ma vattene da questa casa insieme allo straniero che hai scelto contro la volontà di tuo padre e non abbracciarmi i ginocchi accanto al focolare io non approvo le tue decisioni e la tua disonorevole fuga così disse un tremendo dolore prese Medea sollevò il peplo sugli occhi e piangeva finché l'eroe la prese per mano e la condusse fuori scossa dallo sgomento in questo modo lasciarono la dimora di Circe ma non sfuggirono alla sposa di Zeus già che Iride glielo disse quando li vide lasciare la sala la dea aveva ordinato di sorvegliarli nel ritorno verso la nave e le diede questi altri comandi Iride cara se mai in passato hai eseguito i miei ordini orsù corri da teti con le rapide ali dille che esca dal mare e si presenti da me ho bisogno di lei poi recati subito sulle rive dove i duri martelli di Efesto battono sulle incudini e digli di addormentare i soffi del fuoco fino a che Argo non abbia attraversato quel luogo poi vada Eolo Eolo il signore dei venti nati dall'etere e anche lui di la mia volontà che si arrestino tutti i venti dell'aria e che nessuna brezza perturbi il mare ma soffi il solo Zefiro finché saranno giunti all'isola dei Feaci la terra di Alcino così disse subito Iride balzava giù dall'Olimpo e fendeva l'aria stendendo le ali leggere entrò nel mare Eseo dove sono le case di Nereo e subito andò da Teti e le parlò secondo il comando di Era e le ingiunse di andare presto da lei poi si recò nell'officina di Efesto e fece tacere i martelli di ferro e fermare i soffiardenti di fuoco infine andò da Eolo illustre figlio di Ippota mentre anche a lui riferiva il messaggio di Era e riposava ai veloci ginocchi Teti lasciava Nereo e le sorelle e usciva dal mare per recarsi da Era in Olimpo la dea le fece sedere accanto a sé e le disse queste parole ascolta divina Teti quello che voglio dirti sai quanta stima nutre il mio cuore per il figlio di Esone e per gli altri che gli sono compagni in questa impresa io li ho salvati nel passaggio attraverso le plancte dove ruggono orrende tempeste di fuoco e i marosi schiumano sugli asperi scogli ma adesso li attende una strada tra la grande rupe di Scilla e Cariddi che manda uno spaventoso muggito ora quando eri bambina io t'ho educata e t'ho amata più di tutte le altre dè che vivono in mare perché non hai voluto l'amore di Zeus che ti desiderava sempre gli interessano queste cose fare l'amore con donne non importa che siano dè o mortali ma tu per rispetto verso di me e per timore gli sei sfuggita e allora giurò il giuramento più grande che non saresti mai stata la sposa di un immortale non smise però di spiarti contro tua voglia fino a quando la venerabile temi non gli disse ogni cosa era destino che tu avresti dato alla luce un figlio più forte del padre così rinunciò alle sue voglie temendo che un altro regnasse al suo posto sugli immortali e lui per sempre voleva proteggere il suo potere ma io ti ho dato per sposo il migliore degli uomini perché avessi nozze gradite e partorissi dei figli al banchetto ho invitato tutti gli dèi ed io stessa reggevo la fiaccola in ricompensa dell'onore e dell'affetto che mi avevi donato orsù ti voglio dire una parola infallibile quando tuo figlio arriverà ai campi elisi quello che ora allevano senza il tuo latte le ninfe naia di presso il centauro chirone il suo destino è di sposare la figlia di Eta Medea e dunque soccorri tua nuora e anche Peleo perché tanta ira tenace sì è stato cieco ma l'accecamento prende perfino gli dèi sono certo che per mio ordine Efesto smetterà di ardere il fuoco e il figlio di Ippota Eolo tratterrà i rapidi soffi dei venti eccetto il costante Zefiro finché giungeranno ai porti feaci tu pensa a dare loro un viaggio sicuro il solo pericolo sono le rocce e gli immensi marosi che devi evitare assieme alle tue sorelle non lasciare che senza saperlo si gettino dentro a Cariddi che li ingoierebbe li porterebbe via tutti quanti e neppure che passino accanto all'odioso antro di Scilla la terribile Scilla Ausonia figlia di Forco e della notturna Ecade che chiamano anche Crataide balzerebbe addosso a loro con le tremende macelle e ucciderebbe i migliori tieni tu dunque la nave dove si trova stretta la via di scampo alla morte così disse e a lei Teti rispose con queste parole se davvero si fermeranno la furia del fuoco vorace e le feroci tempeste allora posso essere certa di salvare la nave dall'assalto delle onde purché Zefiro soffi lieve ma è tempo di mettersi in strada una strada lunghissima se devo andare a trovare le mie sorelle che mi verranno in aiuto e poi dove Argo è ormeggiata perché all'alba riprendano il loro viaggio disse e balzò giù dal cielo nei vortici del mare azzurro chiamò le sorelle in aiuto le figlie di Nereo udirono la sua voce e si radunarono Teti riferì gli ordini di Hera e le mandò tutte nel mare a Usonio lei stessa più rapida del baleno del raggio di sole quando si leva sull'orizzonte si slanciò in mezzo alle acque finché fu giunta alla terra a Tirrena alla spiaggia di Ea li trovò accanto alla nave che si divertivano a lanciare il disco e le frecce e si fece loro vicino sfiorando la mano di Peleo era pure il suo sposo senza che nessun altro potesse vederla si mostrò a lui solo e gli parlò in questo modo non restate più a lungo qui sulle coste tirreniche all'alba sciogliete le gomene della nave veloce obbedendo a Hera che veglia su voi per suo comando sono corso in folla le ninfene raedi e proteggeranno la nave attraverso le rupi che chiamano Plancte è quello il cammino segnato ma tu non indicare la mia persona a nessuno quando mi vedrai giungere con le sorelle tienilo a mente e non irritarmi più di quanto hai fatto una volta senza riguardo disse e sparì invisibile negli abissi del mare lui lo prese un tremendo dolore non l'aveva più vista da quando una volta lasciò la sua casa e il suo letto irata per il glorioso Achille che era ancora bambino essa bruciava alla fiamma del fuoco le carni mortali in piena notte poi durante il giorno ungeva ad Ambrosia il tenero corpo perché divenisse immortale e gli stesse lontana l'odiosa vecchiaia ma Peleo balzato dal letto vide suo figlio agitarsi in mezzo alle fiamme e mandò un grido terribile a quella vista sciocco sciocco davvero uditolo Teti gettò di colpo per terra il bambino piangente e simile a un soffio o a un sogno lasciò veloce la casa e si immerse nel mare adirata né più da allora tornò sui suoi passi lo sconforto gli legò il cuore ma non di meno disse ai compagni tutti i comandi di lei allora subito gli eroi interruppero i loro giochi e si prepararono il pasto e il letto dove dormirono dopo aver mangiato come erano usi quando l'aurora che porta la luce toccò l'orizzonte e su di loro scendeva lieve il soffio di zefiro salirono sopra i banchi e tirarono le ancore lietamente dal fondo del mare e arrotolarono insieme gli attrezzi secondo il bisogno e levarono in alto la vela e con le scotte la tesero all'albero un vento propizio spingeva la nave e ben presto furono in vista di Antemoessa l'isola bella dove le melodiosi sirene figlie di Acheloo incantano e uccidono col loro canto soave chiunque vi approdi le partorie ad Acheloo la bella Tersicore una musa un tempo servivano la grande figlia di Deo quando ancora era vergine e cantavano insieme ma ora sembravano in parte uccelli in parte giovani donne e stando sempre in agguato al di sopra del porto tolsero a molti consumandoli nell'anguore il dolce ritorno e anche per loro senza esitare mandavano l'incantevole voce e quelli già stavano per gettare a terra le gomene se il figlio di Eagro il traccio Orfeo non avesse teso nelle sue mani la cetra bistonica e intonato un canto vivace con rapido ritmo in modo che le loro orecchie rimbombassero di quel rumore e la cetra ebbe la meglio sulla voce delle fanciulle zefiro e l'onda sonora che spingeva da poppa portavano avanti la nave e le sirene mandavano suoni indistinti ma anche così uno di loro il nobile figlio di teleonte Bute fu lesto a saltare in acqua dal banco preso dalla voce suave delle sirene e nuotava attraverso le onde agitate per giungere a riva infelice subito le sirene gli avrebbero tolto il ritorno ma Afrodite la dea protettrice di Erice ebbe pietà gli venne incontro Benigna lo salvò strappandolo ai gorghi e gli assegnò il promontorio del Lilibeo per dimora gli eroi si allontanarono afflitti ma altre cose più dure li aspettavano altre minacce alla nave sul quadrivio del mare da un lato sporgeva lo scoglio liscio di scilla dall'altro rumoreggiava Cariddi con scrosci infiniti dove rugivano sotto gli enormi marosi le plancte e là dove prima era scaturita la fiamma dalla cima degli scogli sopra la roccia infuocata l'aria era scura dal fumo e non si vedevano i raggi del sole e anche allora sebbene Efesto avesse smesso il lavoro il mare esalava un caldo vapore da tutte le parti arrivavano le nereidi e la divina Teti da dietro prese il timone per guidare la nave in mezzo alle plancte come quando nel tempo sereno i delfini girano in branco attorno a una nave in cammino e si mostrano ora davanti ora di dietro e di fianco e allietano i marinai così le ninfe correndo giravano in folla attorno ad Argo e Teti dirigeva la rotta quando già stavano per toccare le plancte alzarono sulle bianche ginocchia le vesti e dividendosi dall'una parte e dall'altra balzarono sopra le rocce e sulla cresta dell'onda la corrente la corrente investiva Argo di fianco e attorno ai violenti marosi levandosi in alto si intrangevano contro le rupi ed esse ora si inalzavano al cielo come montagne ora stavano giù sommerse dentro il profondo e si stendeva su loro l'enorme onda selvaggia come fanciulle che sulla riva del mare con le tuniche avvolte sui fianchi giocano a palla e la risevano l'una dall'altra e la mandano in alto senza toccare mai terra a questo modo ora l'una ora l'altra spingevano in corsa la nave alta sopra le onde e sempre lontana dalle terribili rupi attorno a loro ribollivano l'onda emuggendo anche il dio Efesto stava ritto in piedi a guardare dall'alto della montagna scoscesa appoggiando la spalla robusta sul manico del martello e dal cielo lucente anche la sposa di Zeus abbracciata ad Atena tale fu il terrore che a quella vista la colse di quanto tempo s'allunga la giornata di primavera altrettanto le ninfe faticarono a far uscire la nave dalle rupi poi ebbe vento propizio e corsa in avanti presto costeggiarono i prati della Trinacria dove sono allevate le vacche del sole le figlie di Nereo compiuti i comandi di era si immersero nel profondo come gabbiani giungeva per l'aria il belato delle pecore e insieme colpivano le orecchie dei naviganti i muggiti portava le pecore al pascolo sui prati umidi per la rugiada faetusa la più giovane tra le figlie del sole che nella mano teneva una verga d'argento l'ampezia scuoteva dietro le mandrie un bastone d'oricalco splendente le videro pascolare presso le acque del fiume nei prati e nella piana paludosa nessuna di loro era di pelo nero tutte candide come il latte portavano corna d'oro superbe durante il giorno costeggiarono l'isola poi durante la notte navigarono a largo lieti fino a quando l'aurola sorgendo al mattino ridiede la luce ai naviganti c'è davanti allo stretto Ionio in mezzo al mare Ceraunio un'isola vasta e feconda dove si dice è interrata la falce perdonatemi muse ma al volentieri riporto il racconto degli antichi con la quale Crono precise i genitali del padre spietatamente invece altri dicono che con quella falce Deo la dea della terra mieteva il raccolto Deo abitava in quei luoghi insegnò ai titani a cogliere la ricca messe del frumento per questo motivo porta il nome di Drepane che significa falce la sacra terra dei feaci e i feaci stessi sono del sangue d'urano presso di loro Argo trattenuta dai molti disagi arrivò finalmente spinta dai venti sul mare della Trinacria il re Alcino e il suo popolo li accolsero amichevolmente con sacrifici e per loro la città tutta si diede alla gioia avresti detto che facevano festa per i loro figli ed anche gli eroi erano lieti in mezzo alla folla come fossero giunti nel cuore della Tessaglia eppure dovettero prepararsi a combattere perché apparve vicino un immenso esercito erano i colchi che alla caccia degli eroi avevano attraversato le bocche del ponto e le rupi simplegadi e venivano a chiedere senza indugi Medea per riportarla al padre o avrebbero dato battaglia sanguinosa implacabile adesso e poi ancora più tardi all'arrivo di Aeta ma pure bramosi di guerra come erano il re Alcino li trattenne voleva tra le due parti sciogliere senza guerra la dura contesa ma la fanciulla in preda a un disperato terrore spesso tornava a pregare i compagni di Giasone e spesso abbracciava i ginocchi di Arete la sposa di Alcino regina ti supplico abbi pietà di me non mi consegnare ai colchi che mi riportino da mio padre se tu pure appartieni alla stirpe degli uomini che hanno una mente che corre veloce alla rovina per leggerezza ed errore anch'io per questo sono caduta non per lussuria mi sia testimone la sacra luce del sole e i misteri notturni di Ecate che non per mio volere sono partita di là assieme a quegli stranieri un'atroce paura mi ha persuasa questa fuga quando avevo sbagliato e non c'era più altro rimedio ma ancora resta intatta inviolata la mia cintura come era in casa del padre abbi pietà di me mia signora e persuadi il tuo sposo possano darti gli dei immortali una lunga vita e gioia e figli e la gloria di un regno invincibile così supplicava la regina a rete piangendo e poi uno per uno così pregava gli eroi per causa vostra grandissimi eroi e per causa delle vostre imprese io sono in preda all'angoscia fu per opera mia che avete aggiogato i tori e mi è tutta la terribile messa degli uomini nati dal suolo e per opera mia tornerete presto in tessaglia col vello d'oro ma io ho perduto i genitori e la patria e la casa e tutta la gioia della mia vita io che a voi ho ridato la patria e la casa voi rivedrete con la dolcezza degli occhi i genitori a me un destino crudele ha tolto la gioia e vado errando odiata in compagnia di stranieri abbiate timore dei patti e dei giuramenti e delle rinni dei supplici e della giustizia divina se cadrò nelle mani di Eeta e avrò morte oltraggiosa e tremenda non guardo a templi a fortezze che mi difendano a nessun altro che a voi sagurati trudeli senza pietà nel vostro cuore non avete vergogna a vedermi tendere disperata le mani alle ginocchia di una regina straniera però per prendere il vello eravate pure disposti a combattere contro i colchi contro lo stesso possente Eeta ed ora avete scordato il vostro coraggio ora che sono pochi e isolati così pregava e tutti uno per uno la confortavano e cercavano di calmare il suo dolore prendendo le lance aguzze e sguainando le lance dal fodero promisero che non le avrebbero fatto mancare il loro aiuto se avesse subito un'ingiusta sentenza mentre lei si struggeva su di loro discese la notte pacificatrice ed addormentava tutta la terra ma lei neppure un momento la prese il sonno saggitava nel petto il cuore sconvolto come quando una povera donna fa girare il fuso di notte lei è morto il marito e attorno piangono i figli orfani e le lacrime colano per le guance pensando alla sua sorte infelice così le guance di Medea si bagnavano e il cuore si torceva trafitto dalle ocultissime pene intanto in città stando come sempre nella loro casa il re Alcino ed Arete la sua venerata consorte si consultavano attorno a Medea a letto durante la notte e la regina Arete pregava così il suo sposo con calde parole si mio caro ti prego difendi dai colchi la sventurata fanciulla fa cosa gradita ai Nini la città di Argo e i Tessali sono vicini alla nostra isola mentre Eta è lontano neppure la conosciamo solo ne abbiamo sentito parlare l'infelice Medea mi ha spezzato il cuore con le sue suppliche non consegnarla signore ai colchi che la riportino al padre ha sbagliato quando ha dato a Giasone il filtro per i tori e come spesso facciamo nei nostri sbagli ha voluto sanare un male con un altro male ed è fuggita dall'ira pesante del suo terribile padre ma a quel che so Giasone è impegnato coi giuramenti più grandi a prenderlo nella sua casa come sposa legittima per so mio caro non essere tu di tua volontà a fare spergiuro il figlio di Esone e non permettere che abbandonandosi all'ira un padre colpisca orribilmente la figlia verso le figlie i padri sono troppo severi come lo funiteo con la bella antiope o come Danae che per la ferocia del padre soffrì tante pene sul mare poco fa non lontano il superbo Echeto fece piantare aghi di bronzo negli occhi della figlia e ora la consuma un triste destino in un carcere oscuro macinando grani di bronzo così diceva e pregava il re fu commosso dalle sue parole e le diede questa risposta ben volentieri a rete scaccierei con le armi i colchi facendo cosa grata agli eroi per la fanciulla ma temo di violare la retta giustizia di Zeus e non è utile trascurare Eta come tu suggerisci nessuno è più regale di Eta e se volesse per quanto lontano sia potrebbe muovere guerra alla Grecia ho deciso di fare giustizia nel modo che appaia il migliore e non te lo voglio tenere nascosto se Medea è ancora vergine la farò riportare al suo padre ma se divide il letto di Giasone non la strapperò al marito non darò ai suoi nemici il bambino che custodisce forse nel grembo così disse e subito il sonno lo prese ma la regina accolse dentro di sé la savvia parola e scese dal letto per la casa accorsero tutte insieme le ancelle al servizio della loro signora in segreto mandò il suo araldo per dare a Giasone il consiglio di unirsi con la fanciulla e non pregare il re Alcino lui stesso sarebbe andato dai colchi a pronunciare il giudizio se Medea era vergine che l'avrebbe data da riportare ad Eta ma se invece già divideva il letto di Giasone non avrebbe spezzato un'unione legittima così disse e l'araldo lasciò immediatamente il palazzo per portare a Giasone le fauste parole di Arete la pia decisione di Alcino li trovò che stavano accanto alla nave e la vegliavano in armi nel porto di Illo nei pressi della città e riferì l'ambasciata gli eroi furono lieti il discorso era loro gradito subito mescolarono il vino in un cratere in onore degli dèi e secondo il rito e pianamente portarono all'altare le pecore e in quella notte medesima prepararono per la fanciulla il letto nuziale e l'antro divino dove viveva un tempo Macride la figlia del saggio aristeo che scoperse il lavoro delle api e il succo d'olivo all'inizio Macride accolse in seno nell'eubea degli abanti Dioniso il figlio di Zeus e gli unse di miele le aride labbra dopo che Hermes l'aveva strappato al fuoco ma era la vide e la scacciò incollerita da tutta l'isola andò ad abitare lontano nel sacro antrofeacio e diede immensa prosperità agli abitanti del luogo qui stesero il grande letto e sopra gettarono il vello d'oro fulgente perché le nozze fossero onorate e cantate nel candido seno le ninfe portavano mazzi variopinti di fiori le circondava tutte come una luce di fuoco tale era il lampo che si irradiava dai bioccoli d'oro un dolce desiderio brillava nei loro occhi ma la vergogna trattenne tutte per quanto volessero mettervi sopra le mani alcune erano figlie del fiume egeo altre vivevano sopra le cime del meliteo ed altre nei boschi della pianura era stessa la sposa di zeus le aveva chiamate in onore di giasone ed ancora oggi si dà il nome di medea a quella grotta dove le ninfe celebrarono la loro unione stendendo veli fragranti gli eroi nel frattempo tenendo in mano le lance che lo stuolo nemico non piombasse su loro all'improvviso assaltandoli e con la testa coronata di rami fronzuti cantavano l'imeneo davanti alla soglia seguendo il dolce suono della cetra d'orfeo non nella terra d'alcino desiderava celebrare le nozze l'eroe figlio di esone ma quando fosse tornato a iolco nella casa del padre e così anche medea il bisogno gli spinse ad unirsi in quel momento ma noi stirpe infelice degli uomini non possiamo entrare nella gioia con piede sicuro sempre l'amaro dolore si insinua in mezzo ai momenti del nostro piacere e così anche loro pure godendo del dolcissimo amore la paura li possedeva temendo che non si compisse il giudizio di alcino l'aurora sorgendo scioglieva con la sua luce immortale la nera notte nell'aria le rive dell'isola ridevano e anche i rugiadosi sentieri lontano dalla pianura il rumore riempiva le strade e gli abitanti si muovevano per la città i colchi in lontananza all'estremo della penisola di Macride subito al cino secondo i patti andò a riferire la sua decisione circa la sorte della fanciulla teneva in mano lo scettro d'oro di giudice sotto il quale il suo popolo teneva rette sentenze insieme a lui marciavano in fila vestendo le armi di guerra i più illustri fra tutti i feaci dalle mura uscivano in folla le donne per vedere gli eroi e con loro andavano i contadini che sapevano tutto era aveva diffuso la notizia veridica chi portava un agnello scelto chi una giovenca ancora immune dalla fatica chi collocava lì accanto anfore colme di vino e lontano saliva il fumo dei sacrifici le donne portavano come loro costume vesti ben lavorate gioielli d'oro ed altri ornamenti delle giovani spose stupivano a vedere l'aspetto e la bellezza dei nobili eroi e tra loro il figlio di Eagro che percuoteva la terra col suo bel sandalo al ritmo del canto e della cetra sonora le ninfe tutte insieme ad ogni accenno alle nozze intonavano il dolce emeneo e talvolta cantavano sole formando volute di danza era in tuo onore poiché tu avevi messo nel cuore della regina l'idea di rivelare la saggia parola di Alcino il re come ebbe bandito i termini della retta sentenza e già la notizia del matrimonio s'era diffusa mantenne saldamente la propria parola e non lo colse il terrore dell'ira di Eeta avevano già stabilito giuramenti inviolabili e quando i colchi compresero che chiedevano in vano il re ordinò loro di rispettare la legge o tenere lontano le navi dai porti di quella terra allora tremando per le minacce del loro sovrano chiesero di essere accolti in amicizia abitarono a lungo nell'isola assieme ai feaci fino a quando i bacchiadi originali di Efira la presero a loro sede ed essi allora passarono di fronte all'isola e di là avrebbero quindi raggiunto i monti Cerauni dove sono gli amanti la terra dei Nesti e Dorico ma questo doveva avvenire nel lungo corso del tempo là ancora oggi ogni anno ricevono offerte gli altari che Medea nel tempio di Apollo Pastore dedicò alle moire e alle ninfe alla loro partenza Alcino diede loro moltissimi doni ospitali e molti arete e inoltre dodici ancelle come seguito per Medea dal palazzo Feacio il settimo giorno lasciarono Drepane soffiava un forte vento all'alba nel cielo sereno e spinti dal soffio del vento correvano innanzi ma non era destino che gli eroi sbarcassero sulla terra di Grecia prima di aver penato gli estremi confini di Libia già avevano oltrepassato il golfo di Ambracia e aveva spiegato il paese dei Cureti e le Echinadi e con esse una fila di piccole isole e la terra di Pelope cominciava appena a mostrarsi allora una tremenda tempesta di Borea li rapì e li portò verso il mare di Libia per nove giorni e nove notti fino a quando arrivarono profondamente dentro la Sirte dove non c'era più ritorno per le navi forzate ad entrare dappertutto è pantano è un fondo di alghe su cui si riversa muta la schiuma del mare fino al cielo si stende la sabbia niente striscia o si leva in volo e lì la marea frequentemente l'onda rifluisce da terra e poi di nuovo ribolle con selvaggio furore contro le coste li spinse rapida dentro la rada solo il fondo della carena rimase nell'acqua saltarono dalla nave e il dolore riprese alla vista del cielo e dell'immenso dorso di terra simile al cielo che si stendeva all'infinito non c'era un ruscello non un sentiero e guardando lontano non una capanna e una calma quieta possedeva tutte le cose e l'uno con l'altro angosciati si domandavano che terra è questa dove ci hanno gettato le tempeste o se avessimo osato vincendo il maledetto timore rifare il cammino di prima attraverso le rupi e anche se fossimo andati contro il disegno di Zeus meglio sarebbe stato morire facendo qualcosa di grande ora che fare se siamo costretti dai venti a restare qui e fosse anche per poco come la solitudine si stende lungo questa terra senza confini così dicevano il pilota anceo disperato si rivolse in questo modo anche loro abbattuti siamo finiti in preda al destino più atroce e non c'è via di sfuggirgli ci aspettano in questo deserto le sofferenze più dure anche se il vento dovesse soffiare da terra per quanto riguardi il mare di tutte le parti non vedo che fango e l'onda corre a rompersi sulla candida sabbia da tempo la sacra nave sarebbe stata spezzata orribilmente lontano sul fondo se la marea venuta dal largo non la sollevava ma adesso la marea torna a rifluire nell'alto mare e qui scorre soltanto un'acqua non navigabile che copre appena la terra e io vi dico che la speranza di salpare e di ritornare è distrutta qualcun altro mostri la sua abilità e si sieda al timone se brama partire ma Zeus dopo tutte le pene non vuole che venga il momento del nostro ritorno così disse piangendo e chi era esperto di mare consentiva con la sua angoscia si ghiacciò il cuore a tutti nel petto e sulle guance si stese il pallore come si aggirono gli uomini per città somiglianti a ombre prive di vita quando si aspetta la guerra o la peste e la bufera violenta che distrugge a migliaia le fatiche dei bovi o come quando da sé le statue grondano sangue e si crede udire muggiti nei templi il sole a mezzogiorno riporta dal cielo la notte e nell'aria appaiono gli astri lucenti così gli eroi vagavano sulla lunghissima riva e sopravvenne ben presto la fosca sera si abbracciarono pietosamente dicendosi addio in lacrime per andare a morire ciascuno sulla spiaggia da solo chi qua chi là andarono a scegliersi un posto e in questo modo con il capo avvolto nel mantello restarono tutta la notte e il mattino senza mangiare né bere aspettando l'orrida morte in disparte raccolte sotto alla figlia di Aeta le fanciulle piangevano e come abbandonati i caduti dal nido sopra la roccia gridano acutamente gli uccellini in plumi o come sul ciglio del bel fiume pattolo cantano i cigni e tutto attorno risuonano i prati rugiadosi e le belle correnti così con i biondi capelli nella polvere tutta la notte esse gemevano il loro pietoso lamento e tutti in quel luogo avrebbero perso la vita i più grandi eroi senza gloria senza memoria tra gli uomini senza avere condotto a termine la loro impresa ma ebbero pietà di loro che si consumavano nella disperazione le eroine di Libia che quando Atena balzò splendente dal capo del padre vennero e la bagnarono nelle acque del lago Tritone era mezzogiorno e i raggi acuti del sole bruciavano la Libia quando esse furono accanto a Giasone e dolcemente gli tolsero il mantello dal capo lui stornò gli occhi da un'altra parte per rispetto alle idee ma esse si rivolsero all'eroe angosciato visibili a lui soltanto con queste dolci parole infelice perché farsi prendere tanto dalla disperazione sappiamo che siete andati alla conquista del vello d'oro sappiamo tutte le pene immense che avete sofferto vagabondando per terra e per mare noi siamo le idee solitarie parlanti le eroine figlie e protettrici della terra di Libia non restare più a lungo a gemere sveglia i tuoi compagni quando anfitrite avrà sciolto il rapido carro di Posidone allora pagate il vostro debito verso la madre per le pene sofferte portandovi tanto tempo nel ventre e in questo modo potrete ancora tornare alla sacra Grecia così dissero e là dove erano scomparvero subito assieme alla voce il figlio di Esone si guardò intorno si alzò a sedere per terra e parlò in questo modo siate propizie gloriose idee del deserto ma sul ritorno non capisco la vostra parola pure radunerò i miei compagni e gliela riferirò ma se trovassimo un segno che ci guidi nel viaggio è migliore il pensiero di molti disse e balzato in piedi chiamò a gran voce i compagni nero di polvere come il leone che per la foresta ruggisce cercando la sua compagna e dalla voce possente risuonano in lontananza le valli dei monti rabbrividiscono per la paura i buoi al lavoro nei campi e anche i mandriani ma ad essi non fece paura la voce del loro compagno che cercava gli amici si radunarono intorno a lui a testa bassa e lui così tristi li fece sedere assieme alle donne vicino all'approdo di Argo e disse loro ogni cosa ascoltatemi amici nella mia angoscia mi sono apparse tre idee vicino sulla mia testa come fanciulle coperte da pelli di capra che dall'alto del collo scendevano alla schiena e alle anche con mano leggera mi hanno scostato il mantello e mi hanno ordinato di alzarmi e di venire a chiamarvi dobbiamo rendere alla madre il giusto compenso per le pene sofferte portandoci tanto tempo nel ventre quando anfitrite abbia sciolto il rapido carro di Posidone io non riesco a comprendere il vaticinio di sé esse hanno detto di essere le eroine figlie e protettrici della terra di Libia e quanto abbiamo sofferto in passato per mare e per terra dicevano di conoscerlo punto per punto poi d'improvviso non le ho più viste in quel luogo una nebbia o una nube deve averle velate così disse e tutti quanti stupirono nell'ascolto e qui avvenne agli occhi dei mini il prodigio più grande dal mare a terra balzò un gigantesco cavallo mostruoso e levando in alto il collo con la criniera dorata scosse dalle sue membre i rivoli d'acqua salmastra e si lanciò nella corsa simile al soffio del vento subito Peleo disse liatamente ai compagni adunati vi dico che è questo il carro di Posidone che è stato ormai sciolto dalle mani della sua sposa e penso che nostra madre altri non sia che la nave essa ci ha tenuto sempre dentro il suo ventre e dunque geme per i dolorosi travagli solleviamola allora con forza tenace con spalle instancabili e trasportiamola nella terra sabbiosa dove il cavallo ha diretto i suoi passi non si immergerà nel deserto e le sue tracce ci guideranno nell'entroterra verso un golfo marino così disse e a tutti piacque il suo savio consiglio questo è il racconto delle muse e io lo canto servendo le muse ho udito una storia sicura che voi nobilissimi figli di re levaste in alto sulle vostre spalle con vigore e coraggio la nave e tutto ciò che era dentro e la portaste per dodici giorni e per dodici notti attraverso le dune deserte di Libia ma le pene e le angosce che patirono fino al colmo nella loro fatica chi mai potrà raccontarle veramente erano di sangue immortale tanto grande fu il compito che la violenta necessità li costrinse ad assumersi lontano lontano sempre portando la nave entrarono lietamente nelle acque del lago tritonide e la deposero dalle solide spalle si lanciarono come cani rabbiosi a cercare una fonte perché sarà giunta l'alida sete alla fatica e al dolore ma non cercarono in vano arrivarono alla sacra pianura dove ancora il giorno prima il drago nato dalla terra Ladone vegliava le mele d'oro nel regno di Atlante e intorno le ninfe e speridi svolgevano il loro ufficio intonando un amabile canto ma il drago appena colpito da Eracle era disteso presso il tronco di un melo e muoveva soltanto la punta della coda dalla testa alla nera spina dorsale giaceva senza respiro e dove le frecce avevano contaminato il suo sangue con la bile amara dell'itra di Lerna le mosche si dissecavano sopra le piaghe putride là accanto le speridi gemmevano forte celando la testa bionda dentro le candide mani si avvicinarono inaspettati al loro arrivo impetuoso le ninfe divennero polvere e terra Orfeo comprese il prodigio divino e a nome di tutti le pregò in questo modo siate propizie signore belle e benevole dee sia che voi siate nel numero delle dee celesti o delle dee sotterranee o ninfe abitatrici delle solitudini ninfe figlie del sacro oceano mostratevi a noi ed indicate alla nostra speranza un'acqua di loccia oppure una fonte divina che sgorghi da terra e possa placare la sete terribile ardente se mai torneremo navigando in terra di Grecia a voi tra le prime offriremo innumerevoli doni e li bagioni e conviti in testimonianza del nostro affetto così dissero pregandole con voce chiara subito quelle ebbero compassione dei loro dolori e per prima cosa fecero crescere erbe dal suolo e al di sopra dell'erba fiorirono verso l'alto lunghi virgulti e infine alberi fioriti si levarono ritti sopra la terra e spera divenne un pioppo e riteide un olmo egle il sacro tronco di un salice ma da quegli alberi apparvero nuovamente come erano prima immenso prodigio ed egle rispose con dolci parole agli uomini ansiosi un grandissimo aiuto nelle vostre pene vi ha dato quel cane che venne ad uccidere il serpente custode e portò via le mele d'oro lasciandoci acerbo dolore sì è venuto da noi un uomo d'orrendo aspetto e violenza brillavano gli occhi sotto la fronte spietata terribile era vestito della pelle di un enorme leone selvaggia neppure conciata portava un robusto tronco d'olivo e un arco con le frecce e uccise la belva anche lui che aveva percorso la strada a piedi era arso dalla sete e batteva a quei luoghi cercando l'acqua mai l'avrebbe trovata ma c'è una roccia presso il lago Tritonide per suo pensiero per consiglio divino colpì in basso col piede l'acqua sgurgò in abbondanza allora poggiate per terra ambo le mani ed il petto beve senza fermarsi dalla roccia spaccata fino a quando saziò il ventre capace disteso come una vacca nel pascolo così dissero corsero subito lieti là dove Egle aveva indicato la fonte agognata finché la trovarono come quando le operose formiche s'aggirono in massa attorno a un piccolo buco o come quando le mosche si precipitano insaziabili a frotta sopra una goccia di miele così tutti insieme gli eroi s'aggiravano attorno alla fonte rocciosa e qualcuno diceva contento con le labbra ancora umide ecco che anche lontano Erecle ha salvato i compagni arsi di sete oh se potessimo andare a cercarlo e ritrovarlo nel suo cammino attraverso questo paese disse e i compagni lo ascoltarono e quelli di loro che erano adatti si divisero andando chi qua chi là alla ricerca ma il vento notturno aveva sbosso la sabbia e cancellato le tracce partirono i figli di Borea fidando nelle ali ed Eufemo nei rapidi piedi e linceo che vedeva acuto e lontano e per quinto si mise in marcia con loro canto e gli era spinto per questa strada dal destino divino e dal proprio coraggio voleva sapere da Eracle dove aveva lasciato Polifemo figlio di Elato gli stava a cuore conoscere tutto sulla sorte del suo compagno ma quello dopo aver fondato un'illustre città della Misia ansioso di compiere il viaggio andò alla ricerca di Argo lungamente finché arrivò sul mare al paese dei Calibi e qui il destino gli diede a morte e gli innalzarono un tumulo sotto un grande pioppo poco lontano dal mare solo l'inceo credette di vedere Eracle in lontananza nella terra sterminata come si scorge pare di scorgere la luna annebbiata nel primo giorno del mese tornò dai compagni e disse loro che mai più nessuno degli uomini che cercavano Eracle avrebbe potuto raggiungerlo tornarono anche il rapido Eufemo e i due figli del tracce Borea dopo le vane fatiche ma te canto te le terribili care si presero in terra di Libia incontrasti un greggio al pascolo e dietro al greggio il pastore e questi per le pecore che tu volevi portare ai compagni affamati ti uccise con un colpo di pietra che non era avversario da poco Cafauro nipote di Feboli Coreo e di Acacallide la pudica fanciulla che il padre Minosse esiliò dalla Libia incinta del Dio e al Dio essa diede un figlio glorioso chiamato Amfitemide o Garamante e da sua volta Amfitemide si unì con una ninfa Tritonide che gli portorì Nasamone e il forte Cafauro che uccise Canto per difendere il greggio ma non sfuggì al duro braccio degli eroi quando seppero ciò che era accaduto presero il corpo che stava sfacendosi lo piansero e seppellirono e portarono con sé le pecore in quel giorno stesso il destino spietato si prese anche Mopso figlio di Ampico malgrado i suoi vaticini non scampò alla sorte funesta non c'è modo di evitare la morte sulla sabbia giaceva sfuggendo al calore del mezzogiorno un tremendo serpente ma pigro non voleva fare del male a chi non gliene faceva e neppure voleva attaccare chi fuggiva da lui ma una volta che il suo veleno toccasse una creatura vivente di quelle che nutre la terra feconda la strada dell'Ade diveniva per essere più breve di un cubito neppure seppione se posso dirlo con tutta franchezza venisse a curarlo appena il serpente l'avesse toccato coi denti quando Perseo simile a un dio o Eurimedonte così lo chiamava la madre volò sulla Libia per portare al re il capo appena tagliato della gorgone quante gocce del nero sangue raggiunsero il suolo tutte diedero vita alla stirpe di questi serpenti mopso mettendo avanti il piede sinistro gli urtò la coda sulla spina dorsale quello torcendosi per il dolore gli morse la carne tra tibia e muscolo Medea tremò e assieme a lei le sue ancelle ma lui compresse arditamente il sangue della ferita che non gli dava un grande dolore infelice già sotto la pelle si insinuava il letargo mortale e fitta calava sopra i suoi occhi la nebbia subito senza speranza riclinò al suolo le membre pesanti e fu freddo attorno a lui si adunarono i compagni e il figlio di Esone stupiti alla grave sventura morto neppure un momento doveva restare a giacere nel sole perché dentro il veleno sfaceva le carni e i peni marciti cadevano via dalla pelle subito con le vanghe di bronzo scavarono una fossa profonda si tagliarono essi e le donne i capelli piangendo il triste destino del morto e tre volte girarono in armi attorno al cadavere secondo il rito e lo coprirono sotto la terra poi salirono sulla nave già che noto soffiava sul mare e cercavano di trovare una via per uscire dal lago tritonide ma non la trovarono e per tutto il giorno andavano avanti alla cieca come un serpente attorto avanza per un cammino sinuoso quando più acuti bruciano i raggi del sole e con un sibilo volge il capo di qua e di là e i suoi occhi lampeggiano furiosi come scintille di fuoco finché si infila in un buco per la fessura del suolo così la nave Argo cercando un valico vagava per lungo tempo allora il figlio di Eagro ordinò di portare fuori il grande tripode di Febo Apollo e offrirlo in dono agli dei del luogo per un felice ritorno e così scesero a terra e vi collocarono il dono di Apollo e venne loro incontro simile a un uomo nel fiore degli anni il forte Tritone e prendendo da terra una zolla la offrì agli eroi come dono ospitale e parlò in questo modo accettatela amici qui non ho dono migliore da offrire ai miei ospiti se voi cercate un passaggio per questo mare così come spesso gli uomini che navigano in una terra straniera ve lo dirò me ne ha fatto esperto mio padre il dio Posidone io regno sul Lido e forse avete sentito parlare pur vivendo lontano di Euripilo nato in Libia nutrice di fiere disse e prontamente Eufemo stese le mani alla zolla e rispose a sua volta queste parole eroe se tu conosci il Peloponneso e il mare di Creta rispondi il vero alle nostre domande non per nostro volere siamo venuti qui ma sospinti ai confini di questo paese dalle tempeste di Borea abbiamo portato sulle spalle la nave attraverso il continente fino alle acque del lago siamo sfiniti e non sappiamo dov'è il passaggio alla terra di Pelope così disse e Tritone stese la mano e indicò loro in lontananza il mare e la bocca profonda del lago e si rivolse agli eroi in questo modo il passaggio è laggiù dove l'acqua è nera profonda ed immobile da ambo le parti si levano candidi e alti marosi in mezzo ad essi è uno stretto cammino che porta di fuori là oltre Creta si stende il mare nebbioso fino alla terra di Pelope ma quando dal lago sarete usciti nel mare dirigetevi a destra e tenetevi stretti alla terra finché risale poi quando piega dall'altra parte vi si apre un viaggio sicuro dopo che avrete passato il promontorio ma ora andate e siate pure tranquilli non c'è fatica che possa fiaccare membra floride di giovinezza così disse Benigno e gli dei si imbarcarono subito desiderosi di uscire a forza di remi dal lago già si muovevano con ogni slancio quando Tritone prese il grande tripode e parve immergersi nel lago più nessuno lo vide quando scomparve rapidamente insieme col tripode e il loro cuore fu lieto ad avere incontrato un dio benevolo e invitarono Giasone a sacrificargli la più bella pecora pregando e subito Giasone la scelse la sollevò stando a poppa e la sgozzò e al sacrificio aggiunse questa preghiera Dio chiunque tu sia che ci sei apparso sulle rive del lago ti chiamino col nome di Tritone prodigio marino o di Forco o di Nereo le figlie dell'acqua sii propizio e dacci il ritorno che il nostro cuore desidera disse e pregando gettò alla poppa la bestia sgozzata allora il dio uscì dal profondo con la sua immagine vera e come un uomo guida un cavallo veloce nel vasto stadio tenendolo docile per la folta criniera e corre mentre il cavallo lo segue superbo sollevando la testa e tintinna il ferro lucente nella sua bocca quando lo addenta agli estremi così il dio prese al fondo la concava nave e la spinse avanti nel mare il suo corpo dall'alto capo lungo il dorso e i suoi fianchi e fino al ventre era simile agli immortali nell'aspetto meraviglioso ma al di sotto dei fianchi si allungava una coda a due punte di mostro marino e colpiva la cima dell'acqua con le spine dorsali che in punta si dividevano in curvi uncini come le corne lunari portò la nave fino a spingerla sulla rotta del mare poi si inabissò nel profondo gli eroi gridarono vedendo compiersi coi propri occhi lo strano prodigio qui sta il porto di Argo e della nave rimangono tracce qui sono gli altari di Posidone e Tritone poiché in quel giorno si fermarono là ma verso l'aurora corsero a vele spiegate al soffio di Zefiro tenendo sempre sulla loro destra il deserto il mattino seguente giunsero a scorgere il capo e al di là del capo i recessi del mare all'improvviso Zefiro cadde e sopravvenne il soffio di Argeste gli eroi ne furono lieti ma al tramonto del sole quando spuntò la stella serale che porta il riposo ai contadini stanchi e il vento cadde nell'oscurità della notte allora ammainarono le vele e reclinarono l'albero e si piegarono con ogni forza sui remi e remarono per tutta la notte ed il giorno e ancora la notte seguente lontano li accolse la rocciosa Carpato di là stavano per traversare a Creta l'isola che più di tutte si trova a largo del mare ma Talos l'uomo di bronzo scagliando pietre da una solida roccia impedì di gettare a terra le gomene quando furono giunti al porto di Teo era questi il solo rimasto dei semidei della razza di bronzo che era nata dai frassini e Zeus l'aveva dato ad Europa come guardiano dell'isola che percorreva tre volte coi piedi di bronzo di bronzo infrancibile era tutto il suo corpo e le membra ma sulla caviglia al di sotto del tendine aveva una vena di sangue e la copriva una sottile membrana che era per lui vita e morte benché fossero sfiniti dalla fatica gli eroi spaventati allontanarono a forza di re e mi la nave dalla spiaggia dell'isola e certo miseramente sarebbero fuggiti soffrendo la sete e le pene ma al momento della partenza Medea disse loro datemi ascolto io credo di potere da sola uccidervi quell'uomo chiunque sia anche se ha il corpo di bronzo purché non abbia vita instancabile ma voi fermate la nave qui piano in modo che resti fuori dal tiro delle sue pietre finché mi abbia ceduto e io l'avrò vinto così disse e gli eroi remando portarono fuori tiro la nave aspettando quale piano segreto mettesse in opera e la tirò sulle gote da ambo le parti l'embi del peplo porpureo e salì sul ponte la teneva per mano passando attraverso i banchi il figlio di Esone qui invocò e si propiziò con gli incantesimi le care mortali le cagne veloci dell'ade e si aggirono per tutto l'etere dando la caccia ai viventi tre volte le supplicò tre volte le evocò con gli incantesimi tre volte con le preghiere e creandosi un cuore malvagio ammaliò con occhi nemici gli occhi dell'uomo di bronzo e digrignando gli mandò controbile malefica e orribili immagini nel suo tremendo furore Zeus padre un grande stupore invade il mio animo se la morte non giunge soltanto con le malattie e le ferite e qualcuno anche lontano può farci del male così come Talos pur essendo di bronzo cedette al potere di Medea signora dei filtri mentre alzava rocce pesanti per bloccare l'approdo urtò la caviglia su uno spuntone di pietra e colò licore simile a piombo fuso non fu più capace di reggersi in piedi sullo scoglio sporgente come un grandissimo pino in alto sui monti che i tagli a legna hanno lasciato reciso a metà dalle scure affilate scendendo dalla foresta e nella notte da prima i venti lo scuotono poi si stacca dal ceppo e precipita così per poco Talos restò barcollante sui piedi infaticabili poi crollò senza forze con un immenso frastuono quella notte gli eroi dormirono a Creta ma quando sorsero le prime luci dell'alba costruirono un tempio in onore di Atena cretese fecero provvista d'acqua e si imbarcarono per doppiare al più presto a Remi il capo Salmonide mentre correvano il vasto mare di Creta li spaventò la notte che il poeta dice funesta la notte tremenda che non penetravano gli astri nei raggi di luna un nero abisso caduto dal cielo o una tenebra sorta dai recessi profondi neppure sapevano se navigavano sopra le acque o nel regno dei morti ed affidavano al mare il loro ritorno disperati senza capire dove li stava portando ma Giasone alzò le mani e invocò Febo a gran voce chiedendogli di salvarli e piangeva angosciato promise che avrebbe portato innumerevoli doni ai santuari di Pito di Amicle di Ortigia tu l'ascoltasti figlio di Leto e scendesti dal cielo agli scogli melanzi che sorgono in questo mare e balzato alla cima di una delle rupi con la destra levasti in alto l'arco dorato che diffuse dovunque un chiarore fulgente apparve ai loro occhi una piccola isola delle sporadi poco distante dall'isoletta di Puride gettarono qui le ancore e si fermarono presto l'aurora tornò a risplendere gli eroi consacrarono un bel santuario ad Apollo nel bosco ombroso e un altare ombreggiato dando al dio il nome di Eglete cioè luminoso il ricordo della luce che li aveva guidati l'isola impervia la chiamarono Anafe o luogo d'apparizione perché Apollo l'aveva mostrata a loro in mezzo all'angoscia fecero i sacrifici che si possono fare in una costa deserta ma le ancelle feace della figlia di Eta quando li videro livare acqua sopra i tizioni ardenti non trattennero il riso loro che spesso avevano visto nella regia di Alcino sacrificare dei bovi gli eroi allegri per quello scherzo le rimbeccarono a male parole s'accesse tra loro un blando motteggio uno scherzoso litigio in memoria del gioco degli eroi ancora oggi le donne dell'isola scherzano allo stesso modo con gli uomini quando si compiono i sacrifici in onore di Apollo e Glete il protettore di Anafe quando sciolsero di là le cime con un tempo tranquillo Eufemo si ricordò di un sogno avuto di notte per rispetto del figlio illustre di Maya gli era sembrato che la zolla divina che teneva sul seno si bagnasse di candide gocce di latte e dalla zolla pur così piccola ecco nasceva una donna una fanciulla ed egli si univa con lei colpito da desiderio grandissimo poi si pentiva come d'aver posseduto sua figlia nutrita con il suo latte ma essa lo confortava con queste dolci parole mio caro io sono nata da Tritone e sono nutrice dei tuoi figli e non già tua figlia i miei genitori sono Tritone e la Libia tu lasciami con le nereidi a vivere in mare presso Anafe verrò alla luce del sole più tardi e sarò pronta ad accogliere i tuoi discendenti Eufemo si ricordò di questo in cuor suo e lo disse a Giasone e lui richiamando alla mente i vaticini di Apollo il dio signore dei dardi così gli rispose mio caro certo una grande splendida gloria ti tocca in sorte se cetti in mare la zolla gli dei ne faranno un'isola dove vivranno i tuoi nipoti più giovani già che Tritone ti ha dato in dono ospitale questo pezzo di terra libica lui te l'ha data e nessun altro dio quando l'abbiamo incontrato così disse ed Eufemo non trascurò la risposta del figlio di Esone ma lieto del vaticinio scagliò nel profondo la zolla e sorse da questa l'isola detta Calliste o bellissima sacra nutrice dei figli di Eufemo essi prima abitarono Lemno la terra dei Sinti poi quando i Tirreni li ebbero espulsi da Lemno giunsero supplici a Sparta più tardi lasciarono Sparta e il nobile figlio di Autesione Terante li guidò verso Calliste e l'isola prese un nuovo nome da te Terante ma questo avvenne ben dopo i tempi di Eufemo partiti di là attraversarono come volando il mare immenso e approdarono alla spiaggia di Egina e qui nel fare provvista d'acqua si impegnarono in una gara leale chi primo lo attingeva e la portava alla nave li incalzavano insieme il bisogno e un vento impetuoso là ancora oggi caricandosi in spalla le anfore colme i figli dei Mirmidoni si sfidano gli uni con gli altri nelle gare di corsa siate propizi eroi figli degli immortali e questo mio canto possa di anno in anno essere sempre più dolce agli uomini eccomi giunto al termine illustre delle vostre fatiche giacché nessun'altra vi toccò dopo che foste partiti da Egina non sorse nessuna tempesta di vento tranquilli e sicuri costeggiaste la terra Cecropia e quella di Aulide di qua dell'Eubea e le terre dei Locresi o Punzi e lietamente sbarcaste alla riva di Pegase aulide di aulide di aulide aulide di